bene signori per cortesia accomodatevi buonasera buonasera a tutti chiedo al segretario se c'è il numero legale c'è il numero legale dichiaro aperta la seduta del consiglio comunale nomino scrutatori per la seduta orsola chieradia alessandro sperotto giuseppe perrone risulta assente il consigliere tavella non ho comunicazioni di ritardi comunico che i sensi dell'articolo 30 del regolamento del consiglio comunale verbale a seduta precedente messo a disposizione i consiglieri anche in formato digitale e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni il verbale si intende approvato senza votazione allora vi comunico le decisioni prese in conferenza presidenti dei gruppi consigliari per quanto riguarda l'ordine dei lavori inizieremo con l'esame della proposta di deliberazione riguardante la surroga del consigliere di missionario giovanni del ben con la signora sofia solarino dopodiché esamineremo le tre interrogazioni anzi due interrogazioni perché manca un proponente consigliere tavella e poi passeremo all'esame delle proposte di deliberazione al numero 4 e la numero 5 fino al loro esaurimento si rimarrà del tempo poi esamineremo le emozioni e i lavori si chiuderanno da 22 30 salvo la necessità di proseguirli per le deliberazioni pertanto prima di passare alle comunicazioni del sindaco direi di passare alla delibera di surroga del consigliere del ben bene allora passiamo all'esame della proposta di deliberazione numero 3 2016 surroga consigliere di missionario signor giovanni del ben con la signora sofia solarino non so se l'assessore marzer deve intervenire ma non credo ci sia necessità di dire nulla comunque devo seguire la procedura dichiaro aperta la discussione nessuno iscritto passiamo pertanto al secondo intervento credo che nessuno si iscriverà passiamo alle dichiarazioni di voto nessuno iscritto bene dichiaro chiuse dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione silenzio per cortesia pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 3 2016 surroga consigliere di missionario signor giovanni del ben con la signora sofia solarino dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito da votazione seguente presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 31 contra nessuno astenuti nessuno la deliberazione è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto non ho capito no scusi ma lei scusi la tessera quando l'ha inserita prego ah non c'era la tessera inserita mettiamo a verbale mettiamo a verbale che sì allora consigliere l'operfido dichiara di che avrebbe votato a favore della delibera se avesse potuto ma la tessera non era inserita correttamente bene mettiamo allora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione seguente presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 32 contrari nessuno astenuti nessuno la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile invito la consigliera solarino a entrare nell'emiciclo adesso qualche minuto perché devono aggiornare il sistema operativo sistema operativo Grazie. Grazie. È un po' irrituale ma prego. Buonasera, grazie Presidente. Sono un po' emozionata, lo dico. Volevo ringraziare Giovanni Del Ben che purtroppo stasera qui non vedo per avermi dato questa possibilità qui che sento come una grande responsabilità anche se ormai siamo arrivati a fine consigliatura. Se mi è permesso fare un brevissimo discorso che vorrebbe prendere spunto dallo stemma della città di Pordenone. Le due porte aperte sul mare Adriatico, due porte aperte che significano apertura, quindi dialogo, quindi confronto, quindi scambio e due porte aperte che significano anche accoglienza. Un altro aspetto, questo stemma rimanda al rapporto simbiotico che questa città ha o dovrebbe avere con il proprio fiume. Mi sento di ringraziare questa amministrazione perché dopo tanti anni, forse troppi, finalmente si è avviato un percorso di riavvicinamento al fiume Noncello. Mi si scusi anche questa parentesi che può peccare di autoreferenzialità ma la motivazione è un'altra. Vorrei ringraziare in questa sede anche chi in tutti questi anni ha condotto una battaglia in prima persona, guidato soltanto dall'entusiasmo e dalla passione per questo fiume e per la sua città. Una battaglia che ha portato all'abrogazione del regio decreto del 1938 e una battaglia grazie a cui la scorsa primavera e estate, anche la prossima primavera e estate, a molti cittadini pordenonesi ma anche del territorio circostanti, sarà data la possibilità di navigare per un breve tratto del fiume Noncello attraverso un'imbarcazione che ha trovato molte opposizioni negli anni passati ma è un'imbarcazione che è stata appositamente comprata e acquistata per le sue caratteristiche di ecocompatibilità. Questo per dire anche che i cittadini che si impegnano per il bene di questa città, esclusivamente guidati dall'amore, dalla passione e dall'entusiasmo, sono tanti, e un'amministrazione ha anche il compito di valorizzare il loro impegno. Grazie. Grazie consigliera. Consiglio Piccinato. Grazie Presidente. Volevo fare anche io il mio comizio elettorale. Ci può? No, cosa deve dire, scusi consigliere? No, niente, volevo fare anche io il comizio. No, allora grazie. Passiamo alle comunicazioni del Sindaco. Prego signor Sindaco. Ci sono comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti voi. Io volevo condividere un breve ricordo di Giulio Reggeni che penso sia stato nel nostro cuore durante la scorsa settimana, nel cuore di tutti noi. Due momenti credo che debbano essere ricordati. Sui giornali è stato scritto moltissimo, voi avete seguito sicuramente la vicenda, la stiamo ancora seguendo. Voi sapete che Giulio Reggeni aveva avuto un momento di presenza, diciamo, nella nostra città, partecipando nel 2012 e nel 2014 a quei, chiamiamoli, eventi organizzati dall'IRSE, quindi dalla Casa dello Studente, col titolo Europa Giovani. Nel 2012 aveva parlato proprio, Giulio, visto che già da allora aveva una grande attenzione per i due paesi simboli, diciamo, di quella che è stata definita, o almeno questo è il termino ancora utilizzato, primavera araba, cioè la Tunisia e poi l'Egitto, aveva approfondito in un breve scritto, di soli cinque pagine, tracciando, se lo leggete oggi rimarreste, se volete poi le distribuisco, piuttosto colpiti per le cose che una persona così giovane si torna indietro, lui era dell'88, quindi poteva aver intuito di come si sarebbe evoluta poi la situazione in questi paesi e del fatto del suo disperato appello verso l'Europa, o verso i suoi coetanei, verso quello che volete voi, insomma, verso la parte politica, perché la leadership europea fosse presente e equilibrata rispetto agli avvenimenti che poi si sono succeduti. Cosa, credo, sotto i nostri occhi, ancora ampiamente irrisolta. L'altro scritto del 2014, invece, guarda un altro tema che ci è stato caro nell'ultimo periodo, quello dei beni comuni, e quindi facendo una disamina, diciamo, dell'evoluzione dell'economia, del liberalismo sfrenato, fa questa specie di equazione tra questo e la necessità che i beni comuni vengano gestiti in modo diverso. Adesso io ho fatto una supersintesi, ma lo scritto è molto interessante perché ha una frase che mi permetto di leggervi, se riesco ad entrare, che dice, aveva usato come, per, diciamo, iniziare il suo scritto, ma sembra una frase che sia forse più da riferire allo scritto precedente, queste due parole, il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, e in questo chiaroscuro nascono i mostri. È una frase di Antonio Gramsci che lui aveva poi sviluppato, però in un certo senso, voi capite che sembra quasi che poi veramente i mostri lui li abbia incontrati sul serio, no? Morendo torturato e massacrato in Egitto. io sono stato al funerale a Fiumicello e devo dire che, come ho sottolineato in un incontro pubblico che ho avuto subito dopo qui a Pordenone, la sobrietà di quell'evento con così tanta gente, senza stampa, senza televisione, aveva visto la testimonianza dei suoi amici, tutti giovani, di tutto il mondo, voi sapete che è stato un incontro che ha avuto due lingue come svolgimento, è stato in realtà di una energia e di una, non so, è brutto dirlo, positività in un momento così tragico, ma insomma in un momento collettivo, ecco, collettivo di memoria e di condivisione di valori veramente unico. Volevo chiedervi quindi di avere un minuto di silenzio presidente e di chiederlo alla sala consigliere. Osserviamo un minuto. Grazie. 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 Prego, sulle comunicazioni del sindaco immagino. Prego. Dopo quello che ha detto il sindaco non c'è assolutamente niente da aggiungere. Credo che se una giunta va fatta potrebbe essere ecco qua sì potrebbe essere questa sia perché Giulio Regeni è un nostro allora tento di riprendere sì non ci sono aggiunte da fare su quanto ha detto il sindaco dicevo per la terza volta ma evidentemente qualcuno non ha sentito che non ci sono molte aggiunte da fare se non una proposta io credo che l'amministrazione comunale di Pordenone potrebbe ricordare dovrebbe ricordare Giulio Regeni un po' perché abitava nella nostra regione e questo già sarebbe un elemento significativo non distante da qua infatti il sindaco ha partecipato appunto alle esequie a Fiumicello non sapevo di questa presenza Pordenone di Giulio Regeni ma mi sembra significativa del resto l'IRSE da tempo invita persone importanti a suo modo sicuramente Giulio lo era proprio per tenere vivo questo dibattito sull'Europa ma in rapporto al mondo naturalmente in questo caso il rapporto al Mediterraneo faccio due proposte rapidissimamente una potrebbe una potrebbe essere quella di dedicare le modalità poi le sceglierà la giunta un luogo potrebbe essere anche il chiostro della biblioteca di Pordenone a Giulio Regeni perché dico questo? perché li conosco personalmente li frequento la biblioteca la biblioteca non è solo un luogo di riflessione culturale è un luogo di aggregazione giovanile come tutti ormai sanno e molti dei giovani che sono partiti da Pordenone molti che stanno partendo da Pordenone molti che partiranno è prevedibile da Pordenone hanno frequentato proprio quel luogo e se devono ritornare a trovare i loro amici è molto probabile che scelgano come punto di incontro proprio la biblioteca del resto lo facciamo tutti e credo che lo facciano a maggior ragione i giovani ripeto ne conosco personalmente molti di questi e questa è una proposta la seconda un po' più complicata di questa ma nasce sempre dalla volontà in qualche modo di ricordare di non lasciare che questi messaggi in fondo vadano perduti nel 2010 l'allora amministrazione aveva organizzato proprio un incontro tra giovani che venivano da tutto il mondo che sono venuti da tutto il mondo ne sono venuti poco più di una ventina è stato un avvento importante io credo per la città perché abbiamo fatto memoria a tutti a noi stessi da prima ma a tutti quelli che hanno voluto ascoltarci che molti giovani io credo certamente anche perché un tipo di lavoro che a loro in qualche modo pareva di dover raggiungere non c'era qui a Pordenone ma anche semplicemente perché molti di questi giovani si sentono cittadini non dico di Europa dico del mondo ormai le cose stanno in questi termini e noi non dobbiamo ne ramaricarsi ne giuire dobbiamo prendere atto di questa realtà ma prendere coscienza far prendere coscienza alla città ripeto una ventina o poco più di giovani sono venuti hanno incontrato gli alunni del quarto e quinto anno delle scuole medie superiori di Pordenone che hanno aderito a questo progetto hanno incontrato gli industriali devo dire che non c'erano grandi speranze rispetto a questo che qualcuno potesse ritornare il caso ha voluto la sorte o non so che cosa naturalmente che effettivamente uno è tornato uno è tornato un giovane è tornato e lavorava allora col di Boston oggi lavora all'Eurotech a Amaro l'attività come sapete di Siagri molto importante è una industria se così si può camare che ha dimensioni mondiali ha relazioni mondiali è più complessa dell'altra della prima proposta che ho fatto credo che bisognerebbe tenerla presente non è una come dire organizzare una cosa del genere non è una cosa che si fa in pochi mesi naturalmente ma credo che come dire chi verrà dopo questa amministrazione possa e debba tenerla presente è una cosa che non dico ogni anno perché questo è eccessivo ma sicuramente con intervalli di qualche anno potrebbe essere utilmente riproposta ripeto per fare memoria di questi giovani per rendere cosciente la città di questa dimensione importante al di là degli elementi individuali che ci sono questi hanno evidentemente ancora dei genitori che presso cui ritornano con una certa come dire a intervalli regolari ma la dimensione della comunità è tutta un'altra cosa grazie grazie consigliere consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente beh anche il nostro gruppo non può che associarsi al ricordo di questo di questo sfortunato ragazzo di questo nostro corregionale che è stato trucidato in questa maniera così barbara ecco io credo che come molti come molti credo che piena luce debba essere ancora fatta sulle modalità di esecuzione quindi sul coinvolgimento sul coinvolgimento appunto eventualmente del governo di quel paese credo che forse piena luce debba anche essere fatta su quello che era il ruolo il ruolo vero svolto da Regeni in quel paese quindi ecco credo che ancora qualche cosa ci sarà da scoprire nel ne proseguo chiaramente quando succedono fatti di tale gravità credo che tutto tutto lasci il passo tutto ti lasci il posto a ragionamenti di altro tipo per quanto riguarda la proposta formulata dal collega che mi ha preceduto ecco io ritengo che sia necessaria un'attenta valutazione dei fatti perché chiaramente è una persona il nostro corregionale quindi non mancherebbe altro di fronte a certo tipo di accadimenti ritengo che ci siano delle norme che vanno seguite ritengo che l'amministrazione sappia benissimo quelle che sono le norme che devono essere seguite ci sono purtroppo dico purtroppo tanti altri parecchi altri diciamo persone che hanno subito un trattamento diciamo che magari è anche meritorio di essere ricordato magari non tutti sono nostri corregionali però ecco ritengo che debba esserci un'attenta valutazione della parte dell'amministrazione prima di accogliere una richiesta di tal tipo ecco questo mi sentivo di dire mi sentivo di associarmi a ricordo di Regeni per quello che è successo ritengo sia necessario fare piena luce e invito l'amministrazione a valutare con attenzione a seguire quelle che sono le norme previste in materia e anche quello che diciamo certo sembra brutto dirlo sindaco dico una cosa brutta direi tra virgolette un ordine di priorità non vorrei non vorrei che l'emozione del momento lasciasse il posto a quella che deve essere magari una lucida valutazione per quanto possa essere lucida in casi come questi di quello che sono diciamo delle idee delle intitolazioni perché è qualcosa che deve coinvolgere l'intera città l'intera collettività quindi per carità dopo aver ottenuto tutte le informazioni aver fatto tutte le valutazioni del caso ecco invito l'amministrazione a seguire le norme che già ci sono grazie grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie grazie presidente condivido in pieno l'intervento del collega Ribetti faccio anch'io appunto le doverose insomma il doveroso rimpianto del nostro corregionale ritengo che sia necessario anche fare un'azione forte da parte dell'Italia per pretendere che venga fatta luce che quindi su quanto di terribile è stato fatto e che quindi l'Italia si dia una mossa come in questo caso come anche in altri casi che magari sono accaduti in India che magari non hanno fatto vittime ma che comunque rendono il nostro paese un po' alla mercè delle ingiustizie degli altri paesi nei momenti in cui possono farlo senza sapendo di non avere una risposta forte da parte del nostro paese ritengo anch'io come collega che serve a fare un'attenta valutazione prima di intitolare qualsiasi tipo di cosa a conterranei perché a questo punto conterranei nostri in giro per il mondo che vengono assassinati che vengono torturati che spariscono che ce ne sono tantissimi e credo che a quel punto non si avrebbe mai una priorità una fine o un tipo di giustizia sociale da quel punto di vista quindi credo che serva un'attenta valutazione da questo punto di vista e auspico davvero che ci possa essere pace per la famiglia per gli amici che sappiano la verità nel nome di questo ragazzo che è stato davvero sfortunato e che probabilmente nulla aveva fatto perché gli accadesse questa tragica fine grazie grazie consigliere consigliere manzoni grazie presidente allora a fianco al cordoglio io penso che sia importante anche segnalare il fatto che la proposta del collega Coloni proiettava in avanti la scelta dell'amministrazione quindi correttamente mi sembrava dicesse teniamone conto nel momento in cui si inserirà la nuova amministrazione quindi un po' i fatti saranno chiari e conclamati per quello ecco che di cui sono conoscenza io per quello che si riesce a sapere ecco fino adesso in maniera ancora parziale di quella che è stata l'esistenza l'attività di questo ragazzo secondo me quello che si può pensare è che come tanti altri giovani che si occupano dei destini altrui perché non dimentichiamo che non era in Egitto per conto proprio ma era in Egitto inserito all'interno di un paese nel quale tante incertezze ancora esistono proprio sulle libertà individuali sulle attenzioni che devono essere lasciate tutti i cittadini io ritengo che una proposta che mi sembra coerente con quella che proponeva il collega Coloni potrebbe essere anche questa la discrezione con la quale questi ragazzi si inseriscono in mondi anche lontani mi fa pensare che forse piuttosto che dedicargli magari l'atrio o qualcosa di importante io vedrei più coerente con l'attività di questi ragazzi un po' sparsi per il mondo sempre orientati agli altri dedicare eventualmente una postazione di studio facendo in modo che all'interno della biblioteca ci sia un posto proprio eventualmente se si può prendere in considerazione questa proposta sia dedicato a lui una persona che con lo studio immaginava di poter cambiare le cose ce ne sono tanti di giovani che hanno questo tipo di idealità quindi un'attenzione particolare ma anche per la discrezione con la quale a me sembra abbia affrontato le cose del mondo quindi se si può tener conto di questo suggerimento lo si faccia grazie perché scusate allora ripeto un po' quello che dicevo dicevo che secondo me per il tipo di intento che aveva animato questo ragazzo di Fiumicello a me sembra più coerente immaginare che a lui possa essere dedicato un posto che mantiene tutta la sua importanza per quello che lui aveva dedicato agli altri non a se stesso naturalmente quindi un tentativo di dedicare con discrezione una delle postazioni di studio all'interno della biblioteca cioè fare in modo che non diventi un caso eccartante ma diventi un esempio per tanti altri giovani che vogliono poi interessarsi e i destini degli altri lo fanno in maniera disinteressata dicevo anche all'inizio che era importante considerare che la proposta del collega Coloni era proiettata in avanti quindi nel momento in cui si conoscerà la vera storia che a noi sembra di intuire per le informazioni che abbiamo fatte in questo modo ecco si sia attenti anche alla sua volontà di manifestarsi per mondi altrui in maniera disinteressata quindi io trovo che diventi uno stimolo anche per altri ragazzi guardare con discrezione che il piccolo che si può dare non è una grande cosa ma è sempre una cosa importante per gli altri quindi correggevo in qualche maniera se ne può tener conto io penso sia importante grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego ma io sono si sente ma la questione che pone lei consigliere Collaoni è una questione importante forse se lo fa io so che lei è una persona per bene e quindi ha meditato prima di farla tant'è che non parla a caso in quest'aula parla poco e quando parla dice delle cose pur tuttavia su questa vicenda penso che nessuno qui dentro sappia esattamente perché non lo sanno le nostre autorità non lo sa il mondo dell'informazione in quale viviamo c'è ancora molta incertezza opacità nelle informazioni se non una cattiva coscienza tipicamente lo fa anche con me cattiva coscienza tipicamente italiana secondo la quale è presto ed è facile davanti a episodi di questo tipo che hanno una sua singolarità ma io non vorrei ricordare la vicenda delle due Simone piuttosto che altre vicende che si sono concluse diversamente tipo il caso della sgrena ad esempio dove lì è chiaro ed è stato chiaro nella storia di questo paese nella storia recente di questo paese che la cattiva coscienza stava proprio perché gli italiani o l'Italia coltivava sempre sogni imperialisti per cui di fatto amica di qualche tiranno in giro per il mondo così in Medio Oriente così in Egitto piuttosto che da altre parti la vicenda che lei ha posto sulla titolazione di qualcosa a questo giovane al quale evidentemente noi non possiamo che esprimere lui e alla sua famiglia un sincero cordoglio per quello che è successo perché è stato quanto pare vittima di una tortura assolutamente ingiustificata egli evidentemente voleva portare comunque cosa che ha a che fare con il dialogo tra le persone tra le culture però però c'è un dato che è facile per una certa cultura di questo paese politica trovare sempre gli argomenti attraverso i quali si costruisce il martile al di là di ciò che effettivamente è perché nessuno lo sa in questo momento ecco caro Colaoni se tu hai avuto un'esperienza personale ce lo spiegherai ce lo dirai nei prossimi giorni ci spiegherai meglio quello che hai in testa rispetto a quanto proponi oggi perché se no devo capire che si tratta di una posizione legata così al momento all'enfasi perché allora in ogni comune di questa in questa regione dovremmo titolare dedicare qualcosa perché realmente è questo il punto nei confronti di questo nostro giovane corregionale termine odiosissimo per carità però così è odioso perché è corregionale mi vengono in mente i corregionali all'estero però questo è per cui noi siamo amici dei trivellatori dall'ENI e quindi facciamo parte di quella cattiva coscienza tipicamente italiana che pensa che l'Italia debba esercitare un ruolo nel mondo e che probabilmente questo non è proprio lo stesso modo di pensare di chi scrive sul manifesto scrive sul diario di De Aglio e quindi assume una connotazione ben precisa da qui all'essere martiri ad essere altre cose beh allora degli esempi purtroppo è piena la storia di ogni giorno di queste vicende ci sono 33 atti di guerra nel mondo e ci sono giovani che hanno anche nella nostra regione situazioni rispetto alle quali certamente non c'è questa attenzione purtroppo che questo ragazzo si è trovato suo malgrado a dover ricevere sulla sua persona grazie chiudo caro sindaco lei ha citato un passo prima di Gramsci ci ha rappresentato in un modo ancora una volta assolutamente incomprensibile ciò che vuole fare perché francamente se lei è stata al funerale a Fiumicella noi ne siamo tutti convinti però nel momento in cui apre la seduta con una commemorazione in questo modo senza fornire indicazioni contestualizzate allora è chiaro che lei fa parte di un sistema di propaganda come tutti gli altri come la signora come la signora Serracchiani quando allo stadio utilizza ancora una volta perché vostro e questo il vostro modo il vostro linguaggio utilizza questa vicenda per ottenere una ola da stadio bene grazie consigliere consigliere Freschi prego grazie presidente e voglio innanzitutto innanzitutto si sente? voglio innanzitutto associarmi alle parole di cordoglio espresse dal sindaco in apertura e vorrei portare il consiglio ad una riflessione non dividiamoci su queste cose non mi pare che sia nel momento nel luogo nel momento storico in cui noi dovremmo dividerci su questo il consigliere Colaoni ha fatto un passaggio che ritiene opportuno portare all'attenzione del consiglio e che va rispettato i contorni di questa vicenda li conosceremo forse più avanti o forse non li conosceremo mai come tante situazioni della storia che ci hanno dimostrato non essere mai chiare e riportate alla vera luce io penso però che tutti noi questa sera dovremmo essere accomunati da un fatto che queste che Giulio Regeni Valeria Solesin sono vittime della violenza di una violenza che non ha nome che non ha connotati ma che esprime solo barbarie e questo ci deve accomunare tutti noi questa sera condanniamo quella violenza anche se non ne conosciamo conosciamo perfettamente i contorni e le derivazioni e di fronte a questo il consiglio comunale deve sentirsi unito questi sono i figli della nostra generazione sono i figli dell'Erasmus sono i figli che abbiamo mandato in giro per l'Europa a studiare e a confrontarsi con altre realtà e che stanno portando avanti il loro lavoro di ricerca di dottorato di approfondimento di studio in varie realtà in cui sono chiamati a operare e su questo noi dobbiamo essere accomunati sono i nostri figli che in qualche modo ci rappresentano nel mondo e sono stati vittime della violenza questa è l'unica cosa sulla quale noi dobbiamo sentirci uniti e non dobbiamo introdurre elementi di divisione ritengo che questo sia l'unico passaggio che vada in qualche modo sottolineato e su questo fermo il mio intervento perché non penso ci sia null'altro da aggiungere grazie grazie consigliere Freschi bene seguendo l'ordine dei lavori deciso in commissione presidenti passiamo alle interrogazioni le interrogazioni all'ordine del giorno sono tre la prima presentata dal gruppo misto oggetto quale futuro della struttura di via selvatico premesso che la ex scuola materna via selvatico chiuso nell'ultimo anno dalla giunta a Bolzonello con l'assessore Collaoni già con l'assessore al bilancio dottoressa Migno la struttura era stata posta in vendita come patrimonio comunale da dismettere poiché oneroso il costo è inimpensabile la reconversione ad uso istituzionale che dopo le varie avventure subite dai ragazzi alla panchina dopo la decisione del proprietario della casa di via le Grigoletti di porre in vendita la casa dove l'azienda sanitaria pagava loro l'affitto dato che la regione aveva stanziato dei soldi per la compravendita di una casa per i ragazzi stessi chiedo 1 quale è la valutazione economica della struttura ad oggi febbraio 2016 2 quale sia l'accordo che doveva essere temporaneo che regolamentava l'uso dei locali con l'azienda sanitaria 5 e per quanto tempo debba rimanere in atto 3 come mai non si sia trovato ancora un luogo consono alle loro esigenze e chi doveva occuparsene 4 che progetto ci sia da parte del comune in particolare dei servizi sociali per i ragazzi della panchina assieme all'azienda sanitaria 5 quale percorso il comune abbia messo in atto e per la compravendita e per sostegno dei ragazzi con il servizio delle tossicodipendenze firmato Sonia Daniello gruppo misto consigliere e assessore Moro prego no Romoro prego grazie consigliere Daniello questa volta mi lancia un attimo un attimo un attimo un attimo questa volta mi lancia un bel assist e lo accolgo nel 18 maggio del 2012 è importante facciamo un piccolo riferimento perché lei ci sta chiedendo in poche parole cosa avete fatto dove siete il futuro è un'altra cosa perché il futuro entra entra dopo lo diremmo in fase finale il futuro non c'entra noi siamo dei collaboratori ma gli attori fondamentali coattori dell'azienda sanitaria quindi noi siamo in una situazione di co gestione voi sapete benissimo da questo che mi che mi che mi chiede nell'associazione ragazzi da panchina vede la sua origine vent'anni fa circa queste sono le cose che avevo detto in giunta nel nel 2012 in quel periodo un gruppo spontaneo di persone seguite dal SER si ritrovava seduto ogni giorno sulla panchina che era presente all'uscita dell'ospedale di Pordenone l'intento era di urlare e affermare la cittadinanza attraverso una presenza per molti inquietante tutta la loro disperazione anche dettata dal fatto che la morte di alcuni compagni di viaggio fosse vissuta con indifferenza dalla città la rabbia la disperazione e altri sentimenti forti si concentravano simbolicamente e fisicamente su quella panchina che con l'aiuto del SERT di alcuni impegnati professionisti si è cercato di indirizzare quella rabbia e di trasformarla in qualcosa di produttivo di utile in primo luogo a loro e di conseguenza a tutta la cittadinanza iniziò allora la ricerca di una sede ricerca non facile segnata da proteste molto forti sia per ottenerla sia poi una volta identificata per mantenerla i primi a rendersi conto che il problema era principalmente di pregiudizio furono proprio gli abitanti del quartiere dove la sede risiedeva a Viale Grigoletti che appena conosciuti i ragazzi non solo li hanno accettati ma hanno iniziato con loro una relazione la loro attività si è allargata e oltre ad offrire spazio fisico di un ritrovo ordinario delle persone che utilizzavano sostanze hanno iniziato a pensare di percorsi alla cittadinanza attraverso uno spazio culturale di grande stimolo e aiuto fu in quel momento il supporto del grande poeta Andrea Zanzotto deceduto poi nel 2011 e dello scrittore Pino Roveredo importante collaboratore di questi ragazzi per le loro attività da circa tre mesi questa attività si è strettamente integrata con quella degli operatori di strada gestita dal comune con quella del dipartimento di dipendenza e di identità sanitaria scusate mi sono distratto è da sei anni sono distratto sono sei anni da sei anni tiravo le orecchie le loro azioni sono proprio l'anello mancante tra le strade del CERT rappresentando lo spazio fisico e mentale necessario per promuovere la decisione o un cambiamento di vita attraverso obiettivi chiari e strumenti adeguati permettono alle persone che non sono ancora motivate a sospendere completamente l'uso di sostanze e di fare un percorso motivazionale vuole venire qua per piacere che perlomeno ci parliamo io e lei perché se gli altri non mi no no è per lei buono è per gli altri se gli altri non mi interessa venga qua che glielo racconto a lei che è interessata questo un tet a tet come si dice un tet a tet allora può essere utile presentare alcuni indicatori nell'ultimo anno di attività dell'associazione le parlo le parlo di azioni fatte eh una prima tranche fino al 2012 e poi quelle successive 7000 contatti e colloqui con 250 persone scuole 10 classi incontrate con 20 studenti questo facevano i ragazzi della panchina con i loro tutor a livello teatrale costruzione di un testo con Pino Roverei del laboratorio in carcere per spettacolo finale avviato un nuovo laboratorio per i ragazzi in sede hanno fatto un giornalino partecipavano a una festa in piazza e hanno anche rappresentato una parte di loro e le loro attività a Pordenone Nord allora il problema era arrivando arrivando al dunque che questo ormai mi sa che tutti se la stanno ricordando la sede dove loro risiedevano in Viale Grigoletti fu venduta da il proprietario l'opera Sacra Famiglia con il suo responsabile in quel momento e per avere questa proprietà libera dovette ottenere i locali liberi dalle associazioni che insistevano lì dentro non c'era soltanto non c'era soltanto ragazzi a banchine ma c'era anche una importante associazione al panorama di Pordenone e a quel punto vari colloqui molto stretti con l'azienda sanitaria perché era di competenza la regione ha detto l'azienda sanitaria devi essere tua a farti carico della struttura e a bilancio quella volta da parte dell'azienda sanitaria con il direttore generale Tonuti furono messi 350 mila euro avevano fatto il preventivo di 300 avevano messo questa disponibilità dopo adesso non lo so dirle bisogna chiedere all'azienda quante quante ne hanno spesi nel frattempo però questi ragazzi avevano bisogno di un posto e furono accolti provvisoriamente da Itaca per un po' ma i locali che gentilmente Itaca aveva messo a disposizione non erano sufficienti per l'attività svolta da questi ragazzi e fu una nostra importante scelta di questa amministrazione creare una situazione che potesse andare bene cioè usare un immobile che aveva una destinazione di alienazione l'asilo di vicolo selvatico e intromettere all'interno l'associazione dei ragazzi della panchina avevano trovato quella volta con la clausola che se l'acquirente il futuro acquirente acquistasse l'immobile di via selvatico nel giro di tre mesi e i locali dovevano essere liberati nel frattempo l'azienda continuava le sue ricerche per trovare un posto per allocare questi ragazzi della panchina e non era facile neanche per l'azienda trovare una soluzione nel frattempo furono fatte tre delibere in quel periodo una che assegnava l'amministrazione all'azienda sanitaria una successiva invece che sollevava per problemi amministrativi l'azienda sanitaria e si fece direttamente con i ragazzi della panchina la terza qualche mese dopo perché addirittura andavano talmente bene che avevano bisogno di una stanza in più e quindi fu fatta la terza ecco a questo punto a questo punto prima di arrivare alla fase finale diciamo che l'azienda sanitaria dice che il progetto è di proseguire l'entera mandata dalla dottoressa Sabion che è il capo dipartimento delle dipendenze proseguire in maniera sempre più integrata ma con le proprie specificità le attività di essere e di progettarne per il futuro a seconda dei bisogni emergenti per queste persone nel territorio e anche in risposta alle risorse disponibili il comune che ha fatto dal 2012 con loro ha partecipato alla stesura dei piani di zona e ha avviato il progetto codice a sbarre che è quel famoso progetto con i carcerati su sfondi devianza attività culturale e anche pubblicando una rivista libertà di parola nel 2013 prosecuzione codice a sbarre con produzione e presentazione del libro non giudicate sempre in collaborazione con il comune con questa amministrazione pensieri di uomini non liberi questo era il titolo anche del libro con riferimento al piano di zona nel 2013 2015 un gruppo di lavoro povertà alimentare convenzione e con trasferimento per acquisto di generi di prima necessità per persone seguite dall'associazione cioè loro stessi facevano i distributori delle borse spesa nel 2014 prosecuzione del progetto codice a sbarre con produzione e presentazione del video tutto quello che abbiamo dentro è stato un bellissimo successo è stato presentato questa rappresentazione cinematografica con una regia molto bella naturalmente girata all'interno delle carceri perché l'istituzione non aveva permesso ai carcerati di uscire mentre aveva permesso alla troupe dei ragazzi della panchina e dei tecnici di entrare e svolgere questa attività cinematografica ancora intervento sul disagio e facce giovanili assieme ai ragazzi della panchina col progetto top convenzione e trasferimento di una quota di sostegno per acquisto generi prima necessità e ancora codice a sbarre nonché attività educativa di strada con prevenzione di intervento sul disagio della fascia giovanile questo senza ricordare poi senza soffermarci troppo su alcune cose come il comune finanzia panchine in quartiere per anticipare il nuovo ingresso dell'associazione nei nuovi locali di via selvatico sempre nel 2012 e poi dal 2012 al 2014 il comune finanziato direttamente il progetto top da cui dico appunto sei anni dicembre del 2014 continua il progetto top e poi c'è nel giugno del 2013 il comune finanzi del gemellaggio comune di Pordenone comune di Napoli Scampia e mi sembra che sia andato anche il sindaco quella volta a partecipare a questa conferenza con i ragazzi di Napoli da agosto del 2013 ad oggi il progetto codice a sbarre continua all'interno della casa circondariale di Pordenone sempre finanziato dalla amministrazione il 21 aprile di quest'anno scorso 2015 modello Maddaloni parteciparono a questo grande convegno che 15 il modello Maddaloni sport modello di vita aveva un posto di legalità vi ricordate che sempre da Scampia è arrivato questo signore il quale aveva messo in atto un'attività di recupero da parte di queste persone con disagio attraverso l'attività sportiva non da singoli ma direttore accompagnati dai familiari proprio per renderli partecipi tutti quanti e il signor Maddaloni venne qui a Pordenone il 21 aprile e relazionò in merito in proprio in organizzazione l'organizzazione fu fatta da non vorrei dimenticare il nome per il comune il comune collaborazione con i ragazzi della panchina e mi sembra forse dopo mi ricordo mi scusi non mi ricordo a memoria il nome del terzo organizzatore il patrocinio fu dato naturalmente dal comune di Pordenone ecco adesso dove siamo se l'assessore Toffolo mi dà le immagini se mi può dare l'immagine prima quella grande se può prendiamo un attimo pazienza quindi nel frattempo la l'azienda sanitaria aveva identificato una zona di sua proprietà che era una via interna una laterale di via interna dove c'era dove c'è il servizio del CERT e in aderenza al servizio del CERT è stato costruito il lotto che tanto si aspettava quindi l'azienda sanitaria ha provveduto questo è il primo piano però volevo un ecco il rendering ecco il rendering ha provveduto a costruire questa parte di cui si era fatta obbligo e premura negli anni passati questo stabile verrà inaugurato il 30 di giugno di quest'anno luglio agosto faranno i trasferimenti e con i primi giorni di settembre i ragazzi della panchina saranno nella loro casa dove non li mandrà via più nessuno verranno seguiti dall'azienda sanitaria e all'interno verranno mantenute tutte le attività di tutti coloro che vogliono collaborare con i ragazzi della panchina e io auspico che anche la prossima amministrazione sia molto attiva come è stata questa nei confronti di questi ragazzi della panchina penso di aver detto tutto grazie assessore prego consigliere Daniello può dichiarare se sì la prima domanda la dove le risponde il patrimonio allora nella valutazione che è stata data dall'amministrazione comunale ma che chiaramente è un valore indicativo perché non può essere la base d'asta nell'eventuale asta è di 800 mila euro 800 mila euro base d'asta va bene prego consigliere sì sarò breve perché dopo la lettura lunga dell'assessore Romor è molto completa non posso che congratularmi con l'assessore Romor insomma anche se devo dire una cosa è vero che la storia ci deve insegnare però mi aspettavo più uno slancio di collaborazione da parte sua nel senso un po' di un pizzico di quello che aveva investito i servizi sociali in questi ragazzi la storia emotiva la conosciamo tutti di questi ragazzi è una storia di tensione di paura di forte emotività eccetera il che negli anni passati nelle scorse amministrazioni un'amministrazione attenta aveva cercato di collaborare con loro organizzando proprio il luogo i ragazzi della panchina hanno ha un significato proprio sulla specificità di questo progetto allora sì il fatto che mi un po' ha incuriosito su questa vicenda è che lì essendo un patrimonio del comune non si possa collaborare i ragazzi della panchina e il comune non possa collaborare con qualche altro tipo di associazione o altro per farli entrare e lavorare in sintonia in collaborazione proprio con i ragazzi della panchina cioè quel sito lì andava valorizzato visto che non venduto come patrimonio del comune anche in un altro modo investendo in qualcos'altro perché ci sono degli spazi immensi spazi vuoti per cui si poteva fare accanto ai ragazzi della panchina affiancare qualcos'altro alcune problematicità sicuramente li sa meglio di me e Assessore Romor ci sono ancora nel comune di Pordenone grazie consigliere passiamo ora all'interno l'ha detto all'inizio grazie interrogazione numero 8 oggetto intitolazione di una via piazza struttura a Francesco Fattorello sottoscritto consigliere comunale del partito democratico Gregorio Martino interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere se l'attuale amministrazione entro la fine del presente mandato amministrativo può verificare la possibilità di intitolare una via una piazza una struttura uno spazio a Francesco Fattorello letterato storico e sociologo nato a Pordenone il 22 febbraio 1902 e morto a Udine il 3 ottobre 1985 di cui si allega una sintesi biografica firmato Gregorio Martino Assessore Mazzer prego sì grazie presidente grazie consigliere Martino beh ne abbiamo parlato già anche prima negli interventi che ci sono stati successivamente alla alla commemorazione di Giulio Reggeni è chiaro che io vorrei semplicemente fare un quadro normativo semplice per capire non sente? sì un quadro normativo per capire proprio quali sono i limiti che il legislatore cita beh innanzitutto ogni spazio del suolo pubblico aperto al pubblico che costituisce area di circolazione noi dobbiamo in qualche maniera darci un nome denominarlo perché questo ce lo chiede l'ISTAT l'ISTAT nelle sue regole proprio definisce che gli spazi soprattutto quelli della circolazione devono essere denominati l'articolo 10 della legge anagrafica dispone che il comune deve prendere indicazione della torponomastica stradale l'organo comunale competente per fare questo tipo di denominazioni di intitolazioni è la giunta comunale quindi questo sarebbe il ruolo della giunta è il ruolo competente per dare le indicazioni e le indicazioni possono riguardare oltre che aree di pertinenza stradale luoghi pubblici che sono coinvolti dal codice della strada ovviamente la giunta può intitolare anche altri spazi tipo le scuole gli impianti sportivi i parchi giochi luoghi strutture pubblici di pertinenza comunale prima parlavamo per esempio del chiostro della biblioteca uno di questi luoghi può essere denominato cosa cosa visto anche la discussione di stata prima cosa si faceva un tempo all'epoca lo vedo tra il pubblico il comandatore Cardin all'epoca del comandatore Cardin c'era una commissione perché non è che la cultura la storia deve essere patrimonio di una parte politica o dell'altra parte politica dovrebbero essere super partes anche queste queste tipo di intitolazioni al tempo c'erano illustri uomini di cultura cattedratici che magari si riunivano si faceva una piccola commissione e sulla base di alcuni criteri che venivano definiti dalla politica allora si decideva si stabiliva un ordine di priorità non si è più praticamente formata questa commissione anche perché luoghi da denominare ultimamente non ne abbiamo avuti molti quindi qualche volta sarebbe stato un lavoro in più nominare una commissione per un solo luogo è successo che qua in consiglio per esempio abbiamo avuto una convergenza diciamo di maggioranza opposizione per la intitolazione della piazza antistante nello spazio antistante alla stazione delle Corriere e lì si è ritenuto di dare una denominazione che è piaciuta al consiglio su indicazione del consiglio che l'aggiunta recepito che era intitolata ai caduti di Nasseria e a tutti i caduti delle missioni di pace quindi anche queste convergenze del consiglio qualche volta sono utili per trovare una soluzione non sempre praticabile chi può fare una proposta del genere non soltanto i consiglieri comunali ma secondo il legislatore le leggi i criteri che ci sono chiunque può presentare delle proposte anche un semplice cittadino può presentare una proposta e di conseguenza noi abbiamo già un fascicolo dove vengono in qualche maniera catalogate archiviate no catalogate più che archiviate tutte le proposte che ci sono oggi oggi non abbiamo delle vie degli spazi da denominare in forza delle disposizioni istat è semplicemente una scelta che noi facciamo su spazi diversi io dico che però quelle procedure che venivano seguite una volta cioè di fare anche delle valutazioni che vadano al di là diciamo delle contaminazioni di parte politica possa essere lasciato anche una commissione che è superparte possa fare delle valutazioni su criteri che sono criteri molto semplici personalità legate al territorio o personalità di rilevanza nazionale o internazionale si diceva che il mondo ormai è globalizzato quindi di fatto anche persone che stanno lontane da noi possono essere persone che meritano un'intenturazione anche nella nostra città o episodi storici o culturali di rilevanza territoriale abbiamo anche sempre seguito un altro criterio soprattutto per quel che riguarda la denominazione di strade e piazze un po' di omogeneità ci sono alcune zone che tutte le strade hanno dei riferimenti dei nomi riferiti per esempio che ne so via delle caserme via brigata toscana tutte quelle strade lì hanno un po' di omogeneità viene data un'intitulazione però c'è un riferimento territoriale dove tutte lo abbiamo fatto anche per altre zone con i pittori via Tintoretto via Tiepolo via Tiziano ci sono anche quel tipo di riferimento che sono particolarmente utili quando si vuole ricordarsi dove andare a trovare quella via per esempio è una cosa che si usa io dico che noi dovremo comunque creare anche forse una modulistica qualcosa che induca chiunque chiunque a presentare questo tipo di istanza e questo tipo di istanza dovrebbe essere valutato come dicevo prima anche da chi in qualche maniera ha un ruolo super partes dicevo prima uomini della cultura e cattedratici che possono storici che possono in qualche maniera proporre all'esecutivo anche una fare una proposta sulla base di valutazioni che non siano legate all'omotività del momento dico questo perché ne abbiamo anche abbiamo anche delle emozioni che parlano di intitolazioni oggi lei consigliere faceva un'interrogazione su Francesco Fattorello parlavamo prima di Giulio Reggeni c'è una mozione che cita Fabrizio Quattrocchi ce n'è un'altra che cita Giovanni Paolo II quindi capite che anche lì l'esecutivo probabilmente un criterio se lo deve dare e un aiuto da parte di chi può essere considerato super parte rispetto non alla politica ma alla partitica forse si può dare una mano sicuramente ci saranno come sempre quando si fanno delle scelte delle critiche da una parte o dall'altra ma riteniamo che questo sia il modo migliore per dare una risposta non legata a posizioni di simpatia o antipatia ma semplicemente a valutazioni storiche culturali artistiche che che possano essere legate magari meno all'emotività del momento che qualche volta non è un buon consigliere non lo facevo in riferimento alla figura che abbiamo commemorato oggi ne parlavo in termini un po' più generali grazie grazie assessore prego consigliere deve schiacciare il pulsante ecco grazie presidente mi dispiace che che non abbia letto la sintesi di biografica di fattorello perché mentre i consiglieri hanno ricevuto copia ma non era neanche tantissima tantissimo lunga i consiglieri però gli allegati non sono mai stati letti dell'interrogazione la prossima volta lo metterò di seguito va beh si poteva fare insomma e dicevo mentre i consiglieri l'hanno ricevuta magari il pubblico o altre persone non hanno avuto questa possibilità ma era per far conoscere un po' il personaggio perché probabilmente appunto ok ok ho capito vado alla risposta alla risposta alla da quello che dalla risposta dell'assessore Mazzer mi sembra di capire che c'è una certa burocrazia anche in queste cose qua che potrebbero essere semplici piuttosto che appesantirle in questo modo capisco che forse il discorso di tenere un fascicolo con una raccolta in ordine cronologico eccetera possa sembrare democratico però io credo che dobbiamo dare degli esempi di semplicità e di snellezza nella burocrazia lo diciamo ma lo dobbiamo fare ecco non solo non solo questo io ho fatto questa interrogazione perché Francesco Fattorello è stato è stato un personaggio di livello internazionale credo che meriterebbe è nato a Pordenone nel quartiere di Borgo Colonna è stato battezzato nel Duomo di San Marco e ha ottenuto dei riconoscimenti nazionali e internazionali di levatura di grossa levatura cito solo due righe di quello che era riportato nella sintesi cioè io ho fatto così un elenco di incarichi di iniziative nel campo del giornalismo che lui ha avuto ma è soprattutto per l'ideazione della sua teoria della tecnica sociale dell'informazione che Fattorello è noto in campo internazionale in sostanza ha precorso i tempi rispetto a quelli attuali e ci sono due teorie nel mondo su questo campo che è quella di Fattorello e quella americana ecco per rendere l'idea un po' di chi stiamo parlando per quanto riguarda l'intitolazione io ho scritto nell'interazione che si poteva intitolare una via una piazza una struttura o una struttura pubblica di competenza comunale in sua memoria oppure si può anche delle vie che ormai hanno dei nomi dei sueti come è già successo avevamo via Riveraschera abbiamo chiamato via Rivera del Pordenone cioè si possono cambiare quindi non solo non solo quelle nuove che capisco che non è facile è d'accordo perché implica delle altre cose però però mi sembra cioè io ho fatto questo esempio perché ci sono delle vie con dei nomi veramente che dovrebbero essere cambiate però chiudo subito questo punto vado a suggerire qualche altra soluzione se non è possibile una via una piazza si potrebbe intitolare una struttura Fattorello è stato a Fattorello sono state dedicate due giornate una due anni fa da parte del comune di Pordenone e una del comune di Sacile l'assessore l'ha organizzata la biblioteca comunale l'assessore sia Cattaruzzi sia Rubino sono a conoscenza di ciò perché il professore Ragnetti che è il diciamo il successore in un certo senso di Fattorello ha tenuto questi due convegni a Pordenone io credo che ogni città debba con orgoglio dedicare e dare dei riconoscimenti ai propri concittadini che si sono particolarmente distinti bisogna trovare il modo se ciò non è possibile quello della via si può ad esempio almeno in questa fase in Borgo Colonna mettere una targa per non perdere la memoria come ricordo perché appunto è nato lì quindi questo almeno come minimo io credo che è una cosa che si possa fare in quella zona mettere questa targa a Fattorello è stato intitolato poi l'istituto italiano di pubblicismo ed è proprio il professor Ragnetti che ha continuato questa questa opera sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista scientifico e lui ha tenuto dei corsi di insegnamento di scienze della comunicazione e di laurea specialistica in editoria e giornalismo presso l'università di Urbino ha frequentato e sta frequentando Pordenone da tempo lui desidererebbe portare a Pordenone l'istituto Fattorello perché lui ormai ha una certa età e vorrebbe desidererebbe che la città di Pordenone accogliesse un suo co-cittadino attraverso questa questo questo come dire in questo modo attraverso è un desiderio diciamo che è stato di Fattorello ma è stato poi dei suoi dei suoi eredi la moglie e i fratelli nonché i nipoti che lui non aveva non aveva figli grazie grazie consigliere Martino bene non c'è la terza interrogazione non la esaminiamo perché manca il proponente pertanto passiamo allora alle deliberazioni la prima deliberazione l'abbiamo già fatta perciò passiamo adesso alla proposta di deliberazione numero 4 2016 soppressione delle circosizioni decentramento comunale modifica dello statuto comunale delibere conseguenti seconda votazione proponenti Bianchini Giannelli che non mi ricordo se è ritirato adesso Piccin Giust Martino Perrone Manzon Tomasello Rossetto Bonazza Del Santo Bevilacqua Peresson Piccinato ecco ricordo ai consiglieri che questa deliberazione è già stata votata la scorsa volta non ha raggiunto il quorum previsto per la prima votazione per essere approvata ha raggiunto però il quorum diciamo di 21 voti favorevoli e stasera ovviamente per essere approvata dovrà raggiungere lo stesso quorum pertanto la maggioranza dei consiglieri assegnati pertanto 21 voti non può essere neanche oggetto di emendamenti perché stasera dovrà essere discussa e votato lo stesso documento lo stesso testo chiedo prego prego volevo sapere volevo fare una mozione d'ordine per seguire un dibattito un attimo più diciamo con meno ansia poi per liberare anche magari i dirigenti se si poteva invertire l'ordine delle due delibere in discussione l'avevo già fatta in capigruppo però io la ripropongo qua in consiglio sperando che il consiglio possa essere ritengo che la delibera sulle circoscrizioni come ho detto in capigruppo richieda un approfondimento e sicuramente un dibattito che magari si prolunga nel tempo molto di più di quell'altra a mio modo di vedere che è lo stesso importante quindi forse sarebbe opportuno posticipare invertire chiedo scusa l'ordine delle due delibere e partire da quella successiva dell'assessore Rubino e poi affrontare questa sua circoscrizione io la ripropongo poi se la mette ai voti del consiglio vediamo cosa dice il consiglio comunque una mozione d'ordine che era già stata presentata in conferenza presidenti che non era passata vabbè allora chiedo un intervento a favore o un intervento contro un intervento a favore consigliere Loperfido prego grazie grazie presidente si sente grazie presidente la proposta fatta dal collega mira di evitare anche quanto è successo in altre occasioni in cui a causa di un dibattito su una delibera che è nata avanti anche oltre la mezzanotte abbiamo costretto alcuni funzionari del comune di Pordenone a rimanere qua fino ad una ora tarda visto che comunque la delibera che viene proposta dall'assessore Rubino comunque nonostante la sua importanza può essere affrontata con una certa celerità perché riguarda soltanto alcune modifiche regolamentari sulle quali magari si può approfondire ma non impegnando troppo il consiglio comunale magari potrebbe garantire anche al consiglio di affrontare in modo approfondito e corretto il dibattito ben più importante sul tema delle circostituzioni va bene grazie un intervento contro nessuno è scritto scusate bene signore se nessuno si scrive per un intervento contrario mettiamo i voti scusate bene allora scusate signori consiglieri dobbiamo votare la mozione d'ordine del consigliere Ribetti che chiede di invertire l'ordine di esame delle due deliberazioni pertanto scusate scusate pertanto consigliere Ribetti chiede di poter esaminare e discutere prima la mozione la deliberazione numero 5 e dopo la numero 4 bene bene signori si vota dichiaro aperte le operazioni di voto bene dichiaro 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 chiuso le operazioni di voto lesa votazione seguente scusate presenti 40 votanti 36 maggioranza 19 favorevoli 34 contrari nessuno astenuti 2 la mozione d'ordine è stata approvata pertanto passiamo all'esame della deliberazione deliberazione numero 5 allora proposta numero 5 2016 asili nido parziale modifica del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Pordenone e la disciplina delle tariffe bene do la parola all'assessore Rubin una lucetta ma ecco va bene grazie intanto ringrazio per la votazione allora dunque noi eravamo in proroga con il regolamento che eravamo in proroga con il regolamento per quanto riguarda gli asili nido prima dell'applicazione della legge scusate del decreto del DPR regionale 10 luglio 2015 abbiamo approfittato di questo recepimento quindi passando in consiglio comunale per apportare delle modifiche fondamentalmente sono modifiche formali però ci sono anche due modifiche che riteniamo interessanti e sostanziali allora come vi ho detto è il ricevimento del DPR 139 che prevede i criteri per la compensazione nell'abbattimento delle rette a carico delle famiglie che come prima novità vede questo abbattimento non più a consuntivo come avveniva precedentemente ma viene dato mensilmente alle famiglie quindi penso sia un sollievo perché veniva dato a consuntivo nell'anno successivo ed è a carico dell'ente gestore quindi sono i nostri stessi asili nido che ricevono i fondi della regione e poi li distribuiscono direttamente alle famiglie un'altra cosa che risulta dal ricepimento di questa norma è l'anticipo delle iscrizioni la regione chiede la presentazione di tutta l'istruttoria entro il mese di giugno noi prima accettavamo le iscrizioni fino al mese di aprile questo anticipo richiesto da parte della regione ha fatto sì che noi ci troviamo costretti quest'anno ad anticipare di un mese cioè il mese di marzo ma dall'anno prossimo anticiperemo al mese di febbraio un altro elemento che ci è sembrato interessante cioè l'aver colto questo poter passare in consiglio era quello di poter evitare due strutture che si erano verificate negli anni precedenti la prima è relativa all'ISEE alla modifica dell'ISEE perché nell'anno precedente c'erano stati alcuni casi in cui le famiglie non avevano potuto presentare l'ISEE richiesto non per colpa loro ma perché l'istituto l'IMS non erogava nei termini questa richiesta quindi per il regolamento vigente noi dovevamo applicare la tariffa massima alla famiglia in attesa che venisse consegnato l'ISEE questo ci è sembrato un'ingiustizia molte persone ci avevano telefonato e quindi riteniamo che qualora la presentazione dell'ISEE in ritardo sia in colpevole la famiglia non debba essere penalizzata ma naturalmente deve dimostrare giustificato motivo e quindi pagherà la retta che le aspetterebbe appunto con l'ISEE effettivo un'altra penalizzazione era invece quella derivante dei cambi di residenza i cambi di residenza avvenivano più o meno quelli che avvengono entro il mese di marzo perché se avvengono prima chiaramente vengono penalizzati tra il mese di marzo e il mese di giugno se la persona cambiava di residenza quindi andava fuori dal comune di Pordenone perdeva il beneficio della riduzione dei costi rispetto agli altri comuni ci siamo posti un problema questi cambi di residenza non denunciati derivano da una mancata volontà di denunciarli per mantenere il beneficio in questo caso la famiglia viene penalizzata pagherà la retta massima e pagherà anche una multa diciamo del 50% quindi una gravia del 50% ma qualora il cambio di residenza sia dovuto ad una situazione contingente una crisi economica come quella che stiamo vivendo una separazione improvvisa la perdita di lavoro per cui il cambio di residenza è forzoso abbiamo ritenuto di far pagare continuare a far pagare la retta minima cioè la retta che pagavano precedentemente questo soprattutto per favorire la continuità della frequenza dell'asilo del bambino senza una penalizzazione ulteriore alla famiglia che già sta subendo un problema abbiamo fatto poi abbiamo eliminato le rinunce temporanee veniva data la possibilità alle famiglie di mantenere l'iscrizione con una possibilità di rinunciare ma poi di cambiare idea entro un certo periodo questo creava un ingorgo non si riusciva a capire effettivamente quanti bambini si iscrivevano effettivamente quanti poi all'ultimo momento cambiavano idea quindi in questo nuovo regolamento abbiamo deciso di eliminarlo abbiamo mantenuto il favore per le coppie giovani abbiamo introdotto poi alcune modifiche di tipo formale ma soprattutto sottolineando sempre che qualsiasi modifica deve rispondere alla capienza diciamo del bilancio comunale e un'ultima cosa abbiamo aspettate che l'ho perso sì la praticamente la cosa che ci interessava di più era non dover ripassare in consiglio per modifiche legislative di questo tempo di questo tipo quindi abbiamo aggiunto nell'articolo 32 che qualora le modifiche derivino da un semplice recepimento di norma sia regionale sia nazionale o da piccole modifiche formali non sia più necessario passare in consiglio questo in sintesi quello che abbiamo abbiamo modificato vi devo anche comunicare che c'è vi è stato consegnato un emendamento perché nella legato alle modifiche delle tariffe che in realtà non sono state toccate c'è stato un refuso cioè abbiamo dimenticato di aggiungere una frase che vi leggo il paragrafo denominato esclusione dai benefici va completato con la seguente frase nel caso di comprovate difficoltà economiche da valutare in volta in volta dal dirigente responsabile sono quelle difficoltà economiche che vi dicevo prima nel caso di cambi di residenza quindi questo in sintesi è stato letto e approvato dalla commissione abbiamo non abbiamo avuto delle richieste di modifica quindi io mi fermerei qui se avete delle domande sono a disposizione grazie assessore bene chiedo se ci sono domande e chiarimenti non ci sono domande passiamo pertanto dichiaro aperta la discussione non vedo nessun iscritto sì consigliere Cabibbo prego grazie presidente bene come ha adesso illustrato l'assessore questa delibera contiene una serie di modifiche che vanno diciamo incontro a delle esigenze anche di buon senso che nello svolgimento del servizio di questo servizio fondamentale per le famiglie della nostra città che è quello dell'asilo nido sono sorte nel corso di questi ultimi anni sempre di più gli operatori dell'asilo nido quindi le educatrici comunque tutto il personale che fa veramente un lavoro molto difficile e anche molto importante mi sento di dirlo perché facendo parte del comitato di gestione degli asili nido posso e ho potuto in questi anni appurare con mano quello che è l'importanza del loro lavoro ma soprattutto anche la passione con cui questo lavoro viene svolto ecco proprio quindi dall'esperienza sono nate alcune esigenze di modifica quindi ad esempio quella riguardante il cambio di residenza quella riguardante altri aspetti diciamo concreti devo dire che rispetto a questo testo che è stato proposto in commissione che viene proposto questa sera anche alcune osservazioni della minoranza in modo particolare del sottoscritto in sede di comitato di gestione sono state accolte dall'assessore mi riferisco in modo particolare al mantenimento ad esempio delle agevolazioni per le giovani coppie quelle che sostanzialmente hanno una mamma di età inferiore ai 25 anni per i quali è previsto una possibilità di sostanzialmente abbassare la soglia dell'ISEE per poter dare diciamo una agevolazione in termini di retta di importo della retta appunto minore rispetto a quella che è prevista normalmente ecco poi le altre questioni sono appunto questioni che ripeto un po' sono dettate dalla legge sull'ISEE per quanto riguarda le prestazioni in favore dei minori quindi un campo diciamo a livello normativo sul quale il Comune e il Consiglio Comunale non può intervenire ciò che vorrei portare in questa sede all'attenzione del Sindaco dell'amministrazione e comunque di quello che è il Consiglio Comunale è però un'esigenza molto forte che ritorna anche negli articolati di questo di questa regolamento di questo diciamo più che regolamento di questa proposta di modifica e cioè appunto quello che tutte le questioni legate alle rette al calcolo dell'ISEE ma anche alle graduatorie naturalmente sono legate a quello che è lo stanziamento di bilancio che il Comune fa in relazione a questo servizio allora dicevo prima che veramente gli operatori degli asili nido nel nostro Comune hanno in questi anni svolto un lavoro veramente con passione ed egregio e questo nonostante le risorse messe a disposizione di questo tipo di attività non siano forse sempre state così corrispondenti a quelli che sono i reali bisogni lo avevo detto anche due anni fa quando c'era stata la discussione sul regolamento della fruizione e servizio degli asili nido che le operatrici arrivavano per poter far quadrare i conti ma anche per poter garantire all'ente un risparmio di spesa il più possibile facevano il giro dei supermercati per verificare quali fossero i pannolini meno costosi da poter comprare allora io credo che la buona volontà l'impegno e la passione degli operatori che svolgono questo servizio non può però essere poi diciamo scambiato per qualche cosa di dovuto e che su questo il comune di Pordenone deve prendersi un serio impegno in bilancio per poter garantire un servizio che per le famiglie non solo le famiglie giovani ma per tutte le famiglie diventa sempre più essenziale quello cioè di poter avere un asilo nido che non è soltanto un luogo dove lasciare i neonati o i bambini insomma con pochi mesi di vita perché si è dediti a dettività lavorative che quindi non consentono di badare al proprio figlio ma è diventato sempre di più diventerà anche un luogo una prima forma di educazione direi quasi anche di istruzione perché sempre di più sappiamo come i bambini anche in tenera età sono recettivi rispetto ad alcune input e quindi l'asilo nido non è più solo un luogo di passatemi il termine babysitteraggio pubblico ma un luogo educativo ecco io penso e credo che su questo ci debba essere un impegno maggiore un impegno maggiore di quello che c'è stato in questi anni sia per quanto riguarda le strutture la manutenzione delle strutture sia per quanto riguarda la possibilità e l'allargamento della disponibilità di posti a favore delle famiglie anche in relazione agli altri enti che sono di tipo privato per cui poi i genitori usufruiscono di voucher mi piacerebbe che gli asili nido comunali potessero garantire un numero maggiore di posti senza ricorrere appunto all'ausilio del privato questo perché credo che compito primario di un'amministrazione soprattutto a livello comunale sia quello di garantire e di andare incontro ai bisogni delle famiglie e sappiamo quanto soprattutto questa regione ha difficoltà in ordine al tema della natalità siamo la regione con il più alto tasso di denatalità in Italia e i fattori sono molteplici uno di questi fattori è anche certamente il livello e l'organizzazione dei servizi che le famiglie si trovano ad avere tale per cui è chiaro che una coppia che si mette in cantiere e progetta di avere un figlio ci pensa non una ma cento volte per questioni economiche ma anche per questioni attinenti ripeto alla poi gestione della vita familiare e su questo credo che appunto negli ultimi anni questa amministrazione è stata piuttosto carente grazie grazie consigliere consigliere Bianchini prego grazie presidente ma io sottoscrivo quanto detto adesso dal collega Fibbo tranne l'ultima parte e quando fa un ragionamento di dicendo insomma che l'amministrazione è stata carente no non credo questo però credo tutte le altre cose che lei ha detto sono corrette come ricordava lei scritto in tutti i libri di neonatali eccetera che i bambini dai 0 ai 3 anni è il momento in cui riescono a come posso dire sono più recettivi come diceva lei consigliere e fondano le proprie basi poi di tutto quello che andranno ad apprendere negli anni successivi e quindi anch'io anche noi siamo convinti come dice lei che è arrivato il momento che non questa amministrazione ma in generale ci sia un'attenzione rivolta all'infante assolutamente d'accordo e siamo convinti come dice lei che in futuro le spese di bilancio di tutte le amministrazioni dovranno spostare una quota sensibile dalla dalla fascia diciamo più anziana della popolazione alla fascia più giovane questo in ragionamento sia per quanto riguarda per le famiglie ovviamente ma proprio per i neonati e per i bambini questo è assolutamente corretto crediamo che l'amministrazione in questi anni abbia fatto quanto era possibile con i bilanci attuali e è vero che un ragionamento va ripensato sul bilancio complessivo e sarà la sfida che qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore da qui in avanti non solo a Pordenone dovrà portare avanti assolutamente perché come ricordava lei consigliere noi possiamo come amministratori non tanto incidere su parametri come affitti piuttosto che costi di abitazioni quindi acquisti di abitazioni ma quanto sui servizi e sicuramente d'ora in poi uno dei servizi importanti sarà quello degli asili nido e quindi bene l'amministrazione ovviamente nella modifica di alcuni passaggi di questo regolamento sicuramente in futuro ci dovranno essere altre modifiche in determinati capitoli ma come ricordava il consigliere prima ma anche in ragionamenti fatti con l'assessore ovviamente c'è bisogno di diverse quote spostate all'interno del bilancio grazie grazie consigliere consigliere Loperfido prego dopo l'intervento non so se il consigliere Loperfido lascia fare la domanda prego l'assessore mi scuso però l'ho messo a fuoco adesso alla luce si Bianchini alla luce l'ammendamento che è arrivato adesso se l'ammendamento non fosse arrivato non sarebbe venuta la domanda se Bianchini consente io andrei avanti grazie all'articolo 48 esclusione dei benefici volevo capire un attimo sono esclusi della possibilità di beneficiare delle riduzioni quelli che cambiano residenza qualora la famiglia non informi tempestivamente il servizio della modifica della propria residenza sarà tenuta a pagare la retta massima prevista per la fascia di utilizzo frequentata oltre leggo una maggiorazione del 50% se non intendo male chiudo la domanda così non rubiamo tempo a Bianchini che può fare tutti i suoi ragionamenti e questa dovrebbe essere tipo una sanzione ecco poi con l'ammendamento che è arrivato adesso motivo per il cui faccio la domanda leggo nel caso di comprovate difficoltà economiche da valutare di volta in volta dal dirigente responsabile del servizio sentito la retta iniziale potrà essere mantenuta quindi voglio capire però il perché la possibilità di non applicare la sanzione viene demandata al dirigente responsabile sentito il comitato di gestione non viene vincolata a dei parametri oggettivi perché mi sembra che in questo caso sia un dato troppo soggettivo perché se ha applicato una sanzione cosa nei confronti alla quale io ho dei dubbi quindi se uno può dimenticare per mille motivi basta secondo me riapplicargli la tariffa che sarebbe aspettata però la sanzione sembra eccessiva però andare a legare il mantenimento della sanzione alla soggettività di qualcuno mi pare piuttosto che dei vincoli oggettivi dei dati oggettivi di ISEE mi sembra assolutamente discrezionale grazie prego diamo la possibilità all'assessore di rispondere sì sì rispondo subito grazie se arriva sì e allora questo è un po' come dirlo lo vorrei dire con parole meno crudeli ma insomma cercare di scovare i furbetti nel senso che ci sono persone che omettono la denuncia del cambio di residenza per mantenere il beneficio della riduzione dei costi essendo residenti a Pordenone allora l'intervento del dirigente ma anche del comitato di gestione per verificare se effettivamente si tratta di una pura dimenticanza o se si tratta proprio di un tentativo di diciamo così tra virgolette farla franca questa era la razio della penalizzazione naturalmente sarà un caso due forse neanche però ci sembrava di metterlo come deterrenza va bene grazie prego consigliere Loperfido grazie presidente grazie assessore come ha affrontato anche in in sede di di commissione queste modifiche tendono a cercare di avere una certezza maggiore riguardo alle modalità di accesso al servizio la disciplina anche delle tariffe in modo tale che vi possano essere indicatori maggiori per poter favorire o meno non favorire agevolare chi accede al servizio in base a magari determinate caratteristiche economiche ecco perché diventerà sempre più importante il ruolo svolto anche dagli uffici dall'utilizzo di dati incrociati stesso discorso che vale anche per l'accesso dei servizi per quanto riguarda per esempio la casa di rimposo Umberto I perché nel momento in cui lo Stato mette a disposizione il pubblico mette a disposizione un servizio è bene che si abbia ben preciso chi sia di fronte quale sia la vera identità economica della persona che accede al servizio è una cosa fondamentale nel momento in cui come diceva anche il collega Cabibbo non dobbiamo assolutamente far sì che come ha detto il collega Cabibbo l'idea di mettere in cantiere o meno un bambino debba essere viziata da motivazioni di carattere economico ecco questo non dovrà avvenire né ora né mai indipendentemente dall'amministrazione che va a governare questa città siamo un comune capoluogo un comune capoluogo che magari vede anche tanti genitori da comuni limitrofi chiedere l'accesso al servizio qua nel comune capoluogo perché magari ci lavorano ecco allora che ovviamente dobbiamo prevedere delle modalità di accesso variabili a seconda del reddito e a seconda anche della residenza bisogna insistere sia sul favorire e mi fa piacere che ci siano anche delle menzioni riguardanti l'agevolazione alle coppie giovani sotto i 25 anni perché è un incentivo a dire qua a Pordenone si può venire abitare vivere la città mettere su famiglia e crearsi una prospettiva è anche da queste cose che si può cercare di rendere Pordenone più attraente nei confronti delle giovani coppie nel momento in cui il figlio Venezia Giulia e Pordenone non brilla certo per fertilità dobbiamo comunque cercare di far sì dobbiamo cercare di far sì che Pordenone comunque appunto favorisca chi magari ci pensa perché non sono in grado di mettere al mondo un figlio perché non me lo posso permettere noi dobbiamo assolutamente evitare che questo debba essere un elemento di valutazione da parte di una coppia dei pordenonesi però bisogna investire anche molto sulla formazione la formazione del personale per far sì che l'ingresso nel mondo degli asili sia un accesso a un mondo nuovo sia per le famiglie che mettono nelle mani di un estraneo il loro pargolo ma anche per il pargolo ovvero dire qua si inizia un nuovo tipo di vita ecco allora che la formazione deve essere costante e continuamente sostenuta da parte dell'amministrazione pubblica un investimento che deve essere mirato a far sì che il pubblico possa accogliere il più possibile la richiesta di domande e far sì che eventualmente in un passo successivo sia il privato poi che possa sostenere quella fetta di servizio che non siamo in grado di sostenere noi all'insegna della sussidiarietà ai quali in tanti facciamo riferimento quindi bene il regolamento insistiamo anche nel sostenere i punti verdi visto che è un dramma per le famiglie che non possono stare con i propri figli quando finisce la stagione scolastica perché spesso la famiglia è composta da due persone che non sono in grado di poter stare a casa nel momento in cui finisce la scuola quindi sarebbe una spesa ulteriore scusami a che pagine esattamente del programma che non me lo sono ancora che ma quello breve o quello grande quindi un occhio particolare deve essere anche nel prossimo bilancio che dovremo andare a vedere un occhio particolare un investimento attenti e mirati che vorremmo vedere anche nel prossimo bilancio per vedere come questa amministrazione intende sostenere il pubblico nel momento in cui va a fornire un servizio fondamentale alle famiglie e alle giovani coppie grazie 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 consigliere consigliere ribetti toccarebbe a lei prego grazie Presidente, io limito l'intervento alla domanda di chiarimenti che ho fatto, perché ritengo che l'emendamento così come formulato non sia molto chiaro, perché in modo di vedere rischia di ingenerare, tra virgolette, incomprensioni e andare contro quello che deve essere, l'assessore ha già capito cosa intendo, così come formulato l'emendamento rischia di andare contro quello che può essere forse lo spirito, perché come ho detto prima ritengo che sanzionare con la maggiorazione del 50%, forse in ambito sociale farei una riflessione sul punto, però poi, e trovo quindi corretta la mediazione dell'emendamento di dire attenzione che a fronte di situazioni di disagio venga mantenuta, perché se lo spirito è questo va bene, però legare il può essere mantenuto dalla valutazione che viene fatto da un soggetto, io ritengo che sia molto pericoloso, perché rischiamo con una norma così scritta di sforzare un po' nel libero arbitrio, cioè a qualcuno che mi sta simpatico io decido di non applicare la maggiorazione del 50%, scritta così sì, perché scritta così se l'italiano, no, nel caso il comportamento di difficoltà economiche da valutare di volta in volta non devono essere valutate, le difficoltà economiche o esistono o non esistono in base a quelli che sono gli indicatori previsti dalla nostra normativa, quindi io chiedo se la volontà dell'amministrazione è quella di emendare, almeno io la intendo così, ma se la intendo male chiedo che mi venga spiegato dagli uffici, quindi se la volontà dell'amministrazione è di mantenere così l'emendamento, io propongo un emendamento, l'emendamento mi sembra brutto, c'è una modifica, c'è che non venga delegato a nessuno la scelta ma venga legata, chiedo scusa da giochi parole, a dei parametri oggettivi, c'è la difficoltà economica come risulta dall'ISEE, ti spetta e io non ti applico la maggiorazione, non c'è, ti applico la maggiorazione, ecco se mi sono spiegato, quindi prima di depositare l'emendamento aspetto un attimo di sentire, quindi Presidente vorrà attendere un secondo prima di chiudere la discussione perché aspetto che mi risponde l'amministrazione, va bene grazie. Va bene, Consigliere Franchin, prego. Grazie Signor Presidente, è una cosa velocissima e di una importanza quasi forse limitata ma che vale la pena sottolineare, noi abbiamo sempre sostenuto l'importanza e l'attenzione per gli asili nido come diceva il Consigliere Capito prima, come momento dell'inizio della formazione dei nostri cittadini, ma abbiamo anche sostenuto però da sempre la necessità di allargare la visione rispetto alla città e a chi ci sta vicino. Per cui la nostra, era così, una volontà di auspicare che il prossimo futuro preveda un'azione molto più corale sull'ordinamento degli asili nido e anche sul bilancio che ogni comune ci mette perché ogni cittadino di ciascun comune abbia il servizio adeguato, perché per noi è sempre stata una grossa problematica quella di assicurare a tutte le famiglie la possibilità di portare i bambini dove gli è più comodo, ma in una visione che vede il nostro territorio comprendente una serie di comuni limitrofi che non ci devono vedere antagonisti, ma in un progetto unitario e comune anche in termini di tariffe e di opportunità. Per cui era solo una sottolineatura per auspicare che la nostra amministrazione, quella che verrà, prenda in mano questa situazione da questo punto di vista in una visione di 150 mila abitanti, 150 possiamo fare, ma sicuramente le famiglie che vengono a Pordenone e che avrebbero vantaggio a portare i bambini in asili nido a Pordenone sono 150 mila. Grazie Grazie consigliere Consigliere bevi l'acqua, prego Grazie presidente, colgo l'occasione per riallacciarmi all'intervento del consigliere Franchin del Fiume e in questo senso già anticipo la dichiarazione di voto del favorevole di tutto il gruppo consigliare del PD alla delibera La delibera che andiamo a votare è sicuramente una delibera di recepimento di una normativa regionale quindi in un certo senso è un atto dovuto tuttavia non toglie importanza al contenuto della delibera e al lavoro che è stato fatto dagli uffici da tutto il personale e dall'amministrazione, nonché chiaramente dall'assessore Va infatti riconosciuto il merito a questa amministrazione di avere a cuore ancora una volta il servizio fondamentale e dal quale non si può prescindere degli asili nido Ma si sente? Cambio microfono perché ci terrei che si sentisse Il comune è tutto, amministrazione tutta ma ancora prima le educatrici e gli operatori dell'asilo nido è vero consigliere Gabibbo, in questo assolutamente facendo parte anch'io del comitato di gestione non posso che non condividere Ripeto, il comune è tutto, amministrazione è tutta ma ancora prima le educatrici e gli operatori e in questo, ripeto, mi sento di condividere quanto detto dal consigliere Gabibbo facendo parte anch'io del comitato di gestione crede nel progetto educativo del nido Va sostenuto il servizio e ciò sarebbe auspicabile che si continuasse a fare anche nel futuro mettendo chiaramente, sapendo bene quali sono le priorità e mettendo le poste in bilancio e quindi mi riallaccio l'intervento anche del consigliere Franchine D'altro canto, questa amministrazione ha dimostrato di voler garantire a tutti il servizio Ciò si evince dalle soluzioni date alle diverse criticità che si sono presentate e sono emersive via nel tempo quali ad esempio i cambi di residenza per difficoltà economiche o dovute a separazioni e altro Ciò lo si evince dal voler garantire la continuità fondamentale del bambino nella frequentazione dell'asilo nido che non è una cosa di poco conto, né da sottovalutare Ciò lo si evince ancora dall'attenzione che questa amministrazione pone sulla persona, individuo bambino che diventa e deve restare una priorità assoluta, una delle priorità la crescita del bambino in armonia perché sarà il cittadino del futuro della nostra Pordenone Quindi a nome del PD dichiaro già e anticipo già il voto favorevole del nostro gruppo consigliare Grazie Presidente, semplicemente poche considerazioni L'argomento è stato sviscerato in terza commissione ed sono stati approfonditi i passaggi che l'assessore e i tecnici ci hanno sottoposto È stato un lavoro costruttivo per cui riteniamo che questo rappresenti la sensibilità di questa amministrazione la sensibilità verso una fascia estremamente delicata della popolazione che è quella dell'infanzia e delle rispettive famiglie Mi pare che il regolamento così modificato abbia teso a raccogliere le varie esperienze che si sono vissute nel condurre questo tipo di esperienza, questo tipo di attività per cui riteniamo di valorizzare il lavoro svolto dall'amministrazione comunale da un lato il lavoro svolto dei tecnici, dell'apparato dall'altro e valorizzare soprattutto il lavoro svolto dalle educatrici che è il lavoro prioritario a cui tutte le famiglie sono particolarmente sensibili in quanto affidano la parte più preziosa di una famiglia che è quella di un bambino e di un neonato per tutte queste motivazioni per il lavoro che è stato svolto e per sottolineare il fatto che questa amministrazione crede fermamente nel progetto educativo il nostro sarà un voto favorevole, grazie Grazie consigliere Freschi Consigliere De Bortoli Cari colleghi, Presidente io sarei per dare un voto favorevole a questa delibera nella sua completezza ma purtroppo coerentemente per quanto detto in commissione devo astenermi perché il regolamento è fatto in modo appropriato anche se con tutte le parole che si dicono qui questa amministrazione ancora non ha considerato che siamo il paese di natalità quasi anche negativa non si applica mai nessun approvedimento nuovo aspetta che c'è un piccolo convegno qua facciamo sapere cosa sta succedendo qua io vi sospendo al Presidente aspettiamo cosa decidono questo gruppo di persone no vabbè ho capito io penso che per fare in modo che questo paese faccia più bambini bisognerebbe essere più incisivi e più magnanimi in queste situazioni qua invece noi dal 2013 lo dice questa delibera scriviamo scriviamo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri coscientemente la revisione della modalità di determinazione dei campi di applicazione dell'indicatore situazione economica equivalente ISEE sono state riviste praticamente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente l'ISEE non dà equità tra i cittadini e lo abbiamo ribadito sia nelle case di riposo quando si applica questo strumento per dire chi deve pagare e chi non deve pagare ed è uno strumento talmente iniquo soprattutto per i cittadini che sono nati in questo paese vivono in questo paese loro e loro familiari rispetto a coloro invece che ci passano in questo paese perché voi io mi rivolgo a voi se ritenete che l'ISEE come è fatto e come è congeniato oggi crea equità tra i cittadini quali sono i parametri di controllo che fate? io vorrei sapere quali sono i parametri di controllo che fate questo dispositivo che tutto viene legato adesso legheremo anche la reversibilità all'ISEE e domani legheremo anche le spese sanitarie all'ISEE dunque ci sarà sempre l'italiano o colui che ha fatto di questo paese il suo paese che dovrà pagare e qualcuno che in modo assoluto non paga è un po' come quello che a Roma è come l'ambulante irregolare mi fanno la multa gliela strappa davanti al poliziotto mentre il nostro che ha il negozio lì non solo gli fanno la multa ma fanno intervenire la casita dell'entrata e fanno chiudere il negozio questa è la differenza questa è la differenza la differenza è che se noi sorpassiamo di 15-30 km in autostrada ci arriva una multa con il ritiro della patente se un Audi giallo va via 250 l'ora da mattina alla sera in autostrada fino a che non la brucia non succeda niente la differenza è la mancanza del controllo nel territorio e nell'economia del territorio dunque ogni volta che voi porterete e speriamo ancora per poco una delibera con applicazione dell'ISEE per determinare se uno deve pagare quanto deve pagare io mi esterò da questo perché ritengo che questo strumento non sia né equo né adeguato e non so se quelli che pensano che quando uno va tanto valeva fare come una volta che determinavano i nostri funzionari e di fatti per alcune cose chiamiamo in causa funzionario qual era la comprensità economica reddituale e patrimoniale di quella soggetto che chiedeva il servizio oggi noi questo non lo possiamo fare noi quando ci viene di fronte un cittadino nostro italiano o anche chi ha fatto di questo paese la sua patria la sua vivenza quando si presenta rispetto a colui invece che è arrivato come è arrivato è sperequativo nel senso che quello che viene da altri paesi non ha e non è sottoposto a nessun controllo questo funziona sull'assinazione delle case popolari perché se noi abbiamo una casa ad Andreis non possiamo fare domande di casa popolare mentre se uno viene dall'oltre confine alla villa al mare può fare domande di casa popolare in questo paese e come con questo può fare tutto perché il nostro paese determina le regole per colpire sul certo non ottenerà mai i controlli e dunque quelli che vengono più sperequati in questo paese sono proprio i cittadini che sono nati vivono in questo paese e hanno dato questo paese come la propria patria e per questo che io mi asterò da questa delibera grazie grazie consigliere De Bortoli e quindi non vedo nessun altro iscritto passiamo al secondo intervento chiedo se c'è l'emendamento è l'emendamento che presenterà l'amministrazione? concordato? bene allora possiamo prego dobbiamo distribuirlo però è legittimo bene grazie possiamo distribuirlo per cortesia poi c'è fatto prova l'amministrazione e sostituisce quello precedente va bene passiamo al secondo intervento nessuno iscritto bene dichiaro chiuso secondo intervento chiedo all'amministrazione se vuole replicare vuole intervenire prego io sono sempre molto sintetica allora giusto per dire dare alcuni dati a fronte di una riduzione di contributi regionali che è notevole è passata da 186 quasi 187 mila euro nel 2012 a 134 ad oggi quanto ha messo a disposizione sul bilancio il comune non è cambiato i costi sono rimasti gli stessi perché se pensate che siamo passati da 1300 euro a 1200 ma è calato il numero dei bambini che frequentano i nidi da 108 a 92 vedete che siamo praticamente rimasti in pari e poi un'altra osservazione sono stati spesi per adeguare i pavimenti le caldaie degli asili nido soltanto in quest'anno 80 mila euro quindi direi che l'attenzione rimane certo dobbiamo fare i conti con una riduzione di bilancio che purtroppo penalizza tutti grazie credo sia il caso di aspettare che arrivi l'emendamento da distribuire prima di passare alla dichiarazione di voto grazie 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 adesso distribuisce l'emendamento prego grazie presidente si condivido molti degli interventi che sono stati fatti credo fermamente che la famiglia vada tutelata e quindi anche dare migliori e maggiori possibilità alle famiglie di poter crescere appunto con i figli con la serenità di avere anche un aiuto da parte delle istituzioni delle aziende che comunque delle società eccetera che riescono comunque ad accudire i loro figli nel tempo in cui sono a lavoro e che quindi non riescono nel migliore dei modi è anche vero però che in effetti avere tutto questo entusiasmo pur sapendo che i nostri figli ormai prenderanno andranno via da questo paese perché non gli diamo un futuro perché gli stiamo dando veramente il peggio del peggio della dimostrazione di come non si fa a governare un paese a governare anche un'Europa quindi non do solo la colpa a Renzi ma a tutto a tutto il sistema diventa assolutamente fuori luogo ritengo che si debba ripartire dai fondamentali ritornare a dare soldi a chi fa figli in maniera decisa e non a tassare comunque in maniera molto gravosa il mantenimento appunto dei figli e che quindi si riesca a dare un'inversione di tendenza rispetto a quella attuale perché abbiamo bisogno di avere una società solida una società stabile basata sulla famiglia che riesca a portare i bambini ad essere cresciuti in una società che gli garantisca un futuro se questo futuro non proviamo nemmeno a darglielo allora diventa difficile esula un po' un pochetto dall'argomento nello specifico però ci tenevo a dirlo grazie grazie consigliere bene allora l'emendamento è stato distribuito possiamo passare alla dichiarazione di voto nel caso di difficoltà economica qualora le condizioni economiche del soggetto siano quelle previste per l'ottenimento del beneficio dovrete iniziare e sarà a mano intenuta senza la malazione indicata al presente periodo c'è un refuso beneficio adesso va bene va bene dichiarazione di voto sì l'amministrazione ha detto che fa prove va bene dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto l'emendamento allora è stato distribuito c'è un refuso da quello che vedo io su beneficio qual è l'emendamento non ha rilievo e poi il resto dov'è la maggiorazione maggiorazione lo leggo allora l'emendamento a questo contenuto nel caso di comprovata difficoltà economica qualora le condizioni economiche del soggetto siano quelle previste per l'ottenimento del beneficio la rete iniziale sarà mantenuta senza la maggiorazione indicata al precedente periodo questo è l'emendamento bene passiamo alle votazioni sì sì è fatto proprio dall'amministrazione pertanto non si vota allora pongo in votazione la deliberazione avete il seguente oggetto proposta numero 5 2016 asili nido parziale modifica del regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Pordenone e della disciplina delle tariffe così come emendata dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 40 votanti 39 maggioranza 21 favorevoli 32 contrari nessuno astenuti 7 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso l'esito della votazione è seguente presenti 40 votanti 37 maggioranza 21 favorevoli 32 contrari nessuno astenuti 5 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla deliberazione che abbiamo postergato allora proposta numero 4 2016 non ripeto quello che ho detto prima pertanto passiamo all'esame di questa proposta di deliberazione soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale modifica dello statuto comunale e delibere conseguenti siamo in seconda votazione non do la parola all'assessore Mazze perché non credo abbia novità pertanto dichiaro aperta la discussione no perché non deve illustrarla è il documento dell'altra volta no no il documento è quello dell'altra volta pertanto bene consigliere Passoni prego non per non per intervento ma per mozione nel senso chiedo se è stato acquisito il parere delle circoscrizioni rispetto a questa delibera la domanda è semplice no e siccome è previsto che ogni deliberazione debba avere il parere delle circoscrizioni volevo capire se è stata acquisita il parere delle circoscrizioni rispetto a questa deliberazione ma ma scusi sì ma il documento è sempre lo stesso perciò quello che è accaduto all'altra durante l'altra discussione non si è modificato perciò l'altra volta non c'erano i pareri non ci sono anche questa volta ovviamente avevate avevate fare intervento dopo però se deve fare considerazioni dovrebbe fare l'intervento adesso ho fatto una domanda speciale io ho fatto una mozione d'ordine nel senso che ho chiesto se c'è il parere che è stato chiesto l'altra volta avevate tutto il tempo nell'arco di un mese di acquisire i pareri dei consiglieri circoscrizionali delle circoscrizioni perché è previsto che ci siano negative o positive ma che ci siano già l'altra volta il consigliere del Ben aveva sollevato ai sensi l'articolo 18 dello statuto che prevede il parere negativo positivo delle circoscrizioni quindi io mi rifaccio a questa cosa e vi chiedo se c'è questo parere avevate tutto il tempo di chiederlo alle circoscrizioni ho capito questa è una pregiudiziale io le dico che non c'è il parere non c'è non c'era la scorsa volta non c'è questa perché si ritiene non sia obbligatorio pertanto allora mettete mettete a verbale che questa deliberazione è illegittima in quanto manca il parere delle circoscrizioni va bene e a verbale perché l'ha dichiarato a microfono perciò a verbale può essere soggetta a ricorso va bene bene dichiaro aperta la discussione consigliere Sperotto ci saranno chiarimenti anche la possibilità di fare chiarimenti o solo la pongo nella discussione molto brevemente poi l'amministrazione potrà replicare pertanto se farete oggi ci viene portata questa delibera dopo il consiglio comunale che appunto ne ha visto appunto il parziale rigetto e oggi quindi voteremo anche un emendamento presentato e approvato da questa maggioranza chiedo al consiglio comunale di spiegarmi per coloro che vogliono votare all'amministrazione anche di spiegarmi come possono votare una delibera dei contenuti totalmente generici attraverso la quale si potrebbero innescare dei meccanismi di spesa assurdi e anche scusatemi la parola ma tra virgolette anche dal contenuto piuttosto ridicolo leggo il punto 9 della delibera una volta attuata la soppressione delle circoscrizioni si procede a realizzare una convocazione anche itinerante del consiglio comunale nei vari quartieri con una cadenza da definire quindi non si sa se è un consiglio sì un consiglio no nei modi da definire non si sa se dovranno girare gli uffici se le segreterie si sposteranno cioè tutto quello che serve un consiglio comunale per operare verrà trasferito attraverso questo consiglio comunale itinerante con la possibilità eventuale di dedicare uno spazio di ascolto per la cittadinanza pre o post consiglio nel luogo itinerante cioè il luogo è itinerante cioè o è il consiglio o è il luogo cioè ci rendiamo conto che stiamo per approvare o state meglio per approvare una delibera dei contenuti veramente difficili da sostenere e anche proprio mal scritta quindi se c'è possibilità di chiedere un emendamento di questo tipo potrebbe avere dei costi enormi per l'amministrazione molto molto di più rispetto a quelli che si ritiene invece di risparmiare attraverso l'abolizione delle circoscrizioni sono quindi a chiedervi se c'è quantomeno un'idea e quindi di definire tutti questi da definire grazie grazie consigliere non vedo nessun altro iscritto consigliere passoni domanda di prima non ho sentito la risposta del segretario rispetto alla necessità di un parere delle circoscrizioni riguardo alla deliberazione cioè deve essere normalmente viene sempre accompagnata da un parere negativo positivo l'ha detto l'altra volta gradirei che lo dicesse anche questa volta grazie prego prego segretario allora sulla sulla proposta esaminata nella seduta precedente c'era un parere favorevole di legittimità che confermo perché l'articolo 18 citato già dal consigliere del bene e oggi ripetuto dal consigliere passoni va visto assieme all'articolo 1 che dice che il regolamento no sempre è lo stesso regolamento che il presente regolamento può essere modificato con delibera del consiglio previo parere qui però non parliamo di di modifiche al regolamento cioè l'oggetto della delibera è una modifica allo statuto che conseguentemente poi prevede la soppressione quindi la decademia quindi non una modifica del regolamento se avessimo modificato il regolamento avremmo dovuto sentire le circoscrizioni sotto l'aspetto della legittimità poi sotto l'aspetto dell'opportunità non compete a me bene consiglio consigliere De Bortoli prego abbiamo avuto un mese per poter pensare perché questa amministrazione a scadenza elettorale chiede e delibera di poter di chiudere le circoscrizioni di queste città che sono già quattro non sono più sei come prima abbiamo visto tutti che hanno operato bene perché abbiamo visto la valenza delle nostre circoscrizioni e qua qualcuno deve dire se non hanno operato bene se sono stati assenti se non sono stati utili per la nostra cittadinanza per i quartieri perché solo così si può dire che allora si chiudono organismi democratici nel territorio perché probabilmente o scialacquano o non lavorano o non sono più utili allora però mi sono domandato ma non può essere così perché se mi vogliono chiudere Presidente no vabbè possiamo fare quello che vuole basta fermarsi e aspettare che terminano cioè un mese di tempo potevano discutere queste cose non so perché sta arrivando adesso regolamento abbiamo Presidente capisce allora io mi sono posto perché le chiudono le circoscrizioni e perché prevedono addirittura perché serve più coerente che voi diciate che le chiudete punto non che chiudete le circoscrizioni create altri organismi formati da undici del popolo non si capisce come vengono fatti cosa dovranno fare insomma un po' come le UTI siamo un po' così siamo un po' così allora mi sono domandato poi oggi leggendo il giornale caro Presidente ho scoperto che il suo collega di Udine il suo collega di Udine oggi si è lamentato con due colonne di giornale perché prende solamente 1600 euro all'anno e deve rimettere i soldi di Italia che può fare il Presidente del Consiglio di Udine non so se l'ha visto questo eh sì sul giornale adesso la la Regione ha detto che dovrà provvedere e addirittura ha aggiunto che solo Udine ha questo sacrificio forse io non so questo Presidente del Consiglio di Udine dove vive io gli direi che a Porto di None non c'è solo il Presidente del Consiglio che non prende niente ma c'è una provincia intera a differenza delle altre tre province che sono ben pagate che agiscono e fanno la loro funzione gratuitamente qua abbiamo il Presidente della provincia che lo può dire tanto allora dico magari voi della sinistra mettetevi un po' d'accordo perché qua non potete neanche dire che chiudiamo i circuiti di teori perché costano perché se diciamo che qua costano e poi Udine il Presidente del Consiglio vuole una prebenda aggiuntiva perché dice che passa un sacco di lavoro è sul giornale il Presidente del Vigionale ah vede che lo sa però la Regione la Regione ha detto che ci guarderà un po' perché questo signore che lavora così tanto in questo comune di Udine che non gli bastano i 1.600 euro per fare il Presidente del Consiglio mentre qua già tutti lo fate gratis ma qua è Pordenone non mica Udine questo è Pordenone chiaramente allora cancello anche il fatto che le circoscrizioni costano perché mi pare che ci agirano su 20.000 euro l'anno ma per quello che fanno e per il servizio che facciamo sul territorio pensano che siano dei soldi spesi bene e chi c'è passato in questi organi mi sa benissimo qual è il grande lavoro che fanno queste queste strutture che tra l'altro poi c'era tutto un programma della struttura circoscrizionale con i servizi sanitari col vigile di quartiere con l'attenzione sul quartiere e con l'avvicinamento alla cittadinanza dunque io ritengo che le circoscrizioni così come sono fatte per quello che costano e per la palestra civica che riescono a fare sul territorio sono fondamentali per una comunità che deve crescere sono fondamentali e sono tanto fondamentali perché lo proponete anche voi perché voi non dite chiudiamo questi organismi dite chiudiamo questi e poi ne facciamo altri che non si sa che cosa sono quasi un senso di di allergia al voto cioè non so avete paura di andare al voto e di eleggere dieci cosi di circoscrizioni io no magari l'avete immaginato guarda in questo caso tutte le maggioranze sono di sinistra le circoscrizioni sono vostre e state qua a dire voi stessi che le volete chiudere dovete darmi una motivazione molto forte molto seria per fare questo perché se le chiudete io vi dico coerenza chiudetele punto chiudetele punto non inventate altri organismi che poi saranno inoperativi e non si sa mai come sono fatte è come un po' la provincia che è stata chiusa la provincia di Pordenone per adesso solo quella per adesso solo quella poi le altre le vedremo per solo quella le uti non partono abbiamo una provincia che oggi proprio in funzione del risparmio si fa gratuitamente si fa con un presidente con due assessori con dei consiglieri che non costano nulla alla comunità non si riuniscono mai non si riunisce la commissione eppure la provincia davanti lo stesso mi dicono che è molto operativa lavora molto allora sono due le cose o siete dei maghi voi altri che siete oppure quelli di prima e questo potrebbe essere anche per il comune che ha otto assessori alla funzione del risparmio economico che ha otto assessori qua schierati con un sindaco potrebbe pensare che si potrebbe fare anche qua stessa cosa se funziona così bene si può fare qua anche stessa cosa no è certo è certo è certo basta farlo da Trieste in giù io sono anche d'accordo ma da parte l'avete cominciato da Roma e questo paese è già 3-4 anni che non si vota più non si vota qua si dà incarichi non si vota io magari arriverete anche a fare sindaco incaricato fra poco la vostra Presidente della Regione forse inventerà con il nostro Presidente del Consiglio di fare il sindaco incaricato le UTI siamo un po' lì le UTI siamo già lì lo studio è fatto così avete detto che non date nulla però avete messo tutti i sindaci perché i sindaci prendono invece i soldini e allora cosa succederà all'UTI l'UTI del Noncello sarà formato da 7 sindaci che prendono già i soldini fare i sindaci nel proprio comune è un po' come è una storia questa qua capite perché è come se domani noi dicessimo che non diamo più i 35 euro a chi ospita gli extramunitari vorrebbe vedere che non ne vuole più nessuno io sono sicuro che se togliamo i 35 euro gli extramunitari in questo Paese non ne vuole più nessuno difatti il centro di cultura islamica a difesa della Chiesa Cattolica in presione di questo non ne prende neanche uno perché qua è questa la barzelletta che tutti corriamo per questi ma i loro fratelli non li prendono li lasciano fuori dalla porta ce li teniamo soltanto no ma è così non può dire di no è così perché non lo ispettano loro scusi eh 800 200 non li può prendere il centro culturale islamico ma lì è venuto un imam ha detto quanto mi date 1600 no non mi date io torno in Aleppo e Straddita l'ha fatto l'altro giorno alla faccia del volontariato e tutto quello ma andiamo fuori il tema parliamo di sicurezione questa gente lavora ha lavorato per cinque anni e tutti l'avete apprezzata perché chi è andato alle assemblee territoriali della sicurezza ha potuto vedere quanta gente c'era molta più del consiglio comunale sicuramente e quanti apprezzamenti hanno avuto quei signori che non erano lì solo quella sera che hanno fatto l'assemblea per la sicurezza ma erano in quella sede più di qualche sera durante la settimana che lavorano vicino al cittadino forse anche più di noi consiglieri e allora io non comprendo se voi non mi date una motivazione molto valida perché a fine legislatura venite fuori con questa storia prima di creare una delibera sui beni comuni che poi è proprio una delibera italiana perché se uno si mette a leggerla non capisce niente di quella delibera cosa si dovrà fare di tutto e di più di tutto e di più dopo non basta quella volete ancora chiudereci con i listoni ma inventate un organismo di 11 membri che deve essere un listone unico che non deve avere configurazione politica che poi non si sa bene come deve essere votato che cosa dovrà fare gratuitamente naturalmente loro gratuitamente neanche i 15 euro di gettone della serata per prendersi un caffè niente magari dovete anche pulirvi per terra trovare una sede pagando l'affitto perché fra poco arriviamo a queste attusità se andiamo avanti così io dico ma questa maggioranza che tra l'altro gli ha creato tanti problemi questa scelta perché fa questo non lo comprendo forse perché qualcuno non riesce a fare i 40 consiglieri candidati non riuscite a fare 10 candidati con circoscrizione ma guardate che è più facile trovare i candidati circoscrizione che i candidati comunali perché nel territorio sono più maturi sicuramente dei partiti politici e riescono a trovarsi e vanno d'accordo anche tra di loro se le vedete lì non fanno distinzione politica quando operano però amano l'appartenenza amano l'appartenenza perché è giusto che sia così perché è giusto che quel laboratorio periferico e territoriale possa esercitarsi in una passione politica preparandosi per arrivare qua e chi ha fatto questo passaggio e ce n'è qualcuno qui di qualcuno sa cosa vuol dire lavorare e fare palestra nella circoscrizione vuol dire maturare capire la gente modificare il carattere essere disponibili lavorare per la propria comunità e il proprio territorio cosa che forse in comune chi arriva d'amblè perde questa connotazione io non voglio andare oltre perché tanto è stato già detto molto tre elementi però ho detto non capisco perché volete chiudere le circoscrizioni e non ditemi per il costo perché il costo è totalmente esiguo che non ha motivazione per questo se le volete chiudere vuol dire che le tenete inutili se sono inutili non potete creare un altro organismo parallelo solo perché gratuitamente e altre scatole varie che inventate voi in questa situazione qua secondo io penso che sia fondamentale la loro operatività e lo sapete e lo sapete non potete dire che non lo sapete lo sapete tutti l'utilità che ha la circoscrizione sul territorio perché tutti potete andare la vedere cosa decidono cosa fanno come lavorano e cosa programmano e cosa prospettano dunque dovete darmi una fortissima motivazione e nonostante tutto non può essere perché la vostra parte politica in questo paese da qualche anno sta eliminando tutta quanta la parte elettorale cioè la parte democratica democratica la provincia non si elegge più le circoscrizioni non si eleggono più abbiamo ancora i comuni che eleggiamo fra poco lo Stato viene tutto incaricato abbiamo visto gli amici degli amici tutti i toscani la fra poco io non so si vede che i toscani hanno grande qualità vi siete presi anche Verdini che non era vostro era toscano anche quello ma tutto dentro basta che sia toscano va benissimo allora dico non vorrei che questa qui fosse una pratica che magari inventate tra un po' il vostro presidente consiglio di non votare neanche nel 2018 perché l'Europa tutta questa cosa che c'è al mondo potrebbe anche fare in modo che non si debba neanche votare più in questo paese qua e questo è il pericolo allora dico se cominciamo anche da questi piccoli organismi che non nulla di importante politicamente hanno ma hanno importante per la cittadinanza per la nostra città per i nostri quartieri beh io comincio ad avere qualche preoccupazione io vi dico e vi esorto a ripensarci perché se voi siete coerenti e se questa stasera votate la sua presenza di circoscrizioni non dovresti creare nessun organismo parallelo e alternativo perché dovete dare una motivazione forte io vi chiedo solo questo un po' di coerenza se chiudete la circoscrizione e avete i voti per farlo questa sera dovete farlo e senza creare e se questa sera siete politici coerenti non riuscite a farlo dovete dimettervi tutti dovete andare a casa tutti perché avete cercato di sopprimere un organismo democratico e questa in politica è una cosa che non esiste per cui se non deve passare ciò che voi fate andiamo a casa tutti questa sera e anticipiamo le elezioni grazie grazie consigliere consigliere Pedicini prego grazie presidente io non vorrei ripetere l'intervento che ho fatto la volta scorsa perché ormai penso che i presenti li abbiano già sentiti un po' tutti però vorrei invitarvi a fare una piccola riflessione perché la politica ha un suo valore non è un fatto puramente occasionale di volta in volta allora abbiamo già ricordato che questa amministrazione la sua maggioranza quando si è presentata alle elezioni ha favorito la riforma delle circoscrizioni e ha inserito nel proprio programma il decentramento e quindi il coinvolgimento dei quartieri di questa città attraverso le circoscrizioni poi in questi cinque anni non è stata fatta quella riforma che ci eravamo impegnati a fare e dico impegnati perché eravamo tutti impegnati e oggi si chiede la soppressione per carità si può cambiare idea durante il corso dei cinque anni si può cambiare anche politica però la maggioranza a mio avviso dovrebbe fare una piccola riflessione al suo interno la maggioranza che governa questo comune che amministra questo comune ha la maggioranza per attuare questa delibera stando alla volta scorsa non mi è sembrato la maggioranza non ha i voti i 21 voti necessari ad approvare la prima delibera perché vorrei ricordarlo la delibera è passata con i voti della Lega Nord allora una volta politicamente si prendeva atto di una situazione perché si sarebbe dovuto aprire all'interno della maggioranza una verifica e dire se non condividiamo un atto importante della nostra amministrazione e se non abbiamo più la maggioranza per portarla avanti in modo autonomo e dobbiamo chiedere il soccorso della Lega Nord per fare questo si pone un problema politico non potete dire che non è vero che non esiste anche perché tra pochi mesi andrete ad elezioni su posizioni completamente diverse da una parte questa maggioranza e da una parte la Lega Nord però oggi si chiede alla Lega Nord di dare i voti necessari a far passare una delibera che non è casuale e che non è marginale non stiamo parlando del statuto degli asili nido dove possiamo essere tutti d'accordo a prescindere da maggioranza e opposizione e che abbiamo votato tutti a favore qui ci troviamo davanti a una situazione fondamentale si va a modificare lo statuto di questo comune quindi prima cosa una maggioranza qualunque si pone il problema di fare una modifica al proprio statuto intanto a larga maggioranza allora tutta la maggioranza è coesa perché condivide la modifica allo statuto e una parte dell'opposizione magari è d'accordo e quindi fa confluire i suoi voti perché una ampia condivisione porta a una modifica dello statuto stesso qui non siamo in questa situazione qui siamo in una situazione in cui la maggioranza non ha i 21 voti e chiede a soccorso la Lega Nord per poterli avere quindi è una scelta fondamentale per questo comune ma vedo che nessuno si pone il problema perché il giorno dopo del voto della una mese fa si sarebbe dovuto aprire una crisi all'interno della maggioranza almeno una verifica e di dire a quanti non l'hanno votata di dire scusa non stai condividendo il programma di maggioranza così ci prepariamo ad andare alle elezioni e a chiedere di nuovo la fiducia agli elettori se non siamo in grado neanche di garantire i voti di maggioranza e dobbiamo chiedere i voti alla Lega Nord può sembrarvi un fatto marginale io non penso che sia marginale io penso che sia un fatto importante che mette in crisi il valore stesso della maggioranza ecco perché venire qui questa sera se la maggioranza non se la prova non la prova ma se la prova con i voti determinanti della Lega Nord che si è schierata già in una posizione completamente diversa cosa andate a chiedere e a scrivere nel programma elettorale allora hanno ragione i cittadini i programmi elettorali si possono fare a meno di fare non servono perché se dopo vengono invece stravolti il primo obbligo che ha la maggioranza è di trovare l'unità al suo interno su una delibera fondamentale come quella della modifica dello statuto che poi guarda caso la modifica dello statuto non si dovrebbe fare a colpi di maggioranza risicati ma dovrebbe essere di larga maggioranza perché proprio perché lo statuto stesso prevede che ci sia una prima votazione che deve avere due terzi proprio perché chiede che il momento che si va a mettere mano alla carta fondamentale della convivenza civile all'interno dell'amministrazione comunale deve essere ampiamente condivisa e non è più maggioranza solo opposizione solo ma qui non c'è neanche la maggioranza questo è il problema politico forte voi potete far finta a ignorarlo ma invece non va ignorato e questo getta un'ombra di credibilità credetemi perché accordi posizioni politiche che andrete ad assumere se non siete in grado di fare chiarezza in questo momento al vostro interno sarà un problema anche per il futuro questo per essere molto chiari e dirci le cose come stanno a me è stupito che passa con i voti della Lega Nord e nessuno ha detto una parola nessuno ne ha parlato nessuno ha fatto presente la cosa guardate che una contraddizione di termini anche per la Lega Nord stessa attenzione perché voglio dirlo in modo molto chiaro è chiaro che la maggioranza che non ha la maggioranza non dovrebbe neanche portare la delibera tanto per cominciare perché se la maggioranza non ha i suoi voti per far passare la delibera ha bisogno dei voti della Lega Nord o forse di un altro partito la cosa ma lo stesso vale per la Lega Nord che vota una una delibera in questo momento proposta dalla maggioranza che ha versa e che non condivide e quindi si trova su una posizione ma in netta contraddizione con il suo alleato che vorrebbe poi affrontare le elezioni comunali quindi non sono neanche d'accordo fra Lega Nord e non so fratelli d'Italia perché io ho letto sui giornali come tutti voi l'appello del consigliere Loperfido dove chiedeva alla Lega Nord di rivedere la sua posizione invece alleanza per le amministrative ma su due posizioni completamente diverse anche in questo caso su un fatto marginale no un fatto sostanziale perché la partecipazione dei cittadini alla vita comunale quindi il decentramento le deleghe eccetera sono fondamentali per fare un programma elettorale ovvio che è fondamentale questo aspetto ed è meglio chiarirsi perché se un fatto come questo non si è d'accordo però ci si trova lo stesso uniti insieme non è anche questo un viatico positivo per il futuro quindi vedete che esiste una contraddizione sia da una parte che dall'altra mettendo insieme queste due contraddizioni questa sera vogliamo far passare la delibera ma in realtà stiamo creando veramente un mostro un mostro politico che chiude questo consiglio comunale nei suoi ultimi mesi di vita non in un modo limpido e lineare non in modo chiaro questo è il vero problema e guardate che questa è un'ombra che viene gettata sull'intero consiglio comunale perché ripeto stiamo ragionando dello statuto di questo comune non stiamo ragionando di una delibera marginale della vita sociale e amministrativa di questo comune ecco allora su questo io vi invito veramente a riflettere a far valere una volta per tutta la chiarezza politica che ci dovrebbe essere all'interno di questo comune io non trovo chiarezza in questo non trovo chiarezza nella posizione non trovo chiarezza neanche nella determinazione quasi chiusa per non dire un altro termine che si vuole portare avanti con questa delibera è chiaro che esiste una resistenza da parte della base di questa amministrazione delle circoscrizioni stesse lo hanno detto tutte le circoscrizioni di diverso colore politico lo hanno detto in modo molto chiaro che sono contrari che sono pronti a lavorare con una riforma e a lavorare in modo più concreto per la vita amministrativa quindi e decentrata di questo comune ma nello stesso e lo hanno detto in modo trasversale questo gli fa onore perché hanno lavorato in modo veramente trasversale in interesse dell'amministrazione noi consiglio comunale come rispondiamo a questo no dandogli quella riforma che chiedono abolendolo e proponendo cose pasticciate di cui non sappiamo neanche come giustamente ha fatto notare prima il consigliere non sappiamo neanche di come né come verranno né quando né come verranno realizzate che è tutto da discutere tutto da vedere allora in questo tipo di situazione voglio veramente fare un appello a voi tutti riportate chiarezza all'interno di un programma o la maggioranza è chiara la sua maggioranza ha la maggioranza per abolire o per fare ciò che ritiene opportuno fare ed è giusto che lo faccia ma se non ha questa maggioranza e deve ricorrere ai voti in questo caso perché non è un voto trasversale si sta verificando su una delibera marginale ma su un voto sostanziale della vita amministrativa vi invito a ritirare la delibera siete ancora in tempo a fare chiarezza siete ancora in tempo a riportare le cose nel giusto verso e c'è tutto il tempo per riaffrontare questa situazione perché quello che noi dovremmo fare ripeto non voglio ripetere quanto ho già detto la volta scorsa abbiamo tutta la possibilità e il tempo necessario per fare una vera riforma delle circostazioni e dare la possibilità alle circostazioni di lavorare nel migliore dei modi vogliamo abolirle vogliamo proporre cose nuove diverse bisogna sapere con chiarezza cosa si vuole fare non si chiude tanto per chiudere perché come è stato già antiamente detto non si capisce neanche lo scopo di questa manovra che rascia uno strascico e lascia sicuramente dei problemi maggiori ecco quindi con questo appello a ritirare la delibera e non forzare la mano in una situazione che a mio avviso non va forzata vi invito veramente a un momento di riflessione grazie consigliere consigliere Pammisano prego ecco anch'io condivido quanto ho detto dai consiglieri colleghi che mi hanno preceduto condivido pienamente e a tal proposito cerco di esprimere anche il mio punto di vista tra l'altro in coerenza con quanto ho detto il troppo alto troppo alto dai no 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 ecco in coerenza con quanto ho detto la precedente diciamo delibera allora dunque incomincio col dire che la gente mi ferma per strada e mi chiede ma era necessario era indispensabile presentare proprio a fine tornata amministrativa la delibera di soppressione delle circoscrizioni e non mi si venga a dire che in cinque anni non era stata mai trovata una maggioranza su questa delibera a proposito anche perché non mi risulta magari mi sbaglio ditemelo voi se una tale delibera così articolata e netta sia mai stata presentata in questo consiglio in precedenza per verificare se ci fosse stata la maggioranza per approvarla e a tal proposito di che tipo di maggioranza parliamo della maggioranza all'interno della coalizione di centrosinistra che governa la città da 15 anni oppure di una maggioranza qualsiasi ottenuta o ricercata come preferite meglio coinvolgendo anche le forze di opposizione parliamoci chiaro nel caso specifico della delibera 4 2016 sulla soppressione sulla soppressione delle circoscrizioni il ventunesimo voto che ha consentito alla stessa di passare in prima lettura è pervenuto proprio da una lista di opposizione che per idee politiche non mi pare che per idee politiche non mi pare essere vicina a quelle del centrosinistra anzi direi che su temi fondamentali i due schieramenti pensano in maniera diametralmente opposto e poi il modo in cui siamo arrivati a quel voto ricordo che da parte del PD era stata chiesta la sospensione del consiglio per dieci minuti e solamente in seguito a tale sospensione se volete sospendo tanto bravo bravo ho preso poche volte la parola fatemi parlare se me lo consentite mi assumerò la responsabilità di quello che dico ma consentite almeno di parlare prego allora riprendo e poi in modo in cui siamo arrivati a quel voto ricordo che da parte del PD era stata chiesta la sospensione del consiglio per dieci minuti e solamente in seguito a tale sospensione è stata presentata l'emendamento che prevedeva l'istituzione delle consulte in sostituzione delle circoscrizioni e pensare che in quasi cinque anni di tempo non si era mai ragionato a proposito di una forma alternativa in luogo della soppressione delle circoscrizioni ed è stato necessario sospendere il consiglio per dieci minuti per prevedere questo e si è tirato fuori il coniglio da cappello per un testo preconfezionato all'ultimo minuto perché naturalmente non dobbiamo dimenticare che in tutto il pacchetto c'era anche soprattutto la posizione e emendamento della Lega che se ben ricordo da numero 5 è diventata numero 7 e quindi passata in votazione dopo che la delibera del PD e del Fiume aveva già ottenuto il 21esimo voto della Lega che dire casualità o gioco delle parti diceva Andreotti che a pensare male si fa peccato ma a volte si azzecca ma forse questo è un dettaglio da poco conto personalmente mi chiedo come componente di questa coalizione di centrosinistra se il soccorso delle opposizioni nella fattispecie della Lega possa essere considerato come un aiuto un supporto benevole fatto al centrosinistra oppure se lo stesso possa in qualche modo considerarsi come un boccone avolenato faccio faccio questa ipotesi in considerazione del fatto che gli attuali consiglieri e presidenti delle circostizioni hanno manifestato in varie occasioni la loro contrarietà certo i presidenti sono a maggioranza PD ma i consiglieri contrari alla soppressione delle circostizioni sono espressioni di tutti gli scramenti Lega compresa inoltre alcuni di loro si sono già pubblicamente posti la domanda dico alcuni consiglieri diciamo circostizionali quanti voti perderà l'attuale maggioranza di centrosinistra cancellando le circostizioni anche perché probabilmente la maggioranza se non proprio la totalità dei 40 consiglieri di circostizione ha ragione nel dichiarare che la proposta di sostituire le circostizioni con le consulte è irricevibile proprio perché cinque anni fa con la delibera numero 30 del 7 marzo 2011 questo consiglio comunale confermò il mantenimento delle circostizioni previo riduzione dei consiglieri delle circostizioni e dei compensi con il preciso impegno che la prossima legislatura e cioè questa 2011-2016 sarebbe provveduto alla loro riforma e non alla loro soppressione infatti il programma elettorale del PD per l'amministrativa 2011 inizia con una frase di Italo Calvino le città sono un insieme di tante cose di memoria di desideri di segni e di un linguaggio le città sono luoghi di scambio come spiegano tutti i libri di storia dell'economia ma questi scambi non sono solo scambi di merci sono scambi di parole di desideri e di ricordi e a tal proposito e proprio in questo contesto ricordo che a pagina 5 dello stesso programma delle circoscrizioni del PD recita queste parole nuovi bisogni nuovi saperi soluzioni integrate non possono emergere rimanendo rimanendo ancorati alla frammentazione settoriale degli interventi alla fine non leggo tutto il testo dice che in funzione di questo in questa ottica proponiamo di reinterpretare e far evolvere le esperienze delle circoscrizioni attribuendo loro diverse funzioni luoghi di primo riferimento in cui si costruiscono relazioni tra i cittadini e le istituzioni centri civici aperti e fruibili a tutti spazi autonomi vedi laboratori come diceva il consigliere De Bortoli di autogoverno aperti alle diverse componenti della società che volontariamente si propongono di valorizzare il patrimonio sociale e locale servizi interattivi di comunicazione che veicolino le informazioni la documentazione le forme di consultazione tra i cittadini e le istruzioni e le istituzioni sedi in cui sviluppare percorsi di partecipazione mirati per i progetti e gli interventi di maggiore interesse per me la cancellazione anche considerando l'ipotesi l'ipotetica eventuale istituzione delle consulte non ha niente a che vedere con i concetti espressi nel programma elettorale del PD quando parla di evolvere e reinterpretare le esperienze delle circoscrizioni ebbene se il consenso elettorale si ottiene sui programmi sulla voce di programma circoscrizione tante liste che prevedevano le circoscrizioni hanno ottenuto diversi voti Vivo Pordenone ne ha ottenuto il 1994 preferenze mentre il PD che ha ottenuto il primato nelle circoscrizioni raggiungendo 4.465 voti e risultando primo in città portando a casa quattro presidenti questo è molto importante tutte le quattro presidenze sono andate al PD pertanto tra Vivo Pordenone e PD si hanno raggiunto la bella cifra di 6.454 preferenze credete che questi votanti che si erano riconosciuti nelle circoscrizioni nei loro eletti ora non si sentono defraudati e comunque credo che molte voci anche fuori da questo consiglio si leveranno per ricordare agli elettori questa vicenda del mancato rispetto del patto fra i lettori ed eletti sulla base dei programmi stilati ricapitolando quindi questa sera in consiglio di consigli è chiamata a liberare in seconda lettura sulla soppressione delle circosizioni passate in prima lettura il 18 gennaio 2016 con i voti del Fiume del PD e della Lega Nord tutto questo nonostante il programma elettorale del PD e anche di Viva Pordenone non parlava di cancellazione nonostante la contrarietà delle stesse circosizioni dei loro presidenti a guida PD nonostante la sollevazione popolare manifestarsi a favore del mantenimento nella pubblica assemblea a Villanova promossa dalla presidenta della circosizione sud anch'essa del PD e che come detto prima da sola ha avuto un buon risultato proprio alla sud nonostante il documento a sostegno del ruolo svolto dalla circosizione sud inviato al signor sindaco al presidente del consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali è sottoscritto da una trentina di enti pubblici associazioni parrocchie singoli cittadini molti autorevoli esponenti di tali enti erano presenti la sera dell'assemblea come il dottor Stoppa dell'azienda sanitaria Nadia Poletto dell'istituto comprensivo PN Sud Don Giuseppe Grillo parrocolo di Villanova quest'ultimo non per dare l'estremunzione prima della morte delle circosizioni ma per testimoniare assieme a tutti a tutti gli altri il proficuo intenso e onorato lavoro svolto dalla circosizione in tutti questi anni nonostante il mancato rispetto dei programmi elettorali iniziali e nella volontà chiara di ricercare maggioranze variabili dal di fuori della coalizione nonostante la facoltà che abbiano che abbiamo in derogo alla legge nazionale che non ci consentirebbero di averle ma proprio perché facciamo parte di una regione statuto speciale possiamo averle o meglio ancora possiamo continuare a mantenerle nonostante tutto questo questa sera vi apprestate a votare per la cancellazione di un organismo di partecipazione democratica decentrato sul territorio che da parte di molti che a parere di molti ha lavorato tanto e bene nei quartieri e soprattutto negli ultimi tempi in cui i problemi sociali stanno aumentando in maniera esponenziale non dimentichiamoci che le circoscrizioni sono servite anche come palestra di democrazia come diceva il consigliere De Bortoli infatti tanti consiglieri comunali che oggi siedono tra i banchi di questo consiglio hanno fatto la gavetta in circoscrizione come sottoscritto ebbene se questa sera passerà la soppressione delle circoscrizioni a giugno i rapporti che le stesse avevano con il territorio verranno a cessare ma certamente non perché i consiglieri e i presidenti non vogliono più collaborare con il territorio ma semplicemente perché chi vota a favore della soppressione ha impedito loro di continuare a mantenere quel dialogo tra il territorio e l'amministrazione comunale e non mi venga a dire che ci saranno le consulte perché le stesse ammesso che siano istituite ci vorranno alcuni mesi prima che incominceranno a operare e sicuramente non avrebbero la stessa autorevolezza che hanno le circoscrizioni ma soprattutto come ha detto un autorevole anziano consigliere circoscrizionale in prima commissione volete far nascere un organismo già morto in partenza e poi si vuole sostituire un organismo rappresentato dai partiti politici presenti in consiglio comunale con un organismo a partiti politico come se volessimo rinnegare il luogo dei partiti politici e quindi la nostra stessa presenza in consiglio comunale ricordo che un grande statista ha detto i partiti sono la democrazia che si organizza inoltre sarebbe stato più giusto approvare prima il regolamento delle nuove consulte e poi presentare la soppressione delle circoscrizioni che motivo c'era per tutta questa fretta anche perché sappiamo tutti che la fretta non è mai stata una buona consigliera tant'è che c'è un detto che dice la gatta per fare in fretta fece i figli ciechi sarebbe stato meglio a non aver rischiato ma soprattutto in rossorazione del fatto che abbiamo avuto cinque anni di tempo per fare quello che si vuole fare in pochi mesi ma oserei dire in questi pochi giorni che ci mancano alla fine dei lavori di questo consiglio comunale vede signor sindaco vede signor sindaco signor signori colleghi oggi ci viene proposta una delibera di cancellazione delle circoscrizioni vede signor presidente signor sindaco signori colleghi consiglieri oggi ci viene proposta una delibera di cancellazione delle circoscrizioni è per me che ho iniziato a interessarmi di politica proprio grazie a queste circoscrizioni 15 anni fa come posso condividere la loro soppressione se per tutti questi anni ho creduto come mi fanno parlare ho creduto al loro ruolo e mi sono sempre impegnato per dare il meglio di me stesso sarebbe come disconoscere tutto quello in cui ho creduto fino adesso ma io sinceramente non rimpiango nessun passaggio di tale esperienza anzi ne sono orgoglioso penso che gli stessi sentimenti che nutro io su questo tema dovrebbero averli anche tutti quei consiglieri comunali che oggi siedono fra questi banchi e che hanno vissuto l'esperienza di circoscrizione come il sottoscritto faccio molto fatica a credere il fatto che consiglieri con un trascorso per più legislatura nelle circoscrizioni lo abbiano fatto senza credere in ciò che facevano e se invece ci credevano come mai oggi vogliono abolire senza avere la certezza di un cambiamento in meglio dell'attuale sistema di rappresentanza democratica decentrata sul territorio anzi oggi passando la soppressione la cosa certa è che le circoscrizioni non esisteranno più forse ci saranno le consulte che a mio avviso non rappresenteranno sicuramente meglio i nostri quartieri sia sotto il profilo della rappresentatività che dall'autorevolezza e a questo punto mi verrebbe da dire come qualcuno ha detto prima che la toppa sarebbe peggio del buco dal punto di vista strategico questa soppressione alla vigilia delle elezioni amministrative significa dimostrare chiaramente che il programma elettorale 2011 e di tutta la coalizione di centrosinistra sul tema di circosizione è stata chiaramente disatteso in maniera inequivocabile fosse stata presentata quattro anni fa la gente nel frattempo si sarebbe anche dimenticata ma adesso invece a pochi mesi dalle elezioni significa proprio dimostrare che i programmi sono una cosa ma quello che poi la politica fa è un'altra oppure si conto sul fatto che i cittadini hanno la mente corta anzi direi cortissima con quale faccia andiamo a chiedere la fiducia ai cittadini sul programma elettorale se poi ce ne infischiamo di quanto abbiamo scritto e lo consideriamo a carta straccia i consiglieri circosizionali del PD e Vevo Pordenone che grazie ai loro impegni alla loro faccia hanno portato a tutta la coalizione di centrosinistra 6.459 preferenze vale a dire il 7% dei 9.482 voti con i quali e grazie ai quali il centrosinistra è riuscito a fare eleggere il proprio candidato sindaco Claudio Predotti cosa racconteranno ai propri elettori per chiedere nuovamente il rinnovo della fiducia come 5 anni fa ma sopra sarebbe opportuno per riflettere un po' su quello che andiamo a fare a questo punto mi chiedo e chiedo alla coalizione di centrosinistra come pensiamo di recuperare quei 6.459 preferenze ottenute attraverso le liste di circosizioni se le stesse questa sera verranno cancellate che cosa si dovrà raccontare a quegli elettori che invece le circosizioni avremo un domani le consulte e di stare tranquilli e votare ugualmente i partiti di riferimento vale a dire centrosinistra i quali partiti anche se hanno disatteso il programma elettorale 2011 cancellando e non riformando le circosizioni per il futuro si comporteranno meglio chi ci dice che un qualsiasi punto del nuovo programma che si andrà a scrivere non farà la stessa fine perché ci si dovrebbe fidare per arrivare al punto di chiedere la soppressione di circosizioni esse devono rappresentare problemi talmente profondi che non si riesce a risolvere diversamente se non con la loro cancellazione ma cosa hanno fatto di male e di grave quale crimine hanno commesso per meritare la condanna alla pena capitale senza appello hanno rubato non hanno svolti il loro ruolo assegnato dal regolamento comunale se non c'è niente di tutto questo allora io chiedo che sarebbe doveroso per rispetto delle persone per onestà intellettuale anche se quest'ultima parola fa sempre più fatica ad alloggiare nei palazzi della politica di riflettere attettamente su quello che stiamo per votare questa sera perché alla condanna capitale non resta altro che la richiesta di grazia e io a nome di tutti penso di poter chiedere in questo modo di interpretare il sentimento di tutti chiedo quantomeno il rinvio della condanna non per chiedere perdone per i crimini commessi ma perché si tratta di una clamorosa eclatante e ingiusta condanna magari chiedete un'ulteriore sospensione come avete fatto il 18 gennaio sulla prosecuzione su questa strada perché siete ancora in tempo di trovare una soluzione autorevole e onorevole per tutto il centro-sinistra grazie grazie consigliere consigliere martino prego grazie presidente ecco io scusate consiglieri se non volete seguire il dibattito fatemi la cortesia di accomodarvi fuori se dovete chiacchierare perché effettivamente è difficile poter esporre no vi chiedo di far silenzio prima di tutto ecco io non ho non sono intervenuto nel il mese scorso quando si è parlato della delibera sulle circoscrizioni però ho ascoltato attentamente tutti gli interventi che si sono che si sono che i colleghi hanno fatto e anche quelli di stasera devo dire che sono state dette tante cose ma diverse di queste cose non corrispondono alla realtà proverò nel mio intervento così a fare delle delle precisazioni delle dichiarimenti ecco siamo qua ancora una volta a parlare di circoscrizioni e fuori il mondo cambia velocemente siamo a parlare di circoscrizioni quando c'è una riforma del senato le province si stanno cancellando nel resto dell'italia la norma nazionale prevede che il testo unico appunto che le circoscrizioni possono sono state cancellate in tutti i comuni fino ai 500.000 abitanti e noi qua solo perché in regione per perché abbiamo una norma essendo a statuto speciale di competenza primaria in materia di enti locali abbiamo mantenuto e lo dico ai colleghi che invece parlavano di voto trasversale questa sera e si scandalizzano che sia con l'aggiunta tondo c'è stato un voto trasversale dove le circoscrizioni sono state diciamo in un certo senso mantenute o meglio è stata data la facoltà ai comuni di poterle mantenere e non vedo perché ci si scandalizza quando anche nella tornata amministrativa precedente i colleghi di centrodestra hanno votato hanno votato per il loro mantenimento anche se con la riduzione del numero delle circoscrizioni e del numero di consiglieri quindi caro Palmisano caro Pedicini e cari altri colleghi non vedo questo scandalo perché voto trasversale c'è stato quella volta non lo so sarà anche questa volta ma non vedo perché viene citato solo a convenienza ecco su una cosa si è su una cosa si è tutti d'accordo mi pare almeno sia in consiglio comunale ma anche nelle circoscrizioni ripeto quando interveni tu e vabbè pazienza ascolta puoi non condividere però mi pare che il concetto sia chiaro sono dati poi oggettivi ecco dicevo su un punto si era d'accordo e cioè sul fatto che le circoscrizioni dovessero essere riformate perché così come sono non funzionavano io l'ho sentito dire quando ho fatto l'esperienza in circoscrizione a Borgomeduna l'ho sentito dire da altri colleghi quindi la necessità di operare questa riforma mi pare che era il minimo si può discutere sui tempi su altre questioni però adesso siamo qua e di questo parliamo riformarle cosa significava si potevano riformare in alto si poteva diciamo oppure a ribasso per riformarle in alto caro collega Palmesano che dicevi dei risultati ottenuti a destra e manca devo dire che per riformarle dando più funzioni dando più competenze non siamo è cambiato il mondo in questi ultimi anni quindi non possiamo quello che anche le proposte che hanno state presentate nelle tornate amministrative precedenti con mi ricordo una riforma una proposta dell'assessore Pagliaro anche di Maria ormai sono superate io devo dire che sento parlare di queste benedette circoscrizioni ma non ho visto un articolato non ho visto qualcuno di tutti quelli che oggi dicono che è necessario mantenere la riforma non ho visto un articolato ho sentito solo qualche relazioncina stop quindi di cosa stiamo parlando perché chi chi aveva interesse voglia o perché ci credeva non ha presentato un articolato secondo e magari raccogliendo i voti che riteneva di ottenere in consiglio magari l'avremmo valutato magari avremmo anche dalla parte dell'opposizione poteva essere fatto l'avremmo valutato anche noi vista invece ciò non è successo io dico queste cose non perché me le invento e la realtà sono i dati i dati di oggi e a proposito dei dati devo dire che sono dati riferiti a novembre 2015 che ho chiesto agli uffici ho chiesto quanti consiglieri dell'attuale tornata amministrativa si sono dimessi alla sud si sono dimessi sei consiglieri alla centro due a Rorai uno e a Torre due questi sono dei dati poi magari vediamo come possiamo leggerli ho chiesto quante sedute di consiglio sono state fatte per ogni circoscrizione distinte per anno allora leggo solo il dato il più basso e il più alto senza stare qui a dare che non ha senso allora nel 2011 però eravamo l'anno dell'elezione ci sono stati il minimo sei il massimo sette consigli nel 2012 il 12 il minimo e 15 il massimo nel 2013 12 a Torre 18 a Rorai prima non ho citato la circoscrizione vabbè nel 2014 6 alla sud e 17 a Rorai nel 2015 9 a Torre 19 a Rorai con una media di presenza di circa il 77% la media poi ci sono picchi un po' più basse più alti rispetto dei consiglieri presenti l'età media è oltre i 40 anni vi ricordo ricordo perché penso che è capitato anche a voi che per fare le liste nelle circoscrizioni c'erano i nominativi gli stessi nominativi che erano in circoscrizione erano anche il consiglio comunale o addirittura è capitato a me nel 2006 ero in circoscrizione sud in circoscrizione Borgomeduna e il consiglio comunale perché non si trovavano persone disponibili a spendersi questo per quanto riguarda la partecipazione ora se questi sono numeri che sono dati oggettivi non credo che si lasciano leggere sono dati e quindi non so di cosa stiamo parlando quando parliamo di rappresentatività o altro il fatto dicevo prima della riforma la questione principale è stato detto anche la volta scorsa non è il costo perché il costo io credo che quando si parla di democrazia la democrazia ha un costo e quindi benvenga quando i soldi sono spesi bene soldi pubblici naturalmente e quindi non è neanche questo è un discorso che ormai sono cambiate è cambiato il mondo dicevo prima sono cambiate tante cose addirittura i consigli comunali abbiamo presentato una mozione i consiglieri comunali abbiamo presentato una mozione per la riduzione mentre a Brescia che ha 300 e passa mila abitanti hanno 32 consiglieri noi ne abbiamo 40 con 50 mila abitanti quindi la rappresentatività io credo è 40 consiglieri in una in un territorio come il nostro con 51 mila abitanti credo che siano sufficienti poi si può discutere poi ecco rispondo pure ai colleghi che parlavano solamente di soppressione noi ci siamo impegnati di votare questa delibera per la soppressione ma anche contestualmente di proporre qualcos'altro è cosa che il PD ha fatto e quindi dare in questa maniera diamo fede al programma che abbiamo presentato ma non come PD ma era un programma di coalizione si parlava ancora quando c'era Bolzonello di riforma e di centri civici adesso verranno presentate le consulte quindi l'impegno che ci siamo presi come PD lo stiamo portando avanti nel rispetto di questo Consiglio Comunale e dei cittadini come esperienza personale io ho fatto un mandato a Borgomeduna neanche completo sono demesso l'ultimo periodo ma devo dire che la partecipazione del pubblico perché quando si parla di partecipazione bisogna intenderla a 360 gradi tranne i casi di del divieto al pubblico di partecipare alle sedute nelle altre occasioni io non ne ho viste molte di persone che venivano lì in consiglio di circoscrizione anche se veniva pubblicizzato con la bacheca in quartiere sui giornali le uniche volte che ho visto le persone che sono venute in circoscrizione è stato quando si è trattato della riqualificazione di via Udine perché ognuno ha partecipato perché ovviamente è interessato direttamente e quando è stato fatto il laboratorio sulla rotonda di Borgomeduna però l'iniziativa non è stata solo della circoscrizione che comunque ha lavorato e ha dato il suo contributo ma l'iniziativa era comunale e ha fatto quell'esperimento ben riuscito quindi tutta questa partecipazione io non l'ho vista non so nei vostri consigli ma quando ci sono stato io appunto non ho visto tutta sta gente tant'è che se poi le circoscrizioni devono intercettare i problemi dei cittadini non solo la buca non solo queste segnalazioni che comunque c'è già un sistema in comune che permette di fare questo al cittadino non serve che venga detto al consigliere di circoscrizione c'è un sistema telematico facile da utilizzare che si può appunto mettere in atto ci sono stati due comitati io ricordo in quel periodo ma anche adesso uno in comitato di via Levade e mi pare che lì non è stata la circoscrizione a intercettare quel problema è stata una sollevazione di tutto di una buona parte del quartiere recentemente con questa tornata amministrativa c'è stato un altro comitato per la rotonda di via Udine lì vicino all'Eurospin quindi ragazzi quando si parla di appunto di coinvolgimento deve essere un coinvolgimento che riguarda sì i cittadini ma in un rapporto con l'amministrazione che il consigliere comunale poi magari parlando delle consulte si potrà quello sarà un contenitore come dire dove dovranno essere esplicitate delle le funzioni anche lì possiamo trovare dei modi coinvolgere i consiglieri nelle singole circostezioni fare il consigliere il consigliere comunale che è referente per come hanno fatto altre città dove appunto sono state soppresse le circoscrizioni e le amministrazioni l'amministrazione ha delegato un referente non serve cioè le idee e avremo modo nella quando parleremo di consulte di consulte si potranno si potranno potranno essere fatte presenti venute un'altra cosa che volevo dire ho 15 minuti o va bene ma me ne servono molte meno uno no 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 assolutamente un altro punto che volevo mettere in evidenza è quello delle che i pareri fino adesso io ho fatto due mandate con questo di consigliere comunale non ho visto mai un parere di circoscrizione che abbia spostato un qualcosa in seno a una delibera si è preso atto che magari in alcuni casi qualche circoscrizione ha votato in maniera negativa però è rimasto tutto inalterato sono pareri consultivi e quindi che non cambio le scelte ecco perché allora la riforma se riforma deve essere come dicevo prima o in alto cioè nel senso di dare più funzione ma non mi pare che siamo in un periodo che si possa fare questo perché i costi si che li eviterebbero in quel caso oppure riformandole tenendo conto e dando la possibilità ai cittadini della partecipazione io credo che la consulta chiamiamola così in altre realtà si chiamano comitati di quartieri in altre realtà ancora si chiamano in un altro modo potrebbero essere potranno essere delle un modo per coinvolgere i cittadini e farli partecipare anche perché per i motivi che ho detto prima non tutti i cittadini sono disponibili a mettersi a disposizione in una lista di partito tant'è che dicevo prima io ero nella stessa tornata in tre liste magari con le consulte e con il coinvolgimento delle associazioni di tutto il mondo del volontariato e non solo si potranno coinvolgere più cittadini in maniera appunto apartitica in maniera da dare il proprio contributo tant'è che anche le associazioni in qualche maniera fanno un lavoro egregio danno il loro contributo anche adesso anzi semmai dovremmo a Pordenone ma chiaramente più a livello nazionale dare sempre più possibilità alle associazioni sostenendoli economicamente già lo si fa ma con risorse magari ridotte le associazioni le parrocchie gli oratori potrebbero essere maggiormente coinvolte nel sostenere l'amministrazione di turno e questo potrà essere fatto io ci credo in questa iniziativa delle consulte sarà l'amministrazione che dovrà chiaramente fare un'azione importante di coinvolgimento e quindi di partecipazione grazie grazie consigliere consigliere Loperfido prego grazie presidente e grazie ai colleghi i quali sono intervenuti con dati e anche riferimenti storici che fanno capire come il tema si è sentito e per affrontare la discussione è necessario anche approfondire ciò che ci ha portato a questo a questo momento io ho cercato di raccogliere un po' di appunti e cercherò di dare un po' di linearità per quanto possibile senza cercare di ripetere eccessivamente quanto detto anche dai colleghi però magari a furia di ripeterle gioverà qualcuno perché nel momento in cui vado nel momento in cui sento una maggioranza di centro-sinistra che si schiera fortemente contro l'esistenza delle circoscrizioni poi andando a ripercorrere quello che è stato anche a livello regionale citato però credo in modo erroneo dal collega Martino vedo che il il fatto che in consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia da Ciani a Cociancic da Dalmas a Pedicini per arrivare ai capogruppo del Partito Democratico tutti quanti decisero di fare sì che anche in regione del Friuli Venezia Giulia anzi no non che anche che in regione del Friuli Venezia Giulia a differenza di altre regioni le circoscrizioni invece avessero ragione ragione di esistere e non è che siano passati al contrario fui obbligato si si sono obbligato non non usare questi argomenti perché è pericoloso fui obbligato mi spiego la volta dell'operazione però oggi non ho capito mi affido mi rimetto all'aula ovviamente perché non è che sono passati 80 anni e che quindi il mondo è cambiato in modo così rivoluzionario dico forse possiamo anche cercare di capire che magari nel momento in cui dobbiamo andare a cambiare lo statuto del comune di Pordenone forse si possono prendere con più attenzione determinate decisioni e il sottoscritto tra l'altro è uno di quello che ha rivalutato la sua posizione proprio perché in contatto con coloro i quali il territorio nei vari quartieri lo rappresentano e memora anche di quella che è stata l'esperienza personale nel passato ho rivalutato la mia posizione come ho detto anche in precedenza e credo che un simile atto fatto in zona Cesarini magari non sia l'atto più appropriato da approvare anche perché poi io capisco capisco il fatto che bisogna dare segnali per dire anche noi abbiamo tagliato la spesa pubblica abbiamo contribuito a far sì che il comune di Pordenone sia un comune di quelli virtuosi che usa bene i propri quattilini però se vediamo quello che è il costo per minuto delle circoscrizioni che operano sul territorio dopo che in modo volenteroso tanti battono il territorio cercano di capire qual è la situazione da affrontare dandovi una priorità cercano di parlare di entrare in contatto con gli uffici e dedicandosi non certo per una questione economica mi chiedo se il costo per minuto che hanno le circoscrizioni sia più responsabile del costo della cosa pubblica del costo per minuto che hanno le commissioni in capogruppo per esempio perché le commissioni in capogruppo che durano sì e no dieci minuti costano se andiamo a vedere i costi per minuto molto di più di quello che costano le circoscrizioni eppure decidono cose probabilmente meno importanti di quello che decidono le circoscrizioni oppure mi chiedo se tagliare due assessori come aveva promesso di fare lei signor sindaco era forse un modo migliore per dimostrare che si vuole tagliare sulla spesa pubblica cosa che non è mai stata fatta da parte di questa giunta comunale allora questo principio per cui si taglia sempre ma mai a partire da se stessi si taglia sempre a partire dal più distante forse è soltanto un modo per dare impasto all'opinione pubblica il fatto che qua si vuole tagliare allora cosa tagliamo chi ha quella la voce magari più flebile perché sono più distanti sono più decentrati e magari se protestano tanto nessuno lo ascolta perché noi abbiamo la forza della maggioranza e il bello che voi la forza della maggioranza non ce l'avete neanche allora giustamente diceva il collega Pedicini riforme del genere sono riforme dello statuto sono riforme importanti per cui quantomeno non avendo la forza della maggioranza forse un attimino un passo indietro lo farei perché posso capire voi dopo andrete probabilmente non lo so a vedere che avete 21 bandierine puntini verdi tutti quanti contenti coscienza a posto perché tanto era importante allora guardi collega Conficoni io mi ricordo quando lei era consigliere di circoscrizione era consigliere di circoscrizione e andava a battere citofono per citofono per cercare di capire quali erano le problematiche della città e oggi che lei è incravattato perché fa l'assessore e va a fare le cose ben più importanti partì proprio da lì dalle circoscrizioni per una scuola politica ecco e allora se se lo ricorda allora collega collega Conficoni se lei ascolta se lei ascolta se lei ascolta io io dico l'ho votata l'ho firmata ho fatto un passo indietro perché mi sono reso conto che in questo in questo modo non è la riforma da fare perché la circoscrizione ha ragione di esistere nel momento in cui nel momento in cui lei che è pavido lei che è pavido che fa finta fa finta di essere colui il quale fa le cose per bene per la città lo pubblica subito su facebook facendo incazzare anche i suoi colleghi di maggioranza che le impediscono di fare le foto e continua a fare il sorriso così simpaticone lei signor assessore Conficoni che oggi è ben così incravattato avrà fatto forse le foto per la prossima campagna elettorale visto che lei sarà l'unico degli assessori qua presenti che ha la forza di ricandidarsi dopo il fatto di avere avuto una maggioranza che sostiene un sindaco che per la prima volta nella storia non si ricandida alle elezioni comunali probabilmente perché c'è qualcosa che non gira per il verso giusto in questa maggioranza tanto di cappello di fronte a un sindaco che ha il coraggio di prendere atto che non è il caso di ripresentarsi però forse anche lei potrebbe fare a meno di ripresentarsi perché assessore le ricordo che quando lei era presente in circoscrizione quando lei era presente in circoscrizione si dedicava all'attività di quartiere per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini che magari non erano diciamo una priorità per le amministrazioni comunali allora al momento in cui esistono questi organi di decentramento previsti dalla democrazia e previsti dalla costituzione mi chiedo come faccia una maggioranza di sinistra che si rifà a Gramsci visto che è stato citato anche dal sindaco prima a Togliatti che vedeva la partecipazione all'interno dei partiti come il modo migliore per far sì che la democrazia funzionasse e mi chiedo e mi chiedo anche come faccia questa maggioranza di centrosinistra che fa parte è composta da anche un partito che si chiama Democratico eppure in questo momento il partito Democratico si sta distinguendo per due cose per due cose fondamentali uno per l'eliminazione della provincia di Pordenone perché al momento l'unica che è stata eliminata esiste ancora perché ci sono i consiglieri provinciali ma sempre nel nome del del renzismo per cui è più importante la notizia che i fatti la provincia di Pordenone esiste soltanto grazie a consiglieri provinciali che lo fanno gratuitamente ma per quanto riguarda i consiglieri io poi tra l'altro sono di Pordenone quindi non mi costa neanche troppo curarmi del territorio ma ci sono consiglieri provinciali che fanno bene il proprio mestiere e lo fanno per passione visto che magari girano sul territorio per cercare di far sì che gli interessi del proprio territorio vengano tutelati ma soprattutto ci sono anche membri della maggioranza cioè due rappresentanti della giunta che o fanno o fanno uso di fondi propri personali per far sì che l'attività istituzionale venga portata avanti o altrimenti non si capisce per quale motivo dovrebbero spendersi in modo volontario per coprire le spalle ad una riforma fatta male e andare a vigilare sul territorio a portare le proprie attenzioni dell'amministrazione provinciale sul territorio facendolo gratuitamente perché la politica è un qualcosa di importante e fare attività politica ed essere remunerati per l'attività politica non ha niente di sbagliato non c'è niente di male per chi fa bene attività politica è giusto che prenda il proprio rimborso che possa essere un rimborso speso che possa essere anche un'indennità e allora non è che le cose si fanno a colpi di maggioranza perché oggi va bene così perché fa figo tagliare le province tagliare le circoscrizioni no le cose bisogna farle con una serie a Pordenone è la provincia la provincia è l'unico ente che è stato tagliato e per quanto riguarda gli enti locali per quanto riguarda gli enti locali io penso che nel rispetto dell'attività svolta da parte dei consiglieri mi chiedo per quale motivo tutto di colpo ciò che andava bene fino all'altro ieri oggi non va più bene e per quale motivo è preferibile pensare che si possano istituire delle consulte ancora non ben definite secondo le quali poi secondo le quali poi sul territorio ci saranno sì dei rappresentanti ma saranno definiti in base a non ben precisati criteri e non vorrei che fossero gli stessi criteri che hanno visto magari non so la partecipazione alle primarie di Milano per cui una frotta di cinesi deciderà a un certo punto che i rappresentanti della zona di Borgomeduna sarà Tizio e Caio o che magari i rappresentanti della consulta della zona di Villanova saranno unicamente coloro i quani hanno la tessera di quell'associazione piuttosto che di un'altra è che magari rispetto a i rappresentanti della consulta no perché poi a richiamare quando parla lui è bravissimo io ho 30 minuti è il tempo che si sfoghi ed inizio magari è difficile dire qualcosa di concreto però magari fa anche più onore rispetto a quelli che votano sempre come le pecore perché lo dice il capogruppo di maggioranza presidente no scusi perché a un certo punto non si può continuare a parlare in questa aula quando quelli di minoranza che parlano i suoi colleghi in precedenza hanno parlato con un rumore che sarà stato dieci volte superiore al suo con questo non voglio dire che lei non debba avere il silenzio che le deve essere riconosciuto però voglio dire adesso no allora guardi presidente lei è il presidente che deve far sì che l'aula rispetti il silenzio e quindi non è di certo la mia responsabilità il fatto che alcuni siano stati interrotti lei deve lei deve far sì che tutti possano parlare e quindi se i colleghi sono stati interrotti non è di certo la responsabilità del sottoscritto ma nessuno l'ha attribuito nessuna responsabilità stia tranquillo quindi io esigo quanto meno che quando parlo intervengo se qualcuno ha qualcosa da dire può farlo ma tranquillamente ma senza poi interloquire col sottoscritto stuzzicando con battute abbastanza di basso ecco quindi dicevo leggo quanto un presidente di circoscrizione del partito democratico della provincia del comune di forlì diceva è palese l'ilarità e il doloroso risentimento che in tali affermazioni riguardanti il fatto che il consigliere di circoscrizione si arricchisca con l'indennità tali affermazioni suscitano in chi spende il proprio tempo e le proprie energie con la finalità di essere utile alla collettività e di tentare di costruire dal basso una società più giusta e più funzionale ai bisogni dei cittadini arricchendosi mediamente sieno i 250 300 euro lordi l'anno che è quello che percepisce un consigliere circoscrizionale sorge un dubbio con la soppressione di circoscrizioni che si voglia dare in pasto qualcosa ai cittadini e si comincia dall'ultimo anello nonostante il suo costo sia irrisorio senza nessuna riflessione sulla sua efficacia ed utilità e si raggiunge un altro obiettivo togliere dal campo un organismo istituzionale della democrazia partecipata scelto dagli altri elettori con suffragio diretto di primo grado per ridurre sempre ed ancora di più i luoghi e le occasioni in cui i cittadini possano partecipare alla definizione dell'orientamento amministrativo di governo è assolutamente da apprezzare l'impegno di quegli amministratori pubblici quei dirigenti e tecnici che si stanno sforzando di cercare soluzioni alternative che possano supplire all'abbandono dell'elettorato rispetto alla partecipazione alla partecipazione ma non è affatto la stessa cosa se questi sono livelli istituzionali di rango legislativo o concessioni di municipalità illuminate e allora nel momento in cui questa maggioranza composta anche dal partito democratico potrà vantare nel proprio scursus durante la maggioranza che ha durante questa tornata amministrativa che l'ha vista legiferare sia in comune che in provincia che in regione potrà vantarsi di essere la maggioranza che ha soppresso le circoscrizioni soppresso la provincia creando enti che vengono nominati o creando enti di secondo grado mi chiedo quale sia la validità del termine partito democratico nell'accezione più importante del termine che era stata anche presa in considerazione da parte dei fondatori del maggior partito democratico della sinistra e allora andando a vedere anche lo statuto del comune di Pordenone che ho perso ma cerco di ricordare lo statuto del comune di Pordenone ha un preambolo che brevemente racconta di una cavalcata progressiva verso la libertà l'autonomia l'indipendenza e parte dallo statuto del 1291 statuto che è alla base del diritto civico pordenonese e questo statuto quello appunto del 1291 era lo statuto che conferma i diritti le libertà e i privilegi di Pordenone rispetto al territorio e ai governanti austriaci poi c'è tutta una serie di ulteriori ulteriori conquiste di libertà e autonomia da parte del comune di Pordenone fino ad arrivare ed è l'ultima riga scritta all'interno del preambolo dello statuto del consiglio comunale del comune di Pordenone cita nel 1968 Pordenone diventa comune capoluogo di provincia ecco nel momento in cui doveste anche andare ad approvare la soppressione vi chiedo di potervi vantare nel preambolo di poter immediatamente potervi vantare di essere coloro i quali hanno contribuito alla soppressione delle province e soppressione anche delle circoscrizioni perché d'altronde è una modifica tale che merita di essere scritti nei libri della storia di Pordenone come si cita le conquiste di libertà le conquiste democratiche le conquiste di carattere sociale si citano quando sono conquiste di carattere fondamentale se questa cosa dovesse passare da domani vi esorto a modificare anche il preambolo dello statuto del consiglio comunale e a proposito del regolamento e a proposito del regolamento noi abbiamo un organo democraticamente eletto riconosciuto è previsto dallo statuto comunale e poi siccome comunque tutti quanti ne riconosciamo l'importanza del ruolo che riveste tant'è che non è che si sopprimono si sopprimono però poi faremo le consulte oggi ovviamente non si parla delle consulte perché non siete proprio nati ieri sapete fare le cose quasi bene però sappiamo benissimo che si sopprimono le circoscrizioni però sia mai che sta cosa ci porti scompenso a livello affettivo nei confronti dei nostri compagni di partito cercheremo di fare quanto prima le consulte trasformando una cosa importante come quella descritta anche dai colleghi in una specie di consiglio dei ragazzi e allora persone che si dedicano al bene comune lo faranno gratuitamente lo faranno senza sapere sulla base di cosa entreranno a far parte di queste consulte però comunque si fatelo vi diremo noi di che cosa dovrete parlare e poi decideremo anche se magari l'iniziativa che ci sottolineate è meritevole anche di essere finanziata perché alla fine è questo che farete deciderete sulla base di chi è più vicino a voi che cosa è meglio sostenere e allora siccome si parla comunque di soldi pubblici sarebbe il caso che si tenesse in considerazione una cosa fondamentale per avvicinarsi a questa tipologia di partecipazione che la gente scelta per la partecipazione di questi nuovi istituti fosse una scelta basata sui criteri di carattere democratico e non nominale perché stiamo andando verso una democrazia che vede senatori nominati deputati i cui capilista sono nominati e gli altri forse verranno eletti le province abbiamo detto che le abbiamo tagliate forse le circoscrizioni le sostituiamo con qualcuno che viene nominato sulla base di cosa non si sa e tutto questo da parte di una maggioranza di centro-sinistra in cui appunto c'è il partito democratico perché io quando ho iniziato a fare politica cioè ricordo che fine Conficoni alleanza nazionale e mi dicevano che per essere democratico dovevo confrontarmi sempre con il giudizio popolare me lo dicevano i maestri di partito dell'amico Conficoni e mentre oggi siete quelli che il giudizio popolare non è più importante perché oggi noi siamo quelli forti siamo quelli bravi e quindi possiamo decidere noi chi deve entrare dentro gli istituti che vanno poi a disciplinare e governare il territorio fidatevi che siamo quelli bravi e sceglieremo i migliori e allora se permettete preferisco che a scegliere sia sempre il popolo non voi anche perché ripeto anche perché ripeto e concludo ripeto non prendiamoci in giro se si vuole fare bene l'attività politica tanti vanno in giro in bicicletta sempre come Conficoni ma se c'è da girare un territorio più largo ci sono anche dei costi se uno vuole affrontare bene una questione capire cosa sta succedendo nel proprio territorio nel proprio quartiere capire che tipologia di decisione bisogna prendere capire bene qual è la situazione magari non so di un determinato gruppo o di una di una determinata famiglia all'interno del quartiere bisogna dedicarsi ritagliare il proprio tempo e magari prendersi anche una giornata di di permesso dal lavoro ed è giusto che questa cosa venga pagata perché altrimenti se non viene pagata voi inizierete a far fare a permettere di fare politica soltanto chi se lo può permettere mentre il poverello che deve portarsi a casa lo stipendio per mantenere la famiglia non può permettersi il lusso di fare attività politica perché farla gratis o appunto uno ce l'ha i soldi altrimenti non potrà farlo perché ti dirà sempre non ho tempo devo andare a lavorare allora se volete fare in modo che possa fare attività politica soltanto chi ha i soldi allora vi invito oltre a cambiare lo statuto cioè essere coloro i quali si potranno vantare di avere abolito le circoscrizioni vi invito anche a cambiare magari la vostra visione della politica perché sarete coloro i quali permettono di fare la politica soltanto chi ha i soldi quindi cari colleghi di maggioranza rivalutiamo questa situazione rivalutiamo questa posizione non c'è fretta di fare una cosa così importante che appunto meriterebbe di entrare nel preambolo dello statuto comunale non è giusto che venga deciso in zona cesarini ci possiamo impegnare tutti quanti magari a far sì che possa essere la prima decisione del prossimo consiglio comunale con quello che avremmo dovuto fare durante questi cinque anni convocare la commissione regolamento dare più potere alle circoscrizioni facendoli in modo che tutti coloro i quali si impegnano quotidianamente potrebbero dare ancora maggior importanza a quello che fanno e invece ce l'abbiamo fatto probabilmente non c'era una maggioranza ma una maggioranza non ce l'avete neanche adesso perché probabilmente ci sarà qualcuno che come diceva D'Alema verrà a farvi da costola però penso che una maggioranza che si rispetti nel momento in cui va a fare una modifica così importante prima di fare una modifica così importante vedendo di avere probabilmente soltanto 20 voti e non 21 prima di fare questa figura una riflessione ulteriore la farei e augurandole tutto il bene possibile ovviamente nel gioco delle parti nel massimo del fair play vorrei che anche la candidata sindaco del partito democratico esprimesse una opinione in merito perché questo cambiamento di rotta da parte del partito democratico sulle circoscrizioni è ovviamente qualcosa che è fondamentale quindi se la candidata del sindaco del partito democratico è anche la portabandiera del partito che sta per abolire le circoscrizioni è un messaggio che è importante perché è un messaggio politico forte ovvero è una soppressione sostenuta nell'interezza del partito nella figura del prossimo candidato sindaco grazie grazie consigliere consigliere loro prego grazie presidente nel mio intervento non mi dilungherò sui motivi per cui ritengo che procedere con la cancellazione delle circoscrizioni sia una scelta sbagliata sia perché appunto è previsto un secondo intervento successivamente per cui potrò eventualmente spiegarlo più nel dettaglio e sia perché negli anni degli interventi nel corso degli scorsi seduti degli scorsi consigli comunali ho avuto ampiamente modo di dimostrare per quali ragioni questa scelta fosse sbagliata insomma la prima che però qui ricordo è quella che personalmente che condivido è che la democrazia deve essere il più possibile partecipativa e il più possibile orizzontale per cui le circoscrizioni sono un esempio un'applicazione concreta di questo principio potrei anche appellarmi al programma elettorale come ha fatto anche il collega Palmisano per cui appunto noi ci siamo presentati ai cittadini agli elettori proponendo una riforma e non una cancellazione delle circoscrizioni ma quello che mi preme sottolineare qui in questo momento è il punto politico della questione infatti con la scorsa approvazione abbiamo stabilito che non c'è la maggioranza quello è il perimetro diciamo così naturale della maggioranza di centro-sinistra che governa la città su questa delibera e io credo che questo sia un punto importante uscire dal perimetro della maggioranza soprattutto per il PD è un fatto che comunque non ci fa onore io e il collega Passone abbiamo più volte detto che non eravamo d'accordo su questa delibera per le ragioni che sono presposto ma nonostante questo si è voluto ugualmente procedere con il risultato di aver si approvato la delibera ma signori miei a quale costo al costo di avere la stampella della Lega Nord la Lega Nord è un partito agli antipodi rispetto a quelle che sono le nostre idee politiche e soprattutto cosa abbiamo approvato andiamo a leggerci gli emendamenti che abbiamo inserito in questa delibera abbiamo detto che faremo i consigli comunali itineranti che come ha detto anche il collega che mi ha preceduto appunto sono di difficile attuazione come ha detto Sperotto sono di difficile attuazione e anche costosi oppure peggio ancora la questione della sicurezza noi che abbiamo sempre detto che se abbiamo delle risorse in più le destineremo sul welfare perché siamo per la solidarietà per la solidarietà tra gli individui ci rimangiamo la parola e diciamo no abbiamo dei soldi in più noi utilizziamo del welfare ma li mettiamo sulla sicurezza non so io mi immagino delle sentinelle di quartiere forse perché probabilmente non so al nostro interno siccome siamo eterogenei abbiamo anche le sentinelle in piedi probabilmente oltre alle sentinelle in piedi ci piace anche l'idea delle sentinelle di quartiere ma comunque insomma io la ritengo poco poco convincente questa proposta probabilmente non lo so forse cosa vi è ispirato vi è ispirato il partito della nazione ma qui abbiamo avuto fantasia perché oltre che al partito della nazione siamo andati avanti perché il partito della nazione prevede l'apertura a ncd qui addirittura ci siamo fatti appoggiare dalla lega insomma per cui voglio dire siamo di larghissime siamo di larghissime interpretazioni insomma il presidente può pregare il consigliere io aspetto poi quando ho finito è la prima volta stavo dicendo inoltre come pd io credo che abbiamo una tradizione politica di elevato senso civico e attraverso questa questa nostra storia insomma credo che avremmo potuto fare di più avremmo potuto diciamo così evitare di procedere attraverso la cancellazione fare una riforma vera una riforma vera come ha stabilito anche in seno il partito democratico che ha parlato esplicitamente di organi di decentramento e non di generiche consulte che appunto come dice il termine stesso non hanno nulla della gestione amministrativa della città non sono degli enti sono appunto degli organi in cui i cittadini vengono chiamati a consultarsi su delle questioni ma non hanno un potere gestionale non hanno un potere amministrativo sulla città quindi voglio dire mi lasciano anche perplesso proprio per quanto riguarda la loro forma giuridica e quindi fate queste riflessioni io credo che sia opportuno proprio per il punto politico che ho sottolineato prima per evitare di replicare la situazione della scorsa volta di rivedere questa scelta di ritirare la delibera di fare un confronto all'interno della maggioranza per approvare una vera riforma dei consigli di quartiere e quindi con questo concludo grazie consigliere consigliere cabibo grazie presidente io ero intervenuto credo fra gli ultimi nella scorsa seduta del consiglio comunale dedicata a questo argomento e avevo affrontato il tema nel merito pertanto credo che non sia il caso in questa sede di dovermi ripetere e credo anche che nel merito sia stato detto molto quello che mi interessa questa sera visto che siamo anche in seconda seduta e quindi qui ormai diciamo che ognuno ha detto come la pensa sulle circoscrizioni e io ovviamente ribadisco la mia convinta adesione a chi in questo periodo si è battuto per mantenere questa forma di partecipazione democratica e di decentramento comunale perché non dobbiamo dimenticarci che le circoscrizioni nascono e sono concepite nel nostro statuto proprio come organismi di decentramento comunale e questo lo sottolineo in modo particolare agli amici della Lega che hanno fatto del federalismo la loro bandiera cioè è un controsenso votare la soppressione delle circoscrizioni quando si è sempre stati favorevoli ad una responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica a partire dal livello più vicino dai cittadini che nella nostra città che almeno fino a qualche tempo fa era capoluogo di provincia aveva appunto questa forma di organizzazione ripeto di decentramento comunale e questo lo dico proprio perché questa proposta che viene sottoposta quest'oggi non mi sembra assolutamente adeguata a garantire proprio anche per la formula che viene proposta di queste consulte un adeguato decentramento comunale aspetto che mi sembra ancora fondamentale ma di questo accenderò fra poco quindi non ne faccio una questione di merito non dico qual è il ruolo delle circoscrizioni o quale potrebbe essere Forza Italia si è sempre battuta per un potenziamento del ruolo delle circoscrizioni e sicuramente per un miglioramento di quello che è il ruolo e le attività che possono svolgere le circoscrizioni ma ne faccio oggi una questione di metodo intanto io non concordo assolutamente con quello che diceva prima Assessore Conficconi sul fatto che questa è un'iniziativa trasversale questa è un'iniziativa che se fosse stata veramente trasversale sarebbe stata approvata con la maggioranza dei due terzi su un argomento che come diceva anche il collega Pedicini è un argomento fondamentale perché qui non stiamo parlando di questioni di poco conto qui stiamo parlando di quale idea di struttura amministrativa noi vogliamo adottare nella nostra città e quindi è chiaro che quando andiamo a modificare lo statuto del comune è vero che le regole ci dicono lo possiamo fare a maggioranza tra parentesi quale maggioranza e qui chi mi ha preceduto si è già dilungato sul punto ma sarebbe auspicabile che ciò avvenisse veramente in modo trasversale e il più possibile condiviso allora ecco che ancora una volta questa amministrazione perché questa è un'iniziativa dell'amministrazione non ci si può nascondere dietro il dito come nel caso del DDL Cirinà e dire che è un'iniziativa parlamentare nel nostro caso consigliare quando poi è questa amministrazione che vuole fortemente questo provvedimento così come è il governo Renzi che vuole fortemente il DDL Cirinà ecco quindi che è l'ennesimo caso in cui questa amministrazione dimostra la sua incapacità di coinvolgere nelle decisioni importanti che riguardano tutti coloro che dai cittadini di Pordenone sono stati eletti e quindi non solo provvedimenti fatti a colpi di maggioranza ma anche con il contributo dell'opposizione e guardate che ne avete fatte una dietro l'altra di provvedimenti che in qualche maniera non hanno tenuto conto di quello che poteva essere il contributo della minoranza io vi ricordo che già nel 2012 si è discusso in questo consiglio delle circoscrizioni e allora si era usciti da quest'aula con la promessa dell'assessore Mazzer che avrebbe cercato delle linee di indirizzo comune un confronto io confido nella buona fede sicuramente dell'assessore Mazzer ma francamente non ho visto un grande impegno nel cercare di mettere le varie rappresentanze di questa città intorno ad un tavolo per trovare una linea che fosse il più possibile condivisa ecco che voglio dire in passato si erano fatte commissioni sul fiume noncello che poi non sono servite praticamente a nulla ma con grande dispendio di energie su questa questione forse proprio perché la maggioranza già sapeva di non avere i numeri non si è voluto fare e questo lo trovo un fatto veramente ecco molto grave sotto anche il profilo di quello che è la partecipazione democratica il ruolo del consiglio comunale e quello che può essere il contributo che le opposizioni che non credo siano state in questi anni opposizioni becere avrebbero potuto esprimere in termini di contributo sempre nel metodo non si può non sottolineare il momento in cui viene presentata questa delibera cioè ha praticamente meno di quattro mesi dalle elezioni quindi si lascia in eredità un un morto anzi quattro morti cioè le quattro circoscrizioni a fronte di qualcosa che come ha giustamente detto il collega Sperotto è quasi ridicolo perché andare a deliberare sul fatto che la giunta si impegna a presentare entro la fine dell'attuale mandato amministrativo una proposta di istituzione delle consulte comunali non vuol dire assolutamente nulla punto numero uno e se la giunta comunale che già si era impegnata a fare quel tavolo che poi non è stato fatto non presenta entro la fine dell'attuale mandato amministrativo una proposta di istituzione di consulte comunali che cosa succederà succederà quello che noi abbiamo sempre sostenuto e cioè che in realtà qui viene soppressa una forma importante storica di partecipazione dei cittadini alla amministrazione pubblica a fronte del nulla tanto più che le consulte comunali sarebbero già previste dallo statuto ma non sono mai state considerate tanto meno attivate allora che cosa dovremmo fare noi qui oggi dovremmo dare una delega in bianco ad una giunta in scadenza a fronte di appunto a fronte di nulla quindi proprio da un punto di vista di responsabilità noi non possiamo firmare un foglio su cui non c'è scritto assolutamente nulla se non appunto il fatto che qui ci si appresta a sottolineare in maniera molto evidente che queste consulte comunali attenzione dovranno essere appartitiche cioè allora io mi chiedo mi chiedo quale sia veramente la concezione della politica che noi vogliamo portare avanti perché questo termine appartitico che cosa significa significa che abbiamo sbagliato a pensare di fare politica all'interno di un partito e qui dico veramente cari colleghi del partito democratico ma come fate a scrivere e a votare queste cose voi che poi siete tra i partiti italiani sempre stati orgogliosi della vostra organizzazione di partito veramente qui ancora una volta siamo di fronte alla classica riforma in stile Renziano una riforma che non il povero consigliere Andrea Cabibbo del Comune di Pordenone ma il professor Sartori ha definito negli scorsi giorni come riforme pasticciate e riforme di facciata la classica riforma Renziana o alla Serracchiani che va a cambiare tutto per non cambiare niente vedi uti vedi abolizioni delle province vedi legge sul testamento biologico impugnata dalla udite udite presidenza del consiglio dei ministri cioè tutta una serie di riforme spot di riforme fatte a colpi di interventi da 15 secondi nei vari Tg nazionali che però poi non hanno una utilità vera che non hanno una presa vera per quelle che sarebbero invece le reali esigenze di questo paese di riforma e di cambiamento sì perché poi dobbiamo anche sentire la Serracchiani che si vanta di decidere i candidati attraverso le primarie ma non mi risulta che in tutti i comuni si stia adottando questo metodo ci ho detto allora e qui voglio veramente chiudere allora oltre al merito non possiamo non farne una questione di metodo non è un'iniziativa trasversale sono sbagliati i tempi non c'è stato un coinvolgimento ed una sintesi con le opposizioni è una delega in bianco che prevede dei punti delle questioni delle indicazioni ridicole come quelle delle consulte comunali ed è la classica riforma in stile renziano pasticciata di facciata che non porterà a nulla se non solamente a sprecare quello che può essere un grande patrimonio che le circoscrizioni hanno dato in questi anni e che potrebbero ancora dare magari certamente in forma diversa in forma nuova ma per realizzare quello che ancora secondo me va perseguito che è il decentramento comunale noi non è vero non siamo una metropoli siamo una città di 50.000 abitanti ma è anche vero che possiamo attuare degli strumenti che ci rendano prossimi ai cittadini uno di questi strumenti sono certamente le circoscrizioni e quindi questa delibera noi non la voteremo grazie consigliere consigliere Rossetto prego signor presidente signor sindaco onorevole giunta e colleghi consiglieri e consigliere e prendo la parola questa sera non l'ho fatto un mese fa perché mi sono sentito un po' insultato insultato nel senso che mi hanno detto ma tu cosa vuoi sapere delle circoscrizioni allora voglio fare un po' un quadro per rispondere a questa domanda io sono nato con il quartiere di Valle Noncello primo stato eletto assieme a Torre nel lontano 1974 ho vissuto tutte le varie peripezie tutti i vari cambiamenti quindi dal 74 poi nel 76 ho fatto parte della prima circoscrizione la circoscrizione sud che comprendeva Valle Noncello Villanova e Legati e poi nel 2011 tra i vari cambiamenti si è passati da 12 quartieri a 6 circoscrizioni da 6 circoscrizioni a 4 prendendo dentro per la sud Borgomedino mi è stato detto anche non ti ho mai visto nei consigli di circoscrizione bene io questi consigli di circoscrizione ci sono stato ci ho partecipato ma soprattutto quelli della sud perché sono quelli che mi interessano come consigliere comunale prima anche se sono consigliere comunale di Pordenone però ho cercato in qualche maniera di seguire il lavoro i problemi le problematiche la cittadinanza del quartiere sud quindi Valle Noncello Villanova Le Grazie e Borgomedino risposto a questo voglio dire che voglio anche rispondere a chi mi ha detto ma ve l'hanno detto questa sera e mi spiace dito in telisano che non lo vero a Silegi nel dire che non sa come fanno quei consiglieri di circoscrizione che sono stati anche presidenti certo di tre tornate amministrative in consiglio di circoscrizione ho fatto anche una volta presidente di circoscrizione e ho cercato di dare un taglio anche come presidente di circoscrizione un taglio che poi si è visto anche dai colleghi che poi mi hanno seguito e quindi sì e quindi se riesco a specificare quello che ho dentro nell'anima forse si riuscirà a capire anche perché voto contro a questo tipo di circoscrizione ma con l'animo sereno e tranquillo senza ipocrisia e questa ipocrisia ne ho sentita un po' questa sera qui presente e anche la volta scorsa allora voglio innanzitutto rispondere sempre a vita intenziale perché ormai la sta menando i dieci minuti di sospensione che il partito democratico ha chiesto un mese fa sono stato io a chiedere al mio capogruppo di sospendere per dieci minuti perché non tutti i consiglieri comunali del PD erano a conoscenza dell'emendamento che stavamo presentando ecco quindi non c'è nessuna diatriba nessun accordo con altri partiti niente c'era solo questo ci si può credere o no però questa è la verità questa è la verità questa è la verità poi si può credere in tutto guardi dell'ipocrisia quando ne parliamo poi per quanto riguarda il cambiamento e il superamento delle circostruzioni e poi voglio anche la mozione che abbiamo votato che abbiamo votato il 24 febbraio del 2014 quindi due anni fa e poi voglio citare anche una mozione presentata da Forza Italia il 30 gennaio del 2014 spero di ricordarmeli tutto questo dato allora per quanto riguarda le circostruzioni siccome le ho seguite in prima persona nella mia prima tornata amministrativa con Pasini e vi ricordo che la Lega quella volta non le voleva e c'è stato solo l'intervento dell'assessore del Bianco prima e dell'assessore Claudio Pilot mi pare ma Pilon ecco dell'assessore Pilon dopo che in qualche maniera siamo andati avanti con queste circostruzioni e questo anche nel secondo mandato Pasini Pasini e la Lega non le volevano questo dobbiamo dire quindi non c'è stato nessun intralazzo c'è una continuità di voto da parte della Lega come ci sono state anche altre trasversalità quindi inutile imputare adesso voti di scambio qua voti di scambio la con la Lega quello la Lega fa parte della mia storia che è contemplata sono sempre stati contrari alle circostruzioni e quindi è chiaro che un mese fa hanno votato per la soppressione delle circostruzioni poi c'è stata l'assessore Pagliaro l'assessore Cudin l'assessore Marigliano anche qua c'erano delle boffe però boffe mai presentate in consiglio comunale mai presentate in commissione quindi sempre un po' per l'è neanche mai presentate in partito del PD poi c'è stato l'assessore Parut anche lui si parlava sempre che bisognava chiaramente rinnovarle cambiarle e si vedeva e lui ha portato ecco all'interno delle circostruzioni ha portato i vari computer eccetera questo bisogna andare in un'altra poi c'è stato l'assessore Zille che ha detto che anche lui aveva nel cassetto però non l'abbiamo mai visto l'assessore Zille ecco perché siamo arrivati a tutto questo ritardo se vogliamo e poi c'è quello dell'assessore Maffer l'assessore Maffer ha avuto la bontà di presentare un regolamento della consulità comunale che parlerò poi verso la fine verso la fine nel frattempo quindi questi sono ci è sempre parlato che le circostruzioni così come sono perché il regolamento dal 76 fino adesso non è cambiato di molto per quanto riguarda le finalità è cambiato solo per quanto riguarda i componenti delle circostruzioni e naturalmente il territorio è dall'inizio è dall'inizio di questa legislazione che faceva parte delle dichiarazioni programmatiche del sindaco e droppi e io rilego però quello che ha letto quello che ha letto Intelligiano perché hanno una nuova visione Palmisano Palmisano che lo scrivo non ci puoi fare che lo vengono non ho paura sai di chiedere perdono e scusa di perdonare perché questa è la rete alla mia età con i capelli bianchi penso a 42 anni che sono con se non si faccia va bene andiamo avanti andiamo avanti si parlava di un cambiamento sulle pratiche di governo e di partecipazione quindi bisognava aggiornare creare e diffondere quindi reinterpretare e far evolvere l'esperienza delle circostruzioni così è scritto nel programma luoghi di primo riferimento le circostruzioni in cui si costruiscono in questo cambiamento che volevamo fare si costruiscono relazioni tra i cittadini e le istituzioni le avevamo chiamate quella volta centri civici aperti e fruibili a tutti volevamo creare spazi autonomi veri laboratori di autogoverno che si propongono di valorizzare il patrimonio locale servizi interattivi di comunicazioni che veicolano le informazioni la documentazione le forme di consultazione tra i cittadini e le istituzioni poi andremo a leggere il regolamento della consulta che contiene tutte queste disposizioni sede in cui sviluppare percorsi di partecipazione mirati per i progetti e gli interventi di maggiore interesse questo faceva parte del programma del PD per cui il PD ha portato avanti questo siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine però andiamo a vedere qual è la causa perché questo si poteva fare ancora prima perché il 24 febbraio del 2014 è stata votata un emendamento alla mozione presentata da Gianelli presentata da Gianelli in quanto in quanto si diceva di procedere al termine dell'esperienza delle cicostruzioni alla fine dell'attuale mandato amministrativo e a riprogettare forme di partecipazione coinvolgimento alternativo senza costi per l'amministrazione che consentano al cittadino di prendere parte attiva al governo della città ed è quello che risulta poi nelle consulte comunali questo emendamento è stato votato da tutto il PD compreso Matteo Loro e Passone non più di due anni fa non più di due anni fa ecco questa vuol dire democrazia poi poi c'è stata una presentazione il 30 gennaio del 2014 a firma di Gianelli De Bortoli Cabibbo e Dalmas mozione tesa in dire un referendum abborcativo delle cicostruzioni questo è andiamo andiamo referendum abborcativo delle cicostruzioni vuol dire vuol dire abolire le cicostruzioni questo è quello che volevate dai questo è quello che volevate e quindi e quindi questo qua è quello riportato che si può andare a vedere a tutti poi che si dimentica è chiaro perché è giusto dimenticarsi però la realtà è questa la realtà è questa andiamo alle attuali cicostruzioni sì io voglio ringraziare io ho seguito soprattutto la cicostruzione in questi ultimi cinque anni e voglio ringraziare qui la Presidente del BEM ma voglio ringraziare anche tutti i quattro Presidenti delle cicostruzioni perché hanno contribuito a fare in modo che l'anello di congiunzione tra le cicostruzioni e l'amministrazione comunale non si rompa non si rompa però però non si rompa nel senso che non ci sia niente altro invece c'è qualcosa questa sera c'è qualcosa che si è stato presentato in commissione la volta scorsa uno di scorsa e c'è qualcosa come impegno in quella delibera che abbiamo votato un mese fa e quella delibera quell'impegno là è stato mantenuto da parte dell'Aziente e allora è stato detto a partitico in quel documento che abbiamo chiesto certo non è stato detto a politico a partitico perché le nuove consulte le nuove consulte che si andranno a fumare e che andremo a votare uno dei prossimi consigli comunali perché si è stato presentato in commissione devono essere composti da cittadini e associazioni cordononesi quindi cosa significa che la partecipazione è garantita la partecipazione di tutti però non una partecipazione di una parte di cittadini legati ai partiti come perché l'elezione adesso è legata soprattutto ai partiti e non a delle associazioni ecco tutti qua tutte le associazioni certo certo tutti tutti ma questo ne parleremo dopo e ne parleremo e ne parleremo magari la prossima settimana comunque vado avanti andavo avanti anche perché ha partiti che perché perché se vogliamo è sempre stata una lotta tra i partiti per le elezioni dei presidenti tutte le volte ogni cinque anni c'è sempre stato c'è sempre stato guerra perché un partito voleva un presidente l'altro partito voleva un presidente l'altro partito voleva ancora un altro presidente e si è arrivati perfino perfino a fare in modo che un presidente arrivi fino a metà mandato e dopo metà mandato ci sia un altro presidente e qua ce ne sono di presidente e qua ce ne sono presenti e qua ce ne sono qui erano i partiti che lo chiedevano tu lo sai dai no ma dai li abbiamo vissuti assieme queste cose non farmi fesso li abbiamo vissuti assieme queste cose dai posso dirti anche i nomi vedi Borgomeduna e vedi Villanova e vedi anche Torre prima questa è la storia delle cicloscrizioni questa è la storia delle cicloscrizioni la Torre con altre guerre Torre con altre guerre ma altre guerre su serio va bene altre guerre su serio e anche nell'ultima tornata se vogliamo e poi perché poi perché ognuno voleva il presidente perché i presidenti in qualche maniera dovevano ostacolare quello che era il lavoro della giunta dell'amministrazione comunale perché se non c'erano le loro richieste se non venivano valutate di sede di bilancio o non venivano ascoltati i vari consiglieri comunali soprattutto i vari presidenti dalla giunta ecco allora si votava contro si votava contro tenendo conto però che i presidenti di cicloscrizione dovevano venire qui ogni anno ad illustrare quello che era il programma di sede di bilancio il programma dell'amministrazione di cicloscrizione e il programma dell'amministrazione comunale non lo avevo mai visto questa è la realtà allora allora e ritorno e ritorno e ritorno al presidente alla presidente del BEM qual è stato il suo lavoro in questi ultimi cinque anni di fare in modo che a tutte le associazioni presenti nel territorio suddivise per quartieri in qualche maniera collaborassero fra loro alla riuscita delle manifestazioni questa è la realtà ed è questo che è scritto nella consulta nel regolamento della consulta che dopo andremo a leggere e qui dobbiamo dare merito che c'è riuscita l'antonella legge c'è riuscita con un lavoro immenso con un lavoro improvo però c'è riuscita a fare in modo e va tutta la mia stima anche gli altri presidenti però anche gli altri presidenti però io conosco conosco in questi ultimi cinque anni il lavoro fatto alla città scrizione suddivise e questo dobbiamo dargliene atto che c'è riuscita perché le ultime manifestazioni abbiamo visto che tutte le associazioni hanno collaborato ultimo voglio dire ultimo voglio dire chiedo scusa ultimo voglio dire l'ultima la quarantaseiesima edizione del gruppo organizzata la marcia di Valle Noncello hanno partecipato tutte le associazioni a cominciare dall'Avis Aido dagli scout dal gruppo marciatori che l'ho organizzato in prima persona dalla parrocchia dal gruppo sportivo tutte queste associazioni e queste associazioni hanno collaborato poi anche alla riuscita della marcia di Villanova l'anno scorso due anni fa collaborando con l'Avis che la organizzava e soprattutto ha fatto in modo che il Gernius Loci in qualche maniera abbia preso piede non solo nel quartiere di Valle Noncello non solo nel quartiere di delle Grazie ma anche a Borgomeduna e Villanova e ci rendiamo conto adesso che c'è tanta collaborazione per questo vediamo il Panedin vediamo le feste di Rione che sono stati fatti hanno sempre partecipato a queste associazioni ed è questo il ruolo che deve avere ed è questo che se ci sarà buona volontà ci sarà con l'Assemblea delle Consiglie questa vuol dire democrazia partecipata e democrazia orizzontale bisogna andare a parlare con i cittadini con le associazioni prendere veramente di petto questi problemi come erano come erano 40 anni fa come erano 40 anni fa invece adesso tutto il partito tutto il partito tutto il partito è per questo che i cittadini si allontanano sia dei partiti che vediamo come sono le istituzioni e sia delle amministrazioni perché bisogna veramente parlare portare a conoscenza dei programmi i cittadini ascoltarli certo certo creano sì i gruppi poi i gruppi spontanei certamente però quando si creano i gruppi spontanei quando vogliono dei problemi particolari vedi i problemi dei lavori pubblici problemi germanici una volta si parlava solo di questo nelle cittadini solo di questo invece adesso si parla dei problemi che riguarda i più poveri i più piccoli che riguardano le persone più umili riguardano le persone che in qualche maniera devono essere aspettate e noi dobbiamo fare questo e con la consulta si arriverà proprio questo uscire dal perimetro della maggioranza eh certo si esce dal polimio non si dovrebbe uscire dal perimetro della maggioranza proprio perché proprio perché c'era nella dichiarazione preventiva del sindaco se tutti i consiglieri si attenessero pur discutendo all'interno del partito pur discutendo all'interno di gruppo si attenessero a quelle che sono poi le decisioni che scaturiscono all'interno di queste discussioni invece dopo cosa succede vedi all'interno del PD per esempio che due persone fanno per conto loro e allora questo cosa succede questo vuol dire uscire dal perimetro di maggioranza questo vuol dire uscire dal perimetro e poi e poi si nasconde questo uscire dal perimetro della maggioranza con la trasversalità trasversalità che ho dimostrato che è già da 25 anni quando si parla di circostituzioni la Lega non l'ha mai votata e quindi si parla della trasversalità certo Forza Italia e naturalmente il partito democratico nel 2011 hanno votato per le circostituzioni altrimenti non saremmo qui non saremmo qui ha votato e questo non è stata trasversalità non è sempre non è trasversalità questo e allora cosa dobbiamo adesso in qualche maniera così lavarci la bocca di tutta questa trasversalità questi sono i dati di fatto questi sono i dati di fatto bene allora stavo dicendo che naturalmente nella prossima uno dei prossimi consigli comunali verrà presentato il regolamento delle consulte comunali le consulte comunali che esistono nel nostro statuto che però non sono mai state regolamentate regolamento che è stato presentato in commissione lunedì scorso se non vado e dove martedì ecco va bene ma sai adesso allora è tardi allora e va bene sì se vuoi sono abituato a far quanto fino alle 4 mi è successo in tutti i consigli non sono mai andato via prima non sono mai andato via prima io ho sempre votato queste consulte comunali come dicevo prima sono composte da cittadini e associazioni pordenonesi quindi tutte le associazioni pordenonesi che vogliono partecipare a queste consulte adesso è il momento veramente di vedere se i cittadini partecipano perché devono partecipare in prima persona quali sono gli argomenti allora per quanto riguarda le elezioni poi devono essere partiti che quindi si farà una lista unica anche qua il regolamento lo dirà di quante persone ci sarà una composizione nel regolamento di 11 persone devono essere i partecipanti gli eletti i quelli che partecipano a questa lista devono essere sottoscritti da un minimo di persone che vada 10 o 25 ma qua vedremo e non più devono passare al valore dei partiti e quindi tutti tutti devono essere sottoscritti ed ecco che ogni associazione chiaramente voterà e sottoscritti i propri rappresentanti i cittadini che non fanno parte di questa associazione vanno a cercarsi i 20 voti i 10 di sottoscrittione per partecipare a questo tipo di consultazione quindi mi sembra che sia tutto chiaro non deve essere più un partito che ti dice no tu no perché mi sei antipatico no tu no perché sei grasso anche i partiti dicevano sì tu sì perché partecipi perché metti il viso perché vai a contatto con i cittadini perché tieni rapporto anche questo è un partito però adesso non c'è più bisogno perché se ci sono 10 o 20 persone che sottoscrivono il mio nome per partecipare alla consulta di quartiere partecipo alla consulta di quartiere e dedicando il mio tempo libero come lo stanno dedicando però in questa maniera sì ci sarà la presenza di tutte le associazioni che vogliono partecipare e poi non andranno più a mendicare o la chiusura della buca o il palo della luce ma si faranno sentire perché perché naturalmente il presidente della consulta di quartiere dovrà presentare una relazione al sindaco all'assessore al presidente del consiglio comunale o all'assessore delegato oppure il dirigente di competenza entro il 30 giugno quindi entro prima prima della della formazione del bilancio di previsione poi anche scritto adesso vado a vedere memoria che il presidente può o un suo delegato può partecipare necessariamente a tutti i consigli comunali e quindi con anche con diritto di parole adesso vediamo non so perché vado a vedere comunque che deve essere rappresentata questa relazione sì ed è proprio in questa relazione allora che si vedrà quali sono i problemi però non i problemi di due tre sei persone che partecipano ai consigli di protezione ma i problemi che si capoviscono da tutte le associazioni e secondo me questo è veramente importante questo è veramente innovativo se ci troviamo e qua veramente adesso si andrà a leggere il regolamento nel prossimo consiglio comunale e vedremo se avremo il coraggio veramente di approvare con questi cambiamenti e questo rinnovo delle circostazioni perché per me sì questo è un superamento delle circostazioni come è stato definito come abbiamo votato in quella mozione quindi un superamento delle circostazioni perché perché si fa in modo che tutte le associazioni nel territorio partecipino ecco nel regolamento c'erano sito 4 mi sembra che sia un po' poco se vogliamo perché devono essere devono avere un po' la stessa storia parlo sempre della sud e chiedo scusa ma è quello che ho seguito cioè Borgomeduna è di là della ferrovia ha poco a che fare secondo me con Borgomeduna proprio culturalmente ha poco a che fare però questa è la volontà del consiglio va bene secondo me è più legata a Torre per esempio Borgomeduna che e questo era uno dei momenti anche questo era anche uno dei momenti che dovevamo che era stato da approfondire ed è stato approfondito non a sufficienza secondo me al momento della votazione delle quattro circostinzioni quindi dell'accolpamento sono già arrivato alla fine va bene pazienza però mi mancano ancora i cinque minuti poi della seconda della replica comunque si vediamo la consulta poi è composta da 11 membri quindi 11 membri 11 membri vabbè perché dicevo la soldier vediamo Avis il caido fanno parte sia Villanova sia Le Grazie sia Valenocello poi ci sono gli scout anche là fanno parte in tutti i tre quindi 11 persone forse può andare bene perché poi i rappresentanti di queste associazioni se li cercano loro al loro interno bene io basta perché se sento qualcuno che dice bravo o anche loro io non sono abituato io non sono abituato a parlare non era sarcastico ma non era sarcastico però posso anche andare avanti non ci sono problemi perché perché argomenti ce ne sono tanti quindi vogliamo dire che sul poi per quanto riguarda la delibera verrà presentata sulle consulte comunali certamente si pone particolare intenzione ai bisogni sociali rilevati e a quelli emergenti poi si guarda un po' come dicevo prima dal punto di vista dell'omogeneità del territorio e quindi da quelli che sono soprattutto i problemi i problemi emergenti quindi io chiedo sono lontanato e quindi io chiedo scusa naturalmente a tutti per avermi aspettato studio stancato però questo fa parte di 40 anni di partecipazione a questa attività comunale prima come consigliere di circoscrizione per tre tornate e per cinque questa è la quinta come consigliere comunale ebbene è ora che vado in pensione grazie grazie consigliere consigliere Dalmas prego allora caro rossetto Elio il suo no no devo non condivido nulla di quello che ha detto però mi è piaciuto il suo intervento appassionato c'è qualcosa che non funziona ah no mi dica devo parlare con qualcuno di loro De Bortoli il suo intervento mi è piaciuto perché appassionato fa parte della storia di questa di questo comune quindi ha raccontato le cose in modo no con De Bortoli presidente francamente no cioè una tale capitis di minuzio non poteva no Walter ti prego rifiutati perché è una furbata che ha fatto lui questa consigliere si attenga all'argomento grazie posso presidente posso continuare ok no dicevo di rossetto mi è piaciuto l'intervento perché appassionato fa parte di una certa visione del mondo di un credo un ex democristiano orgoglioso di esserlo che oggi partecipativamente parte integrante della maggioranza di governo di questo comune che uno in sostanza uno che ha visto Cardin che è stato allevato nel latte cardiniano che poi ha conosciuto Bolzonello che addirittura ha conosciuto Pasini la Lega l'esperienza della Lega cioè veramente è un fatto e ovviamente il sindaco Pedrotti lei ha detto sostanzialmente due cose prima l'esperienza circoscrizione è fallita è finita bisogna superarla e ne parla a suo modo a ragion veduta in quanto ne è stato presidente di circoscrizione seconda questione evolviamo evolveremo lo statuto quello che sarà attraverso forme più aggiornate moderne attuali con i tempi con lo spirito di riforma che vuole rappresentare il partito nel quale lei ed egli milita cioè il partito democratico partito democratico partito che dice nello stesso giorno alla giusta tu sei candidato sindaco perché arriva il presidente Seracchiani e dice che la giusta è il sindaco mentre il sindaco che hanno in carica a Trieste dico tu poveretto devi farti le primarie devi farti le primarie cioè un partito all'evidenza democratico talmente democratico che lei sempre collega Rossetto nel suo intervento ha indicato due esponenti che stanno seduti dietro di lei per gli interventi che hanno fatto come espressione di un qualcosa che sta al di fuori della politica stanno già al di fuori del ciclo fenomenico dell'apparire del partito democratico sono fuori emiciclo persone mi dispiace prendine atto non so se ti mettono in lista cioè questo è il messaggio politico che avete lei da ex democristiano che poi diventa non so le ha passate tutte da presidente di circoscrizione e fa bene il suo lavoro perché è sempre presente di consigliere comunale ma è il sergente cioè colui che serra la gente del partito democratico serra la gente del partito democratico di fatti Passoni l'ha già messo fuori ha detto prima Passoni tu sei fuori perché non stai dentro questa maggioranza allora lei ha dato un grande esempio di non di democrazia di cos'è oggi il partito democratico soprattutto di cos'è oggi il partito democratico di questa regione è un partito autoritario che decide tutto in modo autoritario che è poco interessato a ciò che pensa la gente che non ha il senso più della democrazia lo è stato nella vicenda Pedrotti perché un signore vicepresidente della regione ha ritenuto che Pedrotti non fosse più il sindaco di questa città in quanto non rispondeva agli ordini cioè il guinzaglio con il quale l'aveva lanciato incominciava a diventare troppo lungo caro Pedrotti avevi preso troppo fiato non andavi più bene ti togliamo ti togliamo no c'è poco da ridere ti togliamo per fare che cosa? Per arrivare in una situazione kafkiana per cui a un certo momento la signora in perfetto stile democratico autoritario perché democrazia e autoritarismo sono due sinonimi compatibili nella visione del partito democratico a un certo punto la signora Seracchiani dice ma insomma caro Bolzanello ma tu hai l'alternativa? Hai l'alternativa? No non ce l'ho allora candidiamo il segretario del PD candidiamo il segretario del PD perché è la miglior scelta la miglior offerta per le prossime elezioni amministrative questa è la realtà e come ci presentiamo? Con provvedimenti rinnovati togliamo le circoscrizioni perché non ci servono più voi siete storicamente culturalmente in modo ancestrale sta nella vostra testa di ex comunisti il fatto di ritenere che le circoscrizioni siano l'espressione autentica perché così l'avete pensato l'espressione autentica della nostra democrazia e scrivete delle cose veramente fantastiche articolo 1 bis di questa delibera io vedo l'assessore Mazzari capisco perché lui sappiamo che è contrario a queste deliberette che state facendo e l'avete costretto a fare in limine l'itis alla fine di tutta questa di tutta questa vicenda l'avete costretto a produrre queste cose l'avete costretto no guardi Conficoni se c'è uno che non deve ridere è lei allora l'avete costretto l'avete costretto a fare queste cose dove si legge che le famose come diceva Rossetto no le famose consulte voi darete attuazione ad un articolo incompiuto rimasto lì da quanti anni da secola seculorum dello statuto all'articolo 4 che prevede nessuno sapeva che esistessero le consulte le consulte che cosa sono queste consulte sono tra l'altro un articolo scritto in modo indecente perché se io dico le consulte comunali devo dire che cosa sono le consulte e si scrive al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e l'amministrazione locale il comune può costituire le consulte punto basta al fine di favorire sappiamo benissimo tutti i colleghi che sono intervenuti prima hanno evidenziato che sotto profilo del merito consulta e circoscrizione sono due cose diverse la circoscrizione è un organo di decentramento dell'amministrazione funzionato o non funzionato o non funzionato tra i numeri la consulta è altro da sé il carattere scandaloso direbbe Cacciari glielo dico caro sindaco il carattere scandaloso di questa poiesis che voi state narrando qui in questo consiglio comunale da cinque anni ebbene le consulte devono favorire o dovrebbero favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale e di fatti voi proponete l'uno bis in cui si dice che le consulte comunali queste cose devono essere punto tre appartitiche bellissimo devono essere appartitiche le consulte comunali io vi avrei apprezzato se aveste detto qualcosa di diverso le consulte comunali devono essere apolitiche cosa servono le consulte comunali le consulte comunali lo dico al capogruppo del PD se ancora c'è le consulte comunali le consulte comunali dovrebbero servire per consultare per scambiare informazioni dovrebbero essere uno strumento agile attraverso il quale chi governa un comune ha la possibilità di sentire il mondo dell'economia piuttosto che altre cose piuttosto che un gruppo di giovani su alcune tematiche e quindi devono essere che cosa appartitiche o devono essere apolitiche l'articolo 49 della Costituzione caro segretario generale so che lei dice la 267 al 2000 comunque si assicura la possibilità di essere in ordine perché quella norma stabilisce che le consulte sono cosa diversa dalle elezioni non so se la norma dice dica che devono essere appartitiche non lo dice e mi chiedo perché voi avete voluto questo inciso l'essere apolitico era una definizione molto più più forte di appartitico cos'è il politico cos'è il politico capogruppo del PD collega Tomasello cos'è il politico cos'è il politico per il partito democratico le primarie e il politico e colui che divide e e il l'amico nemico secondo la classica elaborazione di carl smith che tutti citano in modo improprio è quello allora avreste dovuto dire devono essere per svolgere una funzione apolitiche e non appartitiche ci sono buone ragioni caro Rossetto per togliere queste circoscrizioni sì c'è una buona ragione le circoscrizioni costano troppo costano 18.000 euro l'anno se i dati che mi ha fornito adesso il collega Cabibo sono veri sono quelli che scrivete voi questi fonte dell'amministrazione 18.000 euro l'anno il consiglio comunale dei ragazzi ne costa 30 senza nulla togliere i ragazzi questi consigli comunali sono costati anche di più avessi sentito uno di voi uscire sull'unico aspetto nel quale oggi si misura la capacità di governare e cioè ridurre la spesa e migliorare la qualità dei servizi e prima di tutto ridurre la spesa nessuno di voi è riuscito a spiegarvi perché devo togliere le circoscrizioni perché costano 18.000 euro l'anno questo è il punto sindaco questo è il punto si figuri io questi amici che sono qui delle circoscrizioni molti li conosco persone che stimo sono impegnati da sempre essere in politica vuol dire essere nel sociale non è che con 300 euro perché fai il presidente dici coscrizione diventi ricco no stiamo parlando di queste di queste robe eppure è gente che ha dedicato sono persone sono cittadini di questa città che hanno dedicato con orgoglio passione convinzione anche per una certa carriera che questo non guasta mai non guasta cosa c'è di male hanno dedicato il loro tempo il loro impegno ascoltando la gente molto più di quanto non lo faccia io ad esempio io sono un consigliere comunale e non capisco perché per la strada non mi fermino e non mi dicano c'è il tombino da sistemare ci sono insomma queste cose perché non me lo dicono perché evidentemente c'è qualcun altro che lo fa c'è qualcun altro che lo fa non lo fanno solo gli assessori la giunta il sindaco ma lo fa anche è chi sta nelle circoscrizioni perché è contatto diretto e espressione direbbe il buono lo perfido citando che è citato Gramsci non so chi della espressione più diretta dell'emocrazia allora voi volete un regolamento sui beni comuni beni comunisti no? sui beni comunisti che deve essere per legge a partitico non a politico a partitico e nello stesso tempo ci dite che le circoscrizioni bisogna toglierle perché? perché costano rossetto spiegami perché mi hai parlato della tua esperienza personale spiegandoci che che Valenoncello è una cosa diversa da Borgomeduna orograficamente è diverso ma siamo in Europa Cristo Dio non è che stiamo ancora nel mondo delle caverne per cui ci parliamo in qualche modo che ne so attraverso segnali passando da un albero all'altro no? cioè questo è il livello delle cose che dite questo è il livello delle cose che dite per cui arriva il presidente della regione e dice che la giusta è il candidato e non gli fa fare le primarie mentre gliele impone a Cosolini questo è l'aspetto vergognoso autoritario la deriva autoritaria Tomasello se ci sei batti un colpo sei afono sei afono fai il presidente fai il capogruppo del PD sei sottomesso in questo momento poi adesso ma no 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 ma lo dico a Tomasello perché gli voglio bene voglio bene a Tomasello mi dispiace perché io avrei voluto che fosse lui il candidato sindaco del partito democratico immaginavo che mi ricordo scusi consigliere scusi voglio ricordare i colleghi consiglieri che siamo in consiglio comunale un'alternativa che siamo ripresi dal primi dunque un'alternativa ma no le cose che dico sono esattamente il livello che avete imposto con questa delibera per cui adesso mi dovete ascoltare nelle cose che dico per il livello basso delle cose che dico perché è basso il livello della vostra produzione amministrativa e poi veniamo all'altro aspetto della delibera dove veramente le vette della buona amministrazione divengano altissime e qui mi hai portato via il punto 9 il punto 9 è fantastico però manca l'autore no no beh allora aspetto aspetto tranquillamente posso parlare non ho nessun problema non ho nessun problema e perché vede l'articolo 49 della costituzione mi pare che dica che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrerne alla vita democratica del paese giusto? voi che appartenete a quello schieramento composto da Rodotatatà da Zagrebeschi dai cultori della costituzione dai cultori della costituzione scrivete che nel regolamento dei beni comuni devono essere apartitici apartitici no lascia perdere adesso tu stai vieni dentro qui vieni dentro qui devono essere apartitici e non devono essere apolitici ma devono essere apartitici cioè alfa privativo senza partito quando il costituente vi ha spiegato e vi ha detto che la partecipazione in democrazia è passa attraverso la libertà di associazione in partiti politici attraverso i partiti politici allora qui siamo al paradosso non di Zenone siamo al paradosso secondo il quale chiunque si fa un partito nulla a questio si fa eleggere in consiglio comunale a fare le sue storie anche nella nostra area questo è un po' diffuso no? diciamo il di mini faccio il mio partitino ho la mia minoranza per cui comunque arrivo in consiglio comunale magari metto qualcuno a fare l'assessore durante i balottaggi che ne so cioè questo questo è possibile perché esiste il bipolarismo no? con Berlusconi finito poi arriva Renzi però esistono ancora i moderati in Italia esistono i moderati esiste ancora il centro esiste qualcuno che sta al centro ancora più al centro e dice io faccio il centro quindi sono una parte politica vabbè l'ora è tarda punto nove mi spiace che la Lega non ci sia anzi c'è la collega ecco 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 inquietante e non è inquietante è esilerante di questa lo ha detto prima lo ha detto prima lui quando intervenuto giustamente Sperotto collega Sperotto è stato chiarissimo dice ma insomma voi avete quanto primo cosa costa cosa pensate di fare i consigli comunali itineranti dentro dove il bar del quartiere tra cosa ma che cosa che cos'è sta rotta che cos'è sta roba no? perché il buon senso ci dice che cos'è sta roba allora caro caro mi è cambiato nome? come si chiama? Piccinato caro Riccardo tu oggi consentirai a questa maggioranza di chiudere le circoscrizioni di dare via libera a quello che sarà il regolamento dei beni comuni alla consulta dei beni comuni dei beni comunisti consentirai consentirai a questa città di non privarsi di un aspetto fondamentale cioè la possibilità di partecipare al consiglio comunale nei quartieri i cittadini si ammazzano se non non possono partecipare al consiglio comunale perché non c'è da ridere questo hai scritto tu questo avete scritto il combinato disposto capogruppo del PD più capogruppo o qualcosa di simile della Lega ha generato il punto 9 ha generato il punto 9 ma insomma un po' di buonsenso io non so a chi candidata in pectore alla carica di sindaco faccia qualcosa si assuma la responsabilità di abrogare almeno questo comma 9 non è possibile che si impiedi questa roba cioè voi vi assumete una responsabilità non civile penale amministrativa contabile una responsabilità ben più grave che quella di rispondere all'idiozia della cosa che avete scritto cioè voi togliete le circoscrizioni che costano 18.000 euro l'anno per fare i consigli comunanti che potrebbero costare 50.000 vi immaginate perosa che non può deve portarsi il computer da casa e andare in una palestra fredda e umida perché nessuno ha acceso il riscaldamento prima d'inverno bisogna accendere l'escaldamento della palestra e portare tutti lì e così funzionari e tutto il resto vi prego io rivolgo un appello al candidato sindaco del partito democratico liberamente designato da dalle primarie che sono state sospese nella città di Pordenone sospese nella città di Pordenone bene mi rivolgo a lei che è una persona capace intelligente affabile ho avuto più volte l'occasione di confrontarmi anche in un dibattito televisivo no no certo io riconosco queste cose e la invito seriamente a togliere questo comma faccia qualcosa non è pensabile so che non possiamo modificare la deriva ma non possiamo scrivere queste cose qua questo urla vedetta l'assessore mazzer penso che non dormirà questa notte gliel'avete imposto passoni alla fine di questa delibera non potrà essere più candidato nel pd vi rendete conto è una tragedia per la città è una tragedia per la città che voi scriviate una sciocchezza di questo tipo e vi candidate a governare di nuovo con la lega e piccinato con piccinato con la lega avete scelto questa cosa ecco questo è mi è simpatico piccinato se lo odiassi lo avrei già fucilato verbalmente ma non potete fare credetemi non potete farlo non puoi non puoi barattare barattare quello che era un pensiero della lega pensiero della lega federalista federalismo federalismo deriva da fedus e federe corregimi colaoni patto e fiducia e avere fiducia noi non possiamo avere fiducia in voi vuoi capirlo che non possiamo avere fiducia in voi se scrivete queste puttanate questo è il punto questo è il punto questo è il punto consigliere è terminato grazie la parola consigliere Passoni Marcello grazie 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 presidente ma io esordisco con una frase anche banale ma secondo me non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare allora ci sono state vari interventi qua mi sento di apprezzare in particolare quello delle colleghe Vito Palmisano che viene nelle circoluzioni e è veramente ha fatto un intervento di chi le ha vissute ci ha lavorato con grande impegno e sa e sa quello che stanno che hanno fatto fino ad ora nelle circoluzioni e non solo la Sud come qualcuno qui ha voluto sottolineare io penso che tutte le circoluzioni del territorio chi più chi meno ha fatto bene il suo tanto è vero che stasera siamo qui ad ascoltare un perché vengono cancellate e francamente questa maggioranza putpurì allargata alla Lega con un emendamento che non voglio sottolineare ma lo ha fatto prima il collega Dalmas su questo consiglio comunale itinerante che avrà dei costi superiori alle circoluzioni al costo complessivo delle circoluzioni e quindi questo dovrebbe far riflettere io spero la candidata della coalizione del centro-sinistra qui accanto a me una grande riflessione non possiamo andare al voto con questa deliberazione ma per tutta una serie di motivi che qui cercherò di spiegare ho quasi mezz'ora cercherò di fare di meno il più brevemente possibile anche per dire una cosa che non posso sottacere perché a me non piace denigrare nessuno e non lo farò neanche stasera però francamente Elio i tuoi toni hanno dimostrato che non è vero che tu voti questa cosa con serenità e tranquillità perché hai usato toni forti hai usato toni forti allora volevo dirti questo tu hai citato me e loro che ingenuamente abbiamo firmato un emendamento tra l'altro su una deliberazione una mozione del caro amico che mi dispiace non è qua Franco Giannelli che parlava di soppressione di cancellazione ok e con quell'emendamento noi l'avevamo inteso quella firma e lo dico senza problemi si parlava di superamento e noi l'abbiamo intesa come riforma che era quello che era nel programma di questa amministrazione che tu hai letto prima dopo di che accortici che poteva essere un tranello che portava la cancellazione non l'abbiamo votato ok e anche in quell'occasione c'è stato un personaggetto che vi ha dato il ventunesimo voto quindi personaggetto personaggetto un personaggetto eh sei un personaggetto eh sei un personaggetto eh ma puoi denunciare tranquillo io qua esprimo una opinione che non è offensiva eh allora personaggetto ci sono tanti personaggetti allora io credo che fare un intervento dove non si spiegano le motivazioni perché si cancellano e si fa un intervento per giustificare il voto della Lega non credo che sia nei compiti di un consigliere comunale del PD io penso invece ah della tua storia sì ma io parlo del consigliere comunale del PD il quale sì questo non c'è dubbio del consiglio comunale e anche dei consigli circostizionali che oggi purtroppo Elio concorri a cancellare e questo mi dispiace no non l'hai spiegato allora ti voglio scusa però allora scusate l'ora è tarda lasciate intervenire i consiglieri e dopo parlate voi potete segnarvi parlate voi scusa Elio ecco lascio parlare grazie consigliere termini no io termini alla consiglio non si preoccupi perché ho il consiglio che parla grazie no termini per terminare i termini che usa come quello che ho usato poco fa non ne consono al consiglio comunale grazie guardi ne ho sentiti di gran lunga peggiori e quindi lei qui io non volevo offendere ho detto un personaggetto che quindi è riferito genericamente quindi è un riferimento generico non ha né nome né cognome quindi allora questa cosa qui vorrei dire non aiuta non aiuta a capire perché caro Elio tu hai voluto denigrare noi che abbiamo fatto un voto un voto una firma una firma che però non ha portato a una votazione una vota non ha portato a una votazione che ripeto ha avuto l'assenso di qualcun altro tra l'altro ho sentito denigrare anche il collega anche qui mi dispiace di Gregorio nei confronti di queste questioni dicendo che si sono dimessi molti sono subentrati altri non lavorano e veramente ho visto andare via la del bene Antonella molto arrabbiata per il tuo intervento e mi ha detto e mi ha detto e mi ha detto che non sarebbe mai aspettato da te comunque ti faccio presente che anche tu sei subentrato anche tu sei subentrato in questo consiglio comunale come è avvenuto in tante circoscrizioni perché questi avvicendamenti succedono perché li hai portati come esempi di inefficienza in realtà avresti dovuto eventualmente no motivare o i danni che portano i consiglieri circoscrizionali il che tu sai benissimo non è vero no questo è giusto perché io credo che come PD avremmo dovuto dovuto difendere il lavoro che hanno fatto fino ad oggi e che io mi auguro grazie all'intervento della candidata della coalizione a una riflessione che ci porti a non dico a ritirare ma a portarlo nella prossima amministrazione perché in questo momento non credo che sia utile né al PD né alla maggioranza né alla coalizione né tantomeno la comunità arrivare a questo voto risicato di cancellazione tra l'altro io non voglio qui ricordare a proposito di contraddizioni che qualcuno ha voluto sottolineare in quest'aula e io sono stato trascinato a parlarne per quanto riguarda le votazioni che noi abbiamo chiesto e ottenuto nel consesso del direttivo cittadino in cui come PD come PD abbiamo deciso che ci fosse un organo intermedio organo intermedio eletto a suffragio universale in contemporanea con le elezioni comunali non solo si era parlato anche di arrivare alla soppressione con la contestualità di una riforma che deve ancora arrivare perché quella lì ancora non è arrivata in quest'aula tra l'altro dal primo parere dal primo parere vorrei leggerlo perché credo che sia utile perché se la democrazia è anche ascolto io penso che bisogna valutare quanto è accaduto Rorai Capucini che è l'unica che si è espressa sulle consulte perché le altre mi pare torre fosse stasera e le altre si si esprimono quindi rinviato il parere e e comunque la Sud che è stata tanto decantata mi pare che approverà o non approverà insomma esprimerà il parere nei giorni seguenti così dicasi anche per la Centro io vi racconto quello che è successo all'Arorai in cui su dieci presenti quindi le attualità dei membri nove hanno votato contro ed una sola Biol Manuela della Lega si è astenuta quindi dando un parere praticamente unanimo unanime contrario a questa consulta con questa motivazione che mi permetto di leggervi così come proposte le consulte avrebbero senso solo se nella nostra città non fossero mai esistite le circoscrizioni dato che ripropongono solo alcune delle loro funzioni le attuali circoscrizioni svolgono già istituzionalmente e democraticamente quanto previsto per le consulte sono più strutturate e regolamentate hanno più mezzi e possibilità di azione facoltà di liberare ulteriori possibilità di delega articolo 22 regolamento e sono inoltre molto più rappresentative essendo elette da un maggior numero di votanti effettivi rispetto a quello previsto per le consulte riteniamo quindi le consulte con loro lacunoso stereo regolamento peggiorative rispetto alle attuali circoscrizioni che potrebbero comunque essere migliorate con piccoli ma significativi interventi come già chiesto più volte nel rispetto all'articolo 1 del loro regolamento questo per dire che se si ascolta se si ascolta forse si cerca di ragionare di riflettere se vale veramente la pena di andare avanti con questa cancellazione con questa abrogazione tenuto conto degli interventi che ci sono stati in quest'aula se pensiamo alle domande che ha posto il collega Sperotto e quello del collega Palmisano e le riflessioni che ha fatto qui dal MAS e l'onestà intellettuale che dovrebbe circondarci sempre nel pensiero quando si affrontano queste riforme a distanza di meno di 4 mesi dal voto cioè noi ci permettiamo di cancellare non so se ci si rende conto una cosa che c'è per farne una simile simile ma non uguale e non con le stesse funzioni e non con gli stessi poteri fra 6 mesi forse se passerà la consulta così come diciamo delineata nei prossimi consigli comunali tra l'altro il PD si era anche espresso sempre nel direttivo dicendo contestualità della soppressione con la riforma perché se tu sopprime e poi non hai la riforma rimani col cerino in mano senza alcun risultato ma queste sono secondo me sottigliezze rispetto al fatto che nessuno ci ha detto il motivo vero perché il costo è irrisorio addirittura il consiglio dei ragazzi costa di più no? allora io dico allora io dico se non c'è un problema di costi ma semplicemente di efficientamento perché c'è una proposta di un organo che non è uguale perché la consulta è un'altra cosa rispetto a una circoscrizione perché uno è organo di decentramento l'altro è di consulta appunto in maniera seppur diciamo legata al territorio ma comunque una cosa diversa allora mi chiedo perché si fa questa scelta mi chiedo perché si fa questa scelta tra l'altro con l'incongruenza assoluta che qui ha voluto sottolineare il collega dal MAS cioè di questo consiglio comunale itinerante che avrà dei costi che peseranno sulla comunità oltretutto con una richiesta esplicita di eventuali risparmi che non vanno al welfare ma vanno alla sicurezza che peraltro è sempre nell'attenzione credo di questa amministrazione a prescindere dai risparmi che deriveranno da questa delibera però io credo che questa delibera dimostri che i costi non sono la motivazione diciamo che è partito un meccanismo impazzito che ci ha portato fin qua può darsi che ci siano state delle provocazioni probabilmente il fatto che noi come PD abbiamo proposto di ridurre i consiglieri come come avviene in altri comuni d'Italia per questo che io dico ai colleghi Martino e Rossetto noi noi consiglieri Martino e Rossetto che se c'è questa contraddizione c'è anche per quanto riguarda il discorso dei consiglieri nel senso noi è vero che abbiamo abbiamo un'autonomia regionale che ci prevede no la trasversalità che è avvenuta a livello regionale cinque anni fa che poi si è percorsa anche in questo consiglio comunale ha visto il fiume fuori da questa trasversalità chiaro? quindi è stata una trasversalità totalmente diversa e qui la maggioranza non è sotto solo per loro e Passoni ma ti ricordo che ci sono i colleghi di Vivo Pordenone che l'altra volta si sono astenuti quindi la ricerca di un inciucio con qualcun altro non è una cosa che fa bene a noi e soprattutto alla comunità per cui per cui per cui io penso che occorra una vera riflessione su questa cosa perché c'è stato un impazzimento ci siamo legati a emendamenti a firme e poi ritiri eccetera voi capite ci troviamo in una situazione kafkiana da un lato si cancelliamo una cosa che c'è e che bene o male funziona anche se noi vorremmo che funzionasse meglio ok per metterne un'altra simile che costerà dicono un po' meno ma in realtà se pensiamo alle elezioni che verranno fatte in una fase diversa io non credo per quanto dicono ma utilizzeremo seggi con tutti i volontari sì ma i maeseggi li devi fare ok e devi dare delle garanzie su questo voto o pensate che non ci debbano essere garanzie su un voto di questo tipo quindi i costi ci saranno allora veramente mi domando il senso di tutta questa operazione se no un puntiglio che però non so a chi serva perché quando si sbaglia o si è andati oltre un certo limite io penso che sia apprezzato anche il coraggio di dire boh forse forse ci siamo spinti troppo ed è forse utile dire questa cosa forse è meglio che la rinviamo questo lo dico con spirito convinto e con passione che ho sentito anche nelle parole del amico e compagno Elio ok compagno di partito dai su Elio cerca di eh insomma dai eh compagno di partito ok se no dovrei dirti amico ma insomma penso che tu sia anche un amico insomma al di là di queste diatribe politiche ci mancherebbe no io ti conosco così e ti voglio ricordare così e consigliere 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 mezzanotte dai sì certo consigliere lo dico lo dico perché mi pare che lui abbia quasi fatto l'ultimo discorso infuocato dopo tanti anni di militanza e infatti ripeto mi dispiace che lui sia uno che purtroppo concorrerà a questa eventuale cancellazione perché era uno che ci ha sempre creduto tanto è vero di questa cosa e la sua pupilla tra virgolette mi permetto di dire cioè l'Antonella del Ben che lui ha voluto fortemente nella circuzione come candidata e poi come presidente è la dimostrazione che le circuzioni per poco che servono servono anche a costruire una nuova classe dirigente che viene dal basso e non sempre dall'alto come spesso accade io credo che questa è la mia esperienza e penso che sia l'esperienza di molti la formazione anche politica non solo amministrativa che si può in qualche modo trovare in queste istituzioni di base che sono attualmente le circuzioni datemi una ragione perché io debba cancellarle e io sono pronto purtroppo però fino ad oggi non le ho sentite e lo dico con sincera onestà perché di fronte a tutti i pregi che qui molti hanno già sottolineato per primo l'amico Vito Palmisano ma e quindi veramente io penso che sento la necessità di fare un grande appello e dire fermiamoci proviamo a farla magari con la prossima amministrazione perché sotto il voto non è proprio il massimo cambiare diciamo le istituzioni soprattutto quando non c'è una diciamo un'ampia non solo non c'è la maggioranza ma non c'è anche quella trasversalità che ci consente di dire fatta anche con le minoranze perché questo penso che sia l'inciuccio con la Lega attraverso quell'emendamento secondo me non è una bella cosa al di là che qualcuno dice che è coerente perché la Lega è sempre stata per cancellarle e questo però non giustifica perché il PD è sempre stato per tenerle tant'è vero che l'altra volta tu sai Elio attraverso diciamo l'accordo regionale qui abbiamo fatto e lo sa anche Walter Manzon che quella volta era segretario del partito siamo riusciti con una maggioranza risicata dico la verità perché non avevamo il fiume al nostro fianco a fare quella riforma diciamo nel numero e non nelle funzioni lì dovevamo farlo ed era l'impegno che avevamo nel programma amministrativo che ci eravamo dati e credo che cancellarle e produrre successivamente una proposta non è rispettare quel programma e quindi questo penso che non sia una cosa che possa farci onore per cui l'invito è una riflessione e non impuntarsi sul fatto che sia indispensabile cancellarle stasera io penso che possiamo ma questa è una riflessione che io invito a fare la nostra candidata Daniele Giusti grazie grazie consigliere Passoni interviene la consigliere Daniello nella facoltà grazie grazie consigliere collega Martino è vero è cambiato il mondo allora cerchiamo di vedere i cambiamenti ed ascoltare i cambiamenti anche su tutti gli altri temi ok non mi dilungo ma faccio una parentesi rispondo al collega Dalmas che prima quando mi sedete vicino a lui mi chiese ma perché voti per le circoscrizioni e contro la loro abolizione perché l'articolo 118 della Costituzione prevede l'obbligo per le istituzioni di favorire l'attività dei cittadini rendendoli protagonisti e responsabili attivando strumenti organizzati su tutto il territorio valorizzando le esperienze le azioni positive e per rafforzare il potere di intervento e la responsabilità del singolo verso la comunità solo così si parla di comunità una cosa invocherei a questo consiglio di non ricordare continuamente il costo del consiglio comunale dei ragazzi ricordiamoci invece quanti soldi abbiamo investito perché dico investito per parlare di circoscrizioni tra consigli comunali e commissioni per arrivare a che cosa a non essere ascoltati a non essere ascoltati da questa maggioranza per cui sono soldi quasi spesi male ho ascoltato nell'ultima commissione uno dei colleghi consiglieri di circoscrizione che diceva non nascondendosi dietro un dito che lui ha lavorato per portare voti ai consiglieri che siedono in questo consesso bene e questo credo sia l'aspetto meno edificante delle circoscrizioni perché altrettanto invece abbiamo ascoltato tutto il lavoro la fatica e la passione che non solo una circoscrizione ma tutte le circoscrizioni e tutti i consiglieri di circoscrizione hanno posto nel loro lavoro più o meno di volontariato che cosa hanno fatto filtro per la per la comunità raccordo per il comune promozione sociale promozione culturale e quindi hanno parlato con i cittadini anche quelli che come diceva dal MAS non ci conoscono e non ci fermano per strada perché conoscono molto meglio i consiglieri di prossimità quelli più vicino a loro quelli che vanno al bar con loro quelli che vanno al funerale quelli che vanno in cimitero quelli che vanno nelle case ad ascoltarli quelli che li accompagnano anche in opere di solidarietà e ne abbiamo sentiti esempi a valanga e con il risultato che questa maggioranza non ha ascoltato e non ha fatto un passo indietro rispetto alle posizioni iniziali o meglio ha fatto un passo indietro solo il PD perché per ascoltare la voce del fiume ma giustamente in assemblea del circolo cittadino Cescutti che è segretario provinciale dice questa maggioranza non si chiamerà più di centro-sinistra si chiamerà PD e liste civiche proprio per non dare atto a interpretazioni benissimo e ricordiamocelo questa maggioranza non si chiamerà più di centro-sinistra ma di PD e liste civiche e ha tenuto a sottolinearlo il segretario provinciale l'ho ascoltato con le mie orecchie quindi non riporto voci di radiocorridoio ho inviato a tutti i consiglieri e quindi anche all'amministrazione uno stralcio del regolamento che aveva scritto Marigliano quando era ancora consigliere di circoscrizione perché si è licenziato da quel compito nessuno nessuno ha risposto tanto meno l'assessore Mazzer perché conosceva benissimo questo regolamento perché ne abbiamo discusso in un incontro quando ero ancora del PD e quando Elio Rossetto unica penso volta mi diede ragione sul tener fermo il punto del valore delle circoscrizioni dovevamo cambiarle insieme assessore Mazzer insieme a tutti e lei su questa cosa si era impegnato ripeto anche con una risposta ad una mia interrogazione prendendo fra l'altro in nel circuito anche altri due assessori l'assessore Romor e l'assessore Zille perché l'assessore Zille devo dire facendo parte di Vivo Pordenone credo non voglia chiudere le circoscrizioni o sopprimerle cosa termine come io sto parlando di assessori che lei aveva preso ok non parliamo di altri perché credo che neanche la Rubino le voglia chiudere allora bene quindi non è vero che nessuno in modo trasversale non ha lavorato per proporre cose alternative anche all'interno del PD anzi soprattutto all'interno del PD quando prima di uscire io Matteo Loro e Passoni inviamo al sindaco una lettera in cui ci impegnavamo a rivedere con lui e con gli assessori di competenza il regolamento delle circoscrizioni non ci fu risposta io ho detto che abbiamo inviato al sindaco non all'assessore competente bene quindi come siamo sordi e muti oggi perché credo che nonostante arriviamo a oltre mezzanotte neanche questa sera vi sposterete di un millimetro rispetto alle decisioni già prese ahimè bene però se aveste avuto voglia non solo di rivedere le circoscrizioni ma aveste voluto voglia di ascoltare i cittadini la gente c'era anche un altro modo se non quello invece di lasciare un buco normativo perché le consulte non avrete più l'appoggio della Lega e quindi si riproporrà lo stesso problema di oggi no? vabbè vediamo vediamo quando andiamo vediamo quando andiamo alla votazione mai essere sicuri e certi mai essere sicuri e certi sì sì c'è una differenza sostanziale non si parla più di circoscrizione ma di una cosa a cui non assomiglia neppure alle circoscrizioni le consulte non hanno niente a che vedere eh e invece ribadiscono il fatto che voi tagliate le circoscrizioni perché secondo voi è un costo per questa amministrazione non avete mai parlato di costi certo ma anche qui la contraddizione Assessore Mazzer se non aveste mai parlato di costi avreste dato un gettone di presenza a quelli presenti nelle consulte invece a costo zero certo il volontariato l'associazionismo si dà da fare in città e ce ne sono molte associazioni che si danno da fare ma non è così che si cresce non è così che si supplisce se più non volete supplire alle vostre mancanze creando le consulte quindi non si riesce a capire che cosa volete fare non c'è un'idea del dopo quindi non c'è una lungimiranza politica ahimè e quindi non c'è un domani né per le consulte né per le circoscrizioni ho sentito anche nello scorso consiglio parlare di alcuni presidenti di circoscrizione che sarebbero stati autoreferenziali beh se mi dite qual è la differenza tra l'autoreferenzialità ammesso che ci sia di alcuni presidenti e il fatto che voi volete andare al voto senza aver ricevuto la risposta delle circoscrizioni su questa delibera secondo me è molto più autoreferenziale questo voto e di di un'autoreferenzialità tra l'altro limitata rispetto a quello che potrebbero con il senno di poi essere stati questi presidenti di circoscrizione e questi consiglieri che avrebbero votato che sarebbero stati appunto autoreferenziali sono d'accordo con con il collega Pedicini aspettate un attimo fate una sospensione di due minuti per dire a tutti per dirci fermatevi un attimo fermiamoci un attimo e riproviamo a rivederci a rivederci con una larga maggioranza per cambiare il regolamento e per dare un'altra chance ai nostri colleghi consiglieri di circoscrizione ahimè penso che non ci sia più tempo invece anche se io auspico questa cosa come l'ha auspicata Matteo Loro e come l'ha auspicata Passoni e da altri consiglieri che mi hanno preceduto di di chiedervi un ritiro di questa delibera proprio per la valenza di questa delibera qui e per la gravità che contraddistingue questa delibera d'altronde credo che a chi vuole firmare e votare questa delibera e mi faccia capire scusi i consigli i consiglieri possono ritirare la delibera presentata e firmata ma certo ma non mi spaventano queste risposte credo di essermele già annotate nel senso che non avete rispetto per i programmi che avete firmato in coalizione figuriamoci se avete rispetto per quello che chiede una persona del gruppo misto figurarsi collega Palmisano chiudo con una frase molto simpatica il PD non sta tranquillo sta ultra tranquillo sta sereno come ha detto Renzi non si preoccupi stia sereno Letta grazie grazie consigliere consigliere Piccin prego grazie presidente ma allora questa il ritorno di questa lunghissima discussione che dura da anni in tutti i livelli dei consigli da quelli regionali a quelli comunali parrebbe che questa sera fosse arrivata alla fine forse allora per non ripetere ciò che è già stato detto e ciò che in linea noi abbiamo sempre portato avanti e pensato parto da una constatazione che fa riferimento un po' a quello che a quello che ha detto adesso il collega anzi l'assessore che pur sempre un collega no Mazzer si è dimesso ma è sempre un collega collega dell'aula ha detto giustamente noi questa delibera questa non è una delibera dell'amministrazione ma è una delibera del consiglio e pertanto noi non la possiamo ritirare a questo proposito caro presidente del consiglio io quando ho partecipato all'HP gruppo non avevo ancora ricevuto il documento nel senso che l'avevo ricevuto a casa ma ero venuta qua ah stia tranquillo non riprendo lei ma faccio presente una cosa che sono rimasti ovviamente gli stessi nominativi dei proponenti tra i quali anche la sottoscritta nonostante il provvedimento sia in itinere cambiato e non di poco in modo sostanziale è vero che tant'è che io alcuni di quegli emendamenti che sono stati approvati dalla maggioranza di quest'aula l'altra volta non li ho votati e quindi comprendo e condivido il fine principe cioè quello della come dire del non mantenimento delle circoscrizioni ma non condivido per la verità tutta una serie di emendamenti che sono stati approvati e che sono andati a costituire parte integrante di questo testo allora mi chiedevo se comunque in ogni caso era corretto e non era invece corretto che l'amministrazione visto che poi era uscita dall'aula la facesse propria mi spiego nel senso che non è che la consigliera Mara Piccin ha chiesto e scelto con voto favorevole di inserire le consulte non le vuole questa è una mediazione che è stata trovata all'interno della maggioranza e che quindi non mi ha vabbè insomma trasversale va bene non so come siano andate le cose nel dettaglio però insomma mi chiedevo se forse se forse non fosse stato il caso di la consulta del PD vabbè ma allora non entriamo Riccardo nei dettagli però insomma rispetto a quello che era il testo che io ho sottoscritto le modifiche sostanziali sono diverse comunque l'obiettivo principale primo è chiaro e io è quello che condivido ed è su quello che mi soffermo allora dicevo che insomma la discussione che c'è stata è stata lunga tutti hanno portato avanti la loro tesi a mio modo di vedere però si si è soffermati molto e qui lo dico non come esponente della Lega Nord perché non sono più esponente di quel partito ma come consigliere di opposizione mi pare che si sia rigirato molto e si siano portati avanti come dire pensieri non molto lineari rispetto a questa trasversalità che ci sarebbe nell'approvazione di questo provvedimento allora guardate io dico molto tranquillamente e lo ha detto molto bene il collega Rossetto prima se vogliamo andare a trovare le pulci dove non ci sono le possiamo sempre trovare ma lui l'ha detto io lo ripeto la posizione della Lega Nord è sempre stata chiara l'ho detto qui in aula ho fatto da relatore di minoranza sostituendo il collega Franz che nel frattempo era diventato presidente del consiglio in consiglio regionale nell'altra legislatura e il voto fu contrario la maggioranza la maggioranza del consiglio e ricordiamo cara collega Daniello che non vedo che è vero che l'articolo 18 del 118 della Costituzione fa tutta una serie di riferimenti ma esiste una legge dello Stato che ha in qualche modo tolto di mezzo queste consulte e noi lo ripeto per l'ennesima volta sì sì queste circoscrizioni pardon sì inteso come circoscrizioni che ha tolto di mezzo le circoscrizioni noi le abbiamo mantenute perché abbiamo autonomia legislativa su questo e gli inciuci e le schizofrenie non stanno all'interno di chi ha sempre votato in modo lineare stanno casomai all'interno di chi da una parte vuole la diminuzione del numero dei consiglieri comunali e dall'altra vuole mantenere le circoscrizioni allora io credo che da questo punto di vista ci si debba lineare credo che il consiglio comunale possa essere fatto di 20 di 30 di 40 non è importante di quanto ma credo che in una linearità di azione di pensiero non si debba diminuire qualche cosa che è comunque rappresentanza di tutta la città è prevista sì costituzionalmente per dare spazio a qualcos'altro che in altri ambiti in altre regioni esistono solo al di sopra di un certo numero di abitanti allora la legge dello Stato non mi risulta che ha tolto le circoscrizioni non mi risulta sia stata dichiarata incostituzionale ma sia stata applicata in tutte le altre regioni d'Italia allora dico guardate se ci sarà la maggioranza per fare in modo di superare questo istituto bene se non ci sarà rimarremo fermi al palo non ci strapperemo i capelli né in un caso né nell'altro però credo che rispetto ad un lungo percorso che è stato fatto un qualche cosa ai cittadini lo si debba pur dire io devo prendere come dire posizione rispetto a un qualche cosa che è stato da più di qualche consigliere portato avanti ma i cittadini mi hanno chiesto allora siccome abbiamo avuto parecchio tempo tra la prima e la seconda votazione e siccome devo dire la verità che gli interventi che sono stati fatti l'altra volta mi hanno creato un qualche dubbio mi hanno portato a una qualche forma di riflessione e quindi ho provato a fare un test che non ha nessun valore ma l'ho fatto per me per la mia coscienza e perché il mio voto sia certo e sicuro e allora che cosa ho fatto ho chiesto a cento persone che non conosco che non conosco sottolineo ho fatto due domande e ho chiesto se sanno che cosa sono le circoscrizioni e se si sono mai rivolti a qualche consigliere di circoscrizione per risolvere una qualche problematica l'ottanta per cento 78 facciamo una media di 80 ha risposto no che non sa che cos'è la circoscrizione e che non si è rivolto perché non sa chi sono quelli che fanno parte delle circoscrizioni allora per sgomberare il campo ripeto sottolineo e ribadisco che sono persone che io non conosco ok che vanno da un'età di giovani ma siccome non conosco non so se hanno 20 piuttosto che 25 ma sicuramente arrivano ad oltre 70 anni di età allora questo mi ha fatto come dire stare più tranquilla con la mia coscienza che il percorso che quando ero all'interno del partito della Lega Nord ho sempre coerentemente portato avanti è un percorso giusto è un percorso che quanto meno non stride con quella che è il piccolo test della realtà che io ho fatto in merito a quello che ho anticipato prima con il titolo diciamo così e con la modifica della delibera alcune questioni le devo dire allora guardate chi fa amministrazione chi fa politica sa bene conosce bene quali sono i limiti delle azioni e che cosa può accadere all'interno di un grande partito dove o di una coalizione larga che governa dove si devono trovare alcune forme di incontro e voi l'avete trovate con le consulte che non mi appartengono che non voterò che non ritengo degne di sostituire le circoscrizioni perché io ritengo che non debbano essere sostituite io ritengo che le consulte debbano essere un qualche cosa che si forma di volta in volta intorno ad un determinato problema intorno ad un argomento preciso e specifico non una sostituzione delle circoscrizioni ed è per questo che non sono d'accordo rispetto a questo non mi interessa se sono partitiche a partitiche se vengono non mi interessa non sono la soluzione se la maggioranza ritiene o riteneva che ci fosse la necessità di una forma di coinvolgimento ancora simile e ancora strutturato nel modo in cui lo erano le circoscrizioni le avrebbe dovute riformare ma questo è un altro discorso si sono abbattuti gli strali di alcuni consiglieri rispetto al punto 9 il punto 9 è il frutto di un emendamento fatto un po' in modo superficiale che io non ho sottoscritto e sul quale mi sono astenuta per amicizia nei confronti del collega Piccinato che mette la questione dei consigli comunali itineranti allora siccome non possiamo far finta di niente dico che questo a mio modo di vedere ma Piccinato non ha bisogno di avvocati difensori però devo dire questa cosa credo che questo sia un suggerimento che il collega ha raccolto in tutta fretta che non sia un qualche cosa che lui ha come dire premeditato e che forse andrebbe riformulato in modo diverso è un po' il frutto dell'inesperienza perché ciò che è itinerante solitamente sono le giunte sono è il governo della città o di una regione che è itinerante perché se io immagino se io dovessi solo immaginare che il consiglio regionale si dovesse riunire in forma itinerante una volta per provincia verrebbe un colpo a tutti i funzionari il consiglio comunale è un po' diverso non fa leggi ma fa sempre provvedimenti ha sempre bisogno di una struttura che si dovrebbe spostare ha bisogno di un sistema di registrazione e quindi ci sono delle difficoltà allora io non so se rispetto a questa questione ci sia una praticabilità e una fattibilità certo è che abbattersi in modo violento rispetto ad una leggerezza mi sembra un po' eccessivo ripeto non l'ho votato nemmeno io perché conosco le dinamiche come funziona e quel poco di esperienza che ho mi dice che sono sono gli organi di governo che si spostano perché hanno azione diretta e perché portano in giunta provvedimenti delibere che sono già formate e che hanno già il parere tecnico e tutto ciò che serve per essere già come dire perfette nella forma e nei contenuti chiudo presidente dicendo che alcune volte i combinati disposti di come dire degli emendamenti e dei provvedimenti alcune volte creano dei mostri creano dei mostri ecco perché sarebbe stato opportuno che ci fosse una maggiore forma di coordinamento per come la vedo io da parte di chi sta dall'altra parte e governa questo comune quando si ha intenzione oppure si fa una scelta credo che non ci sia niente di male nel formalizzarla portarla avanti così come avete sempre fatto io sono dieci anni che sono qua in modo deciso si fa così perché noi la pensiamo così ricordo ancora qualche assessore della precedente ma anche dell'inizio forse di questa legislatura che in sede di bilancio diceva molto pacificamente gli obiettivi di questa amministrazione sono questi e noi la pensiamo così non vi piace sottointeso non si dice per educazione e chi se ne frega stiamo governando voi la prossima volta si cambierà arriverà qualcun altro e si faranno e si porteranno avanti obiettivi diversi ecco da questo punto di vista secondo me e se per come la vedo io è mancato il coraggio di andare fino in fondo rispetto a tutto ciò che è stato detto ripeto ancora una volta e a queste maggioranze come dire combinate credo si possa tranquillamente glissare grazie grazie consigliere consigliere Ribetti prego non è mica dichiarazione di voto vuol dire dopo o no è una dichiarazione di voto è un intervento 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 grazie grazie presidente io anticipo subito che il mio intervento sarà molto veloce primo perché non voglio ripetere molte delle cose già dette nello scorso intervento che poi gira di giro sempre quelle secondo perché francamente sto poco bene quindi non so neanche se mi fermerò fino alla votazione ma francamente con poco con poco ramarico nel senso che nel senso che questa votazione è una votazione un po' inutile nel senso che o la maggioranza c'ha i 21 e quindi inutile esprimere proprio di senso o non arriva a 21 e quindi passa lo stesso la linea di chi è contrario come sottoscritto quindi non ne faccio mistero adesso perché l'ho già detto subito la mia posizione parto da una delle parti finali dell'intervento della collega Picin che mi ha preceduto forse una delle poche volte che non la vediamo alla stessa maniera su una questione lei ha ricordato l'articolo 9 l'ha definito l'ha definito come l'ha definito l'avete sentito io lo definisco in un'altra maniera l'articolo 9 secondo me è proprio è proprio l'emblema che ci fa capire quanto si sia giunti a mercificare quella che può essere un'idea e adesso vado a spiegare perché io posso capire la posizione del collega Piccinato e posso capire anche la posizione dei colleghi del fiume da sempre contrari alle circoscrizioni non hanno mai presentato da questo punto di vista forse sono stati l'unica volta sono stati coerenti non hanno mai presentato candidati in consigli di circoscrizione a dire la verità hanno fatto poco quando hanno amministrato per eliminarle già dai tempi dell'imperatore Bolzonello primo e secondo la Lega Nord un pochino meno coerente perché che ne dica i propri consiglieri di circoscrizione li ha presentati li ha fatti eleggere però poi il consiglio regionale sto riconoscendo il consiglio regionale ha fatto le proprie battute ma ma chiedo scusa al sessore Conficconi potrà parlare quando vorrà mi dispiace solo mi dispiace solo vede vede presidente vede presidente questo sa in qualche parte d'Italia c'è un detto che recita così non sputare in faccia non sputare in aria che in faccia ti cade questo è uno di quei classici casi in cui l'assessore Conficconi per fare ma come altri come altri come altri per fare quella mossa bellissima e che va a favore del bilancio comunale che è stato di dimettersi ed essendosi dimesso dal ruolo di consigliere comunale su una delibera che non proviene dall'amministrazione deve solo stare zitto incartarsela e non può intervenire e quindi io chiedo che l'assessore Conficconi non mi interrompa più no no l'assessore Conficconi non può parlare questa sera perché questa sera l'assessore Conficconi che non è consigliere non interviene perché non è una delibera dell'amministrazione ecco qui l'assessore Conficconi non deve interromperla non deve parlare quando non è autorizzato perciò invito l'assessore Presidente non ritenendo non ritenendo il sottoscritto che la delibera in oggetto riguardi le deleghe dell'assessore Conficconi l'assessore Conficconi non credo possa intervenire in questo dibattito e se c'è bisogno chiederò anche parere di legittimità del segretario comunale no ho detto se ce n'è bisogno io credo io credo io credo che l'assessore Conficconi abbia abbastanza buon senso da non intervenire più grazie e torno e torno al dibattito e torno al discorso stavo dicendo che se rispetto la posizione del fiume e posso rispettare quella della Lega Nord magari un po' meno coerente per motivi che ho detto prima ma sicuramente più vicino alle mie idee quello quello che veramente non capisco è la posizione dell'altro partito di maggioranza del partito democratico partito democratico che ha la totalità o la quasi totalità delle circoscrizioni in mano partito democratico che continua a fare degli delle uscite schizofreniche non me ne vogliono i colleghi adesso spiego in che senso non voglio offendere nessuno però da una parte mi vanno a dire riduciamo i consiglieri comunali dall'altra mi dicono però quando possono farlo non lo fanno mi dicono sopprimiamo la provincia però continuano a fare vogliamo l'Uti unica non ne vogliamo 5 mettetevi d'accordo ragazzi mi venite a parlare che i tempi sono cambiati che bisogna stare al passo con i tempi che bisogna superare bisogna essere un partito di rappresentatività e mi venite a fare un partito di nominati mi nominate tutti dappertutto avete nominato il presidente della provincia perché non riuscivate a vincere un'elezione provinciale volete eliminare il senato perché volete nominarvi chi volete io in effetti inizio veramente a avere delle serie difficoltà di comprensione ma forse perché sono ho limiti miei sicuramente non sono in grado di cogliere queste sfumature politiche che dovrebbero invece essere lampanti sotto gli occhi di tutti ma questo ci tenevo a dirlo allora secondo me l'articolo 9 e vado a spiegare perché ho usato le parole prima molto forti è il classico compromesso della vecchia politica è la rappresentazione che per portare a casa qualcosa che non si sa bene per quale motivo perché volessero loro abolire volessero loro abolire le circoscrizioni come ha detto prima credo la consigliera Piccino che mi ha preceduto avrebbero eliminato Tukur dicevano è qualcosa che non riteniamo uno strumento la democrazia dell'ultimo livello non ci piace ci sono è una questione di costi non lo so mi dicono la motivazione e allora la elimino ma levare le circoscrizioni per creare qualcosa che non è neanche un creare è istituire perché è già previsto che sono una fotocopia perché nessuno si è mai posto il problema su come mai le consulte sebbene previste dal nostro statuto fino adesso non erano state attivate perché perché erano una fotocopia le circoscrizioni è inutile che ce la veniamo a menare assessore lei è una persona assessore Mazzer lei è una persona ragionevole lei lo sa benissimo che le consulte non erano istituite perché c'erano le circoscrizioni che erano una fotocopia e voi adesso ci venite a dire che volete fare la novità siete il nuovo levate le circoscrizioni e mettete le consulte no allora in questo caso è più coerente la Lega Nord o chi per essa ci viene a dire guardate io sono contrario e le abolisco invece no qua ci troviamo alla mercè alla mercè dei numeri perché quei numeri che per una volta in questa aula avevate difficoltà da avere siamo andati a chiedergli alla Lega Nord in che maniera in una maniera io credo non l'ho sottolineata io l'ho sottolineata da altri colleghi prima di me veramente mi si passa il termine risibile non dico ridicola che è una brutta parola risibile però perché vede andare a dire su una genericità assurda una genericità assurda che prevede a me ha colpito solo un passaggio innanzitutto si viene a parlare di eventuale con la possibilità di un eventuale di dedicare uno spazio ma io chiedo qual è uno spazio nei quartieri che può andare a raccogliere un consiglio comunale itinerante qual è possiamo prendere una palestra di una scuola vogliamo prendere un campo sportivo vogliamo no ma adesso spiego perché è risibile perché poi nella stessa frase mezza riga dopo mi parla di risparmio di costi allora vede vede io voglio capire qual è il risparmio dei costi perché poi se parliamo di risparmio di costi perché lo scrivete voi nella delibera che ci ponete in votazione questa sera è perché ne fate una questione di costi i risparmi dovuti alla soppressione delle circoscrizioni verranno inoltre dirottati per lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza punto 9 punto 9 della delibera come emendata quindi quella che votiamo stasera allora il costo attuale delle circoscrizioni dovrebbe essere non solo maggiore delle future consulte perché sono gratuite però ci sono le spese però dovrebbe essere anche maggiore di tutte le somme per il consiglio comunale itinerante per approntare le sale per trasferire le cose e in più dovrebbero avanzare dei costi dovrebbero avanzare delle somme da destinare allo sviluppo e miglioramento della sicurezza cari signori questa è lettera morta voi lo sapete benissimo l'avete introdotto sapendolo che non lo farete mai questo e l'avete introdotto solamente per avere il voto dell'unica forza che poteva garantirvelo la Lega Nord o meglio una parte della Lega Nord perché c'è qualcuno che prima ha detto che non ha votato questa cosa scusate io sapevo che c'era il capogruppo ci ho detto dopo apriamo un dibattito allora allora vede vede assessore io voglio tornare ancora su di lei perché lei prima ha detto no no ma non con cattiveria cioè no no voglio tornare su lei la prendo come come musa ispiratrice muso come muso ispiratrice mi sembrava brutto allora come musa ispiratrice allora voglio tornare su di lei perché quando prima parlava la collega Daniello lei si è affrettato a dire no no ma guarda che non è mica una delibera nostra e lei lei che ha una buona memoria si ricorderà che io in incipit il mio intervento dell'altra volta dissi assessore Mazzer quello che la convocazione del consiglio comunale che riportava questa come delibera sua non è sbagliata perché in effetti dietro c'è l'amministrazione e c'è lei c'è l'amministrazione nel senso che se l'amministrazione questa cosa non la voleva non l'avrebbe fatta passare e c'è lei in prima persona quale non solo quale esponente di questa amministrazione ma quale assessore delegato che non ha portato a casa il compito che si era ripromesso di fare e io visto che la ritengo una persona capace io credo che lei l'abbia fatto coscientemente io credo che lei l'abbia fatto ma io adesso certo non voglio una sua missione qua ma io sono convinto di questo perché è una persona che quando ci si mette le cose almeno almeno ci prova fino in fondo lei qua non ci ha provato fino in fondo io ricordo una due telefonate forse su quello che poteva essere l'idea del nostro gruppo e poi e specifichi bene quale posizione perché insomma è chiara mi sembra quindi ha capito io ritengo che lei in prima persona sia responsabile responsabile dipende dal punto di vista per me è responsabile di questa cosa si andrà a votare come suo fallimento personale prima che di questa amministrazione io non credo ci sia molto altro da aggiungere ma sai perché perché anche questo è una cosa che ho detto l'altra volta se solo ricordo il collega Passoni proprio lui fece riferimento dicendo guarda che nessuno cambierà idea sono pochi quelli che cambieranno idea e non lo faranno ma lo faranno all'interno a casa loro facendo i conti con la loro coscienza i colleghi del PD perché si rendono conto che stanno facendo uno spot che elevano qualcosa per istituire un'altra cosa simile uguale identica usate il termine che volete con tutte le criticità che ne vanno dietro soltanto che hanno imboccato questa strada e non possono tornare indietro io credo che nessuno di noi lo farebbe quindi caro Marcello io credo che la sorte delle circoscrizioni questa sera sia segnata e ci sia poco da fare mi dispiace mi dispiace perché come ho già detto ritengo che siano un primo strumento un primo approccio poi possiamo dire in circoscrizione ci va gente di una certa età e allora è un aiuto per quelle persone che vogliono continuare a metterci a disposizione se ci vanno i giovani può essere un primo approccio al mondo politico anche per capire mi piace o non mi piace è qualcosa che voglio fare un domani o meno potrebbe essere un modo anche per imparare a parlare per imparare a portarsi certo sul fatto che le circoscrizioni così come erano avevano bisogno di un restyling l'abbiamo detto tutti ma l'abbiamo detto già a suo tempo quando sono state riformate e questo era il compito assessore Mazzer che lei aveva e che non ha portato a termine ripeto scientemente perché le circoscrizioni sapevamo tutti già da allora che andavano riformate bisognava dargli un ruolo più pregnante più operativo più concreto era inutile svilente vedere delle volte che si radunavano lì parlavano ratificavano tanto avevano un parere che non era vincolante allora sì che una persona si pone il problema ma servo o non servo si sarebbe potuti andare su molti aspetti magari per dire la sciocchezza l'aspetto urbanistico della rotonda che riguarda il tuo quartiere dai un parere che sia vincolante mi viene in mente la rotondina di via Udine quella schifezza che è stata fatta con tanto di striscione per un sacco di tempo si chiedeva al quartiere di Borgomeduna cosa ne pensate date un parere che sia vincolante che almeno infatti non è stato ascoltato che almeno potesse almeno bloccare un iter non dico decidere tutto ma almeno bloccare che ci fosse la necessità di fare una doppia lettura non so mi stanno venendo idee così adesso ecco è per questo che ritengo che sia stata persa un'occasione e la cosa che mi fa più sorridere che dovrete su un altro punto di questa delibera perché voi vi impegnate col comma 1 bis la giunta comunale e quindi vede che adesso torna pieno perché lei adesso mi dovrebbe spiegare come mai su una delibera che non è di giunta un impegno viene imposto in capo alla giunta perché? perché? sta nelle regole che bravo allora questa volta l'assessore vuole e fa eccolo qua l'assessore Mazzer che sta arrivando a pensare quello che sto dicendo io si impegna a presentare entro la fine dell'attuale mandato amministrativo una proposta di istituzione di consulte comunali domanda e se la giunta non lo fa? c'è una sanzione? no l'assessore Mazzer siamo corretti no ma non è una questione di essere corretti a me hanno insegnato che una cosa che è scritta c'è una cosa che non è scritta non c'è allora vede a me hanno insegnato quando sto dicendo dica Bianchini può anche parlare ad alta voce visto che ha parlato fino adesso no è lui che parla si sto dicendo una cosa una cosa che si è presentato una cosa che venga approvata una cosa che subisca modifiche che non potrebbe succedere ecco allora sto dicendo voi mi andate mi andate a sovrapporre qualcosa bene ne prendo atto e un po' mi ricorda quello che è successo tra le uti e questa volta lei vuole farlo il consiglio assessore l'aveva già era già stato stimolato lei per portare avanti come no la riforma le circoscrizioni è lei che non l'ha fatta assessore non è che questa volta viene stimolato e lo fa perché forse questa volta questa volta forse ha intenzione di farlo allora concludendo il ragionamento lasciando la parola al collega Piccinato che adesso dovrà chiudere questa lunga serie di interventi che io voglio concludere ribadendo che la mia è una posizione di contrarietà a questa delibera non so se riuscirò a restare per il voto perché sto male ho l'influenza quindi fin quando resisto resto poi dopo me ne andrò a casa non credo di fare torpa a nessuno nel senso che come ho detto prima se non dovesse esserci il mio voto contrario conta poco perché conta che gli altri non arrivino a 21 concludo così il mio intervento grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie grazie presidente allora beh intanto sì non mi piace farmi difendere da qualcuno anche se ho apprezzato qualche intervento che ha fatto un po' da avvocato però penso di poter badare a me stesso rispondo subito al collega però mi preme farlo per primo al collega Dalmas che ha parlato di fedus del federalismo di patto beh gli rispondo che il termine democrazia deriva da demo e kratos potere al popolo e quando c'è democrazia si presume e si estrinseca da questo che ci sia sovranità in quello che fanno qualcuno mi spiega che razza di sovranità hanno le circoscrizioni perché non ce n'è quindi non è democrazia quella sappilo dopodiché con Dalmas riguardo anche riguardo anche al discorso sulla provincia che qualcuno qua abolisce e poi fa il che qualcun altro poi fa le giravolte invece abolisce la provincia però le circoscrizioni no che non sia mai guai vera democrazia contro rappresentanza forse di portavoce quindi due ruoli completamente diversi forse un collettore di informazioni piuttosto che vera rappresentanza democratica quindi neanche questo non lo accetto poi non accetto neanche quello che è stato detto su cose che riguardano veramente la fantasia il PD non ci ha mai chiesto i voti mai lo posso dire mai mai chiesto i voti abbiamo noi liberamente accettato come da tradizione dei 25 anni l'ha ricordato anche il collega del PD che non credo che siamo mai andati d'accordo su niente in 5 anni però quando una cosa c'è da votare la Lega Nord che se la condivide la vota a prescindere da tutto il resto appunto questa per me è rappresentanza politica è coerenza è serietà nella politica niente che qualcuno firma poi ritira la firma per calcolo poi lo ripresenta poi dice che poi fa cambia briga sbraita e dopo boh per me è dire una cosa e farla punto al di là che sia col PD con fratelli d'Italia piuttosto che col diavolo con chi volete se una cosa la condividiamo la si fa punto Bossi disse Bossi disse Bossi disse che il federalismo l'avrebbe fatto anche col diavolo se poteva purtroppo il diavolo era fini e non gliel'ha lasciato fare ma lasciamo queste vicende però ai posteri arrivo il coma nove dopo dopo riprendo un attimo il discorso più serio perché altrimenti ci perdiamo in in qui squiglie ritengo che le circoscrizioni oggi siano un ostacolo burocratico inutile che non porta nessun beneficio tangibile in merito ai costi in merito a quello che può servire a una città soprattutto nell'era dell'informatica soprattutto nell'era in cui ci sono le televisioni c'è whatsapp c'è facebook ci sono addirittura gli assessori che postano le notizie prima che avvengano su facebook e i cittadini possono direttamente scrivergli ma cosa hai fatto oppure bravo quindi credo che l'istituzione delle circoscrizioni come collettori di informazioni senza avere un minimo di ruolo effettivo per poterle cambiare siano assolutamente insensate non siamo più nel medioevo è bene che qualcuno se ne accorga quindi come idea un ente inutile va tagliato punto un ente e va trasformato in un servizio quella quella risorsa che si libera va data a un servizio in un servizio noi con il nostro ammendamento abbiamo detto dove lo vogliamo e lo vogliamo nella sicurezza perché riteniamo che ci sia un'emergenza da questo punto di vista una persona non a Pordenone ma nelle vicinanze è stata ammazzata anche qualche giorno fa quindi riteniamo che la sicurezza sia un'emergenza ma questo l'abbiamo già detto quindi non servono strutture inefficienti ma servono riorganizzazioni intelligenti ed effettive rispondo sempre al collega il sempre dal mass sì no stasera purtroppo collega no 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 niente compagno allora compagno compagno meglio no dico il ma anche ma anche ma anche a qualcun altro che insomma ha chiesto ha chiesto informazioni presidente ha chiesto informazioni sul risparmio che si avrebbe nel nel consiglio comunale itinerante mi pare che ne abbiamo già fatto uno di consiglio comunale itinerante perché è stato fatto il consiglio comunale aperto all'interno l'idea è la stessa permetti o non permetti quanto è costato è costato più di quello normale qua a me non risulta anzi anzi probabilmente è costato meno ma uguale secondo me è costato meno non c'era neanche il gettone di presenza quindi è costato meno quindi dimostrazione che anche questa è stata una cosa detta così perché aveva qualcuno aveva voglia di parlare e nulla vieta che qualche consiglio comunale si possa fare verso nei quartieri senza gettone perché non siamo qui a dire che deve esserci il gettone a prescindere ma che deve essere un servizio ai cittadini e si può anche farlo a casa loro ogni tanto posti ho detto nei modi da definire l'ho scritto nell'emendamento quindi lasciate per cortesia consigliere non usi questi termini non è una questione di costi è una questione di vicinanza alla cittadinanza punto dopo di che anche la questione appunto i luoghi sono tanti c'è quello dove siamo stati c'è poi c'è ci sono vari impianti sportivi dove si fanno mega manifestazioni c'è la sala della parrocchia a Borgo Meduna che è un teatro che può andare benissimo ce ne sono tante di sale che possono essere adeguate anche la bastia del castello di Torre ce ne sono tante di sale adatte a svolgere questa funzione basta un attimo impegnarsi a trovarle e a decidere di farle poi credo che le circoscrizioni oggi rappresentino anche una falsa promessa ai cittadini e dopo dirò una parentesi qua perché non hanno nessun potere quindi quelli che si candidano alla circoscrizione vanno in giro a chiedere i voti ma i voti per cosa che non possono fare niente domanda quindi cioè è una cosa che non riesco veramente a capire da questo punto di vista tant'è che in cinque anni ho sempre mantenuto la posizione di dire chiudiamole che non servono coerentemente col percorso fatto dalla Lega e non ho ancora trovato un cittadino che non fosse un consigliere di circoscrizione che mi venisse a dire no ti prego non chiuderle perché servono ho trovato solo cittadini che mi vengono che mi vengono a dire ti prego chiudile che non servono qualcuno addirittura qui all'interno di questo consiglio comunale mi ha dato del personaggetto perché avrei fatto un accordo chissà che cosa che ho appena detto che non sono neanche venuti a chiedermi il voto tant'è che non so nemmeno qual è il regolamento di queste consulte perché ho appena detto al capogruppo del PD gli ho detto ma cazzo scusate il francesismo non mi hai neanche mandato il testo quindi cioè voglio dire non mi hai neanche mandato il testo cosa vuoi chiedermi il voto voglio dire ragazzi siamo seri ma forse Passoni è abituato al Soviet che non serve parlarsi e trovare un accordo tra persone civili gli arriva dall'alto l'informazione questa è punto perché questa funziona il Soviet ma che magari è più la sua area poi anche il discorso della coerenza che qualcuno mi ha fatto dai banchi sempre dell'opposizione ma anche qualcuno dalla maggioranza che però in questo caso vota contro che è quella del fatto di votare col PD una cosa ho già parlato prima una cosa ma faccio una specifica perché allora direi che Forza Italia vota con rifondazione comunista sto giro all'opposizione mi sembra che qui ci sia un po' di incoerenza ma così no? ho sbaglio lasciamo perdere lasciamo perdere lasciamo perdere io devo lasciar perdere ma cosa stai ma non riuscite ma lasciate terminare l'intervento potete intervenire potete intervenire in seconda battuta consigliere dopo 10 minuti per dire tutto quello che vuole sicuramente lasciate terminare il consigliere Piccinato siamo in democrazia ognuno può dire quello che vuole può manifestare il suo pensiero silenzio volevo anche sottolineare il fatto nella questione di utilità delle circoscrizioni che le circoscrizioni più volte hanno bocciato i bilanci che ci sono stati presentati addirittura tante volte non hanno ricevuto neanche la chiamata alle armi per così dire di votare qualcosa che veniva presentato in consiglio oppure è stato fatto in ritardo è stato fatto in alcuni casi prima in alcuni casi dopo che era già stata presa la decisione addirittura stavolta non sono neanche state fatte votare sulla cosa che le riguarda quindi questa è l'utilità che hanno le circoscrizioni e rispondo l'ultima battuta sui consigli itineranti ricordo che la massima istituzione io dico purtroppo in questo momento che è quella europea a livello del nostro governo fa il consiglio comunale itinerante una volta al mese perché passa da Bruxelles a Strasburgo con i camion delle carte e ci costa 400 milioni l'anno questa roba qua 400 milioni l'anno qui invece si chiede di farlo gratuito perché anzi probabilmente risparmiando come ho detto prima ribadisco che il frutto dell'emendamento non è stata una decisione che ho preso io in prima persona quindi magari uno può pensare piccinato non ci arriva vabbè ma invece probabilmente è un emendamento che ho scritto male perché quello si è stato fatto in maniera frettolosa probabilmente ma è il frutto di una decisione che è uscita dal direttivo della Lega Nord dalla sezione della Lega Nord quindi è una cosa l'emendamento dico quindi è una cosa che non ha avuto nessuna mediazione col PD che è uscita da noi come il discorso delle consulte mi risulta che sia uscita da una mediazione interna al PD per cui non credo che ci sia stato qualsiasi tipo di scambio noi abbiamo accettato loro hanno accettato non c'è stato nessuno scambio voglio però ringraziare i consiglieri circoscrizione e i presidenti circoscrizione perché nonostante non potessero fare nulla hanno cercato di fare il meglio che potevano e questo va a loro riconosciuto nel massimo modo e quindi bisogna anche dire le cose insomma come stanno però ritengo che sia un argomento ormai superato e che serva andare oltre mi spiace come ultima cosa però notare un fatto che si sia sia stata molto più alacre questa battaglia per la cancellazione di qualche posticino piuttosto che i problemi dei cittadini questo personalmente mi ha fatto estremamente male grazie grazie consigliere appiccinato no 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 consigliere rimetti non ci pensi neppure no 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 chiaramente su cosa sull'ordine dei lavori dei componenti dei componenti no lei formula con il secondo intervento formula la domanda e poi gli avrà risposto probabilmente prima delle dichiarazioni di voto è rituale consigliere ribetti faccia allora scusate ancora per il primo intervento per il primo intervento nessun altro iscritto signori calma 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 bene chiudo il primo intervento scrivetevi per il secondo bene consigliere freschi grazie presidente allora io questa sera ho assistito con attenzione al dibattito che che è emerso e intervengo devo essere sincero con una certa con una certa tristezza perché non appartengo né all'una né all'altra tifoseria né chi è per l'abolizione né chi è per il mantenimento perché non non appartengo perché io mi richiamo al dettato di questo di questa tornata amministrativa la quale si è aperta con un documento che era la sintesi di un documento della maggioranza che si è rappresentata alle elezioni e che si è in qualche modo sintetizzata in un programma in un programma che è stato presentato dal sindaco con la delibera numero 7 del giugno 2011 questo programma recitava quello che è stato già detto da più di qualche consigliere che si doveva intraprendere un cammino nel quale l'esperienza delle circoscrizioni doveva evolvere doveva evolvere programmando programmando un percorso quello è stato il primo passaggio poi ci sono state una serie di altri passaggi passaggi che il consigliere Rossetto ha ricordato con mozioni con dibattiti eccetera io ricordo quello relativo al 2014 e poi quello relativo alla delibera che riguardava la diminuzione del numero di consiglieri io in tutte queste circostanze in tutti questi momenti sono intervenuto chiedendo fortemente fortemente lo ribadisco un tavolo aperto per discutere del problema un tavolo aperto dove sarebbero stati coinvolti i consiglieri comunali ma anche i consiglieri circoscrizionali perché si arrivasse ad un percorso condiviso perché ci fosse una linea che in qualche modo raggruppava tutti coloro i quali facevano parte dell'esperienza delle circoscrizioni e coloro i quali si devono all'interno di questo consiglio devo dire che la mia è stata una voce nel deserto nel senso che non ho trovato accoglienza né dalla maggioranza né dall'opposizione perché sì caro Dalmas sto al centro sto al centro perché al centro si cerca di ascoltare tutti e qualcuno invece piace ascoltare solo se stesso e beh insomma si vede e si sente allora io penso che se noi avessimo affrontato questa strada con maggiore responsabilità da parte di tutti forse questa sera non ci troveremo qui ad avere una situazione divisa non dico metà ma quasi non so quale sarà l'esito della serata in ogni caso sarà un esito amaro sia per chi vince sia per chi perde perché non avrà portato una soluzione avrà portato una toppa per dire se se dovesse vincere il partito dell'abolizione ci troveremo a parlare tra una settimana di consulte io ho letto il testo e devo dire che il testo non mi piace non mi piace per una serie di passaggi e ha un altro passaggio che non è contemplato ma è sottinteso che in ogni caso in ogni caso consulte sì o consulte no all'indomani del 5 o del 12 di giugno non so quale sarà la data perché mi pare che siano ancora in discussione e poi ci sarà il 5 grazie consigliere Picin e poi se ci sarà il balottaggio avremo altri 15 giorni ecco ci saranno 6 mesi ecco in questi 6 mesi cosa succederà in questi 6 mesi quale vacanza ci sarà dal punto di vista del governo di ciò che le circoscrizioni in questo momento stanno facendo e hanno fatto ci sarà un vuoto salvo che qualcuno che il sindaco che il nuovo sindaco non pensi magari di dare delle deleghe a dei consiglieri per gestire la fase di transizione fino all'insediamento delle nuove consulte questo ad esempio è un fatto che questo regolamento che delle consulte non contempla forse il caso se passerà di prevedere anche questo se invece i quartieri le circoscrizioni rimarranno penso che rimarranno con le loro pecche con quelle che tutti hanno detto anche i consiglieri di circoscrizione presenti qui questa sera e quelli che stanno in qualche modo governando le loro circoscrizioni che hanno detto che andrebbero in qualche modo riformate che alcuni passaggi andrebbero rivisti che alcune funzioni andrebbero riviste che alcuni pareri andrebbero rivisti e via dicendo per cui in ogni caso questa sera qualsiasi sia il risultato sarà per me almeno per me che le ho vissute perché ho fatto più tornate amministrative con sindaci diversi con maggioranze diverse le ho fatte in maggioranza e le ho fatte l'opposizione per cui penso che qualcosa posso dire in merito e penso che questa sera non usciremo con un risultato che potrà soddisfare usciremo tutti con qualcosa di meno non con qualcosa di più io questa sera ho assistito a tanti interventi e due interventi molto appassionati di due persone che in qualche modo vivono hanno vissuto la realtà delle circoscrizioni e che hanno cercato di giustificare una scelta oppure l'altra giustamente perché è una loro ricerca una loro riflessione sul dare una soluzione di un tipo una soluzione dell'altro io comunque ribadisco non voglio farla lunga vista l'ora ma anche perché non ci sono molte altre cose da dire sono state dette molte è un problema che ogni volta si ripete è un problema che è caduto nel momento sbagliato e nel modo sbagliato perché ricordiamoci che questa delibera è partita con un testo che parlava solo di soppressione non parlava di altro quando il sottoscritto ha sollevato il problema e ha detto guardate questa è una delibera tronca nel senso che lascia un vuoto allora si è cominciato con gli emendamenti la mia strada la mia indicazione era un'altra non sono stato ascoltato per cui scusate non ho ascoltato una volta non ho ascoltato due non ho ascoltato tre non è che posso mettermi qua questa sera ad appoggiare questa soluzione dico chi l'ha decisa se la voti perché a questo punto io ho cercato di fare il possibile ma ho visto che non andava per quella strada allora mi pare che partire con un percorso che era coerente con chi l'aveva proposto perché chi l'ha proposto il fiume ha sempre detto no alle circoscrizioni mi meraviglio no mi meraviglio che poi ci siano state una serie una serie di prese di posizione poi ritirate poi riviste poi emendate eccetera per cui siamo arrivati questa sera a questo a questo voto è un voto che come dicevo prima in ogni caso dal mio punto di vista lascerà lascerà dell'amaro dell'amaro in bocca e soprattutto per un fatto perché se noi ci mettevamo due anni fa a torno al tavolo a discutere probabilmente l'avremmo fatto in maniera più consapevole in maniera più ragionata in maniera più partecipata e condivisa e forse anche coloro i quali questa sera avvertono sulla loro pelle una specie di cancellazione ma una cancellazione solo dell'ente che in qualche modo rappresentavano ma anche di un loro operare di un loro modo di vedere forse sarebbero stati invece partecipi in maniera costruttiva di una soluzione di tipo diverso ecco queste sono le considerazioni che io mi sento di fare e dico e sottolineo ancora con molta con molta amarezza grazie consigliere consigliere Sperotto prego grazie presidente sarò brevissimo anche la posizione mia personale è sicuramente di superare di superare le circoscrizioni il problema è che in questo momento non si sente adesso si sente meglio ecco e anche la posizione sicuramente ci vuole uno strumento diverso quando mi sono trovato a parlare con chi rappresentava le circoscrizioni loro credo che la loro il loro grosso imbarazzo era quello di non poter fare di più perché non avevano degli strumenti per fare di più ma non di essere ritenuti tra virgolette dei lavativi cioè delle persone che non ricoprivano adeguatamente il loro ruolo e questa sera invece ho sentito delle frasi abbastanza pesanti anche su questo su questo fronte io credo che quando si modifica sotto il profilo delle istituzioni uno statuto si debba dare un quadro coerente ci deve esserci una coerenza e quindi io questa sera avrei voluto votare il regolamento che disciplina le consulte non voglio e non vorrei farlo in un momento successivo perché se la struttura istituzionale di un comune deve essere una cosa molto organica molto coerente e farlo in due momenti separati e con un lavoro che io non discuto sicuramente chi ha lavorato su questo regolamento ha lavorato molto e ci crede però è chiaro che evidentemente riuscire a fare un buon lavoro in pochissimo tempo è molto molto difficile quindi io sono molto critico il mio voto sarà contrario questa sera come sarà contrario il voto della lista del ponte però volevo anche soffermarmi su una cosa che ho già anticipato prima se questa parte della delibera che riguarda l'aspetto del punto 9 che tantissimi hanno criticato viene ritenuta inaccettabile anche da una parte del partito che la presenta e oggi il consigliere Piccinato ci ha spiegato che lui quei consigli comunali non li vorrebbe a gettone ma senza gettone e magari anche pochissimi lo si faccia subito cioè si emani contestualmente a regolamento sulle consulte un regolamento che disciplina questa eventualità per evitare veramente uno sperpero di denaro e anche forse di essere criticati per una delibera che in quel punto sottolineo purtroppo è piuttosto poco credibile grazie grazie consigliere consigliere Palmisano prego grazie presidente volevo dire due parole per riprendere parto dall'ultimo intervento del consigliere Piccinato il quale ha dichiarato espressamente che lui è contrario alle circoscrizioni ebbene in questo consiglio ci sono altre forze politiche che sono state sempre contrarie alle circoscrizioni vedi il fiume però non ha mai presentato una lista alle circoscrizioni il fiume invece la Lega Nord ha una lista e questa lista ha portato anche dei voti alla Lega e io conosco anche dei consiglieri circoscrizioni che si impegnano con tutto il cuore anche nonostante un'età abbastanza avanti diciamo allora sarebbe più corretto secondo me essere coerenti se non ci credono alle circoscrizioni non dovrebbero neanche presentare le liste perché uno che non ci crede ha un'idea e io personalmente rispetto anzi suggerisco di non cambiarla con nessuno di tenerla tranquilla cioè tenerla stretta questa idea magari aprirsi a confronto ecco questo volevo dire al consigliere Piccinato per quanto riguarda invece l'intervento di Rossetto mi dispiace vivamente perché io lo conosco e lo rispetto ed è una persona veramente meritevole di rispetto però non condivido il tono con cui si è rivolto nei confronti delle circoscrizioni non condivido quando dice che le consulte sono meglio delle circoscrizioni non riesco a convincermi questo non riesco a capire come fa a dire che le circoscrizioni le attuali circoscrizioni che stanno lavorando e stanno lavorando bene lui lo sa benissimo perché conosce bene la realtà delle circoscrizioni come fa a dire che le consulte potrebbero sarebbero saranno meglio le circoscrizioni allora intanto dobbiamo ancora approvarle e non si sa quando come approvarle ma lui che sicuramente a qualche anno più di me sa benissimo che chi lascia la strada vecchia e prende quella nuova sa cosa lascia e non sa cosa trova noi non sappiamo cosa troveremo con le circoscrizioni perché se prendo in mano il regolamento delle circoscrizioni e se vorrò il tempo ne parleremo voglio evidenziare alcuni aspetti uno lo ha accennato prima il consigliere Roberto Freschi e cioè attualmente mi riferisco alla Sud perché la conosco bene come lui stesso la circoscrizione fa parte integrante di un tavolo il tavolo di Genius Loci bene io chiedo al consigliere Rossetto da giugno chi siederà a quel tavolo dal momento che il regolamento delle consulte prevede che entro un mese dalla procurazione degli eletti dei consiglieri comunali da quel momento lì si hanno sei mesi per formare le consulte bene una volta dichiarate le elezioni e avvenute le elezioni si votano si voterà il consiglio delle consulte questi hanno 90 giorni di tempo per poter incominciare operare bene andiamo a finire a metà del 2017 in questi mesi chi coprirà il ruolo che hanno svolto fino adesso le circoscrizioni questo volevo chiedere al consigliere Rossetto allora sarebbe stato meglio prevedere questo perché è peccato lasciare diciamo quegli spazi non occuparsi più del territorio questa è una cosa molto ma molto grave poi al consigliere Martino volevo ricordare che se alcune circoscrizioni hanno fatto poche riunioni pochi consigli lo hanno fatto anche per risparmiare hanno raggruppato più punti all'ordine del giorno proprio per andare verso quel risparmio che tanto viene richiesto allora c'era da aspettarselo la mozione per sopprimere definitivamente le circoscrizioni viene posta in discussione pochi mesi prima della fine della tornata amministrativa una scelta sui tempi che ha alle spalle una regia occulta studiata e soprattutto trasversale a settore di tutti gli scrivamenti politici presenti in consiglio comunale una scelta che ha una parola d'ordine che fa da minimo come un denominatore per tutti i colori coloro che vogliono sopprimere le circoscrizioni non disturbare il manovratore da anni si sono susseguiti dibattiti stesi documenti inviate richieste svolte riunioni la stampa del primo giugno 2014 dava notizia di una piattaforma comune per disegnare i quartieri ridisegnare i quartieri elaborata da tutte le circoscrizioni presentate in comune vi sono state due importanti occasioni per intervenire operando scelte ragionevoli e concordate un'arione autoconvocata dai consiglieri circosizionali in sala rossa del comune cui fu presente ed intervenne il sindaco assicurando che si sarebbe stato dato ascolto alle proposte che venivano delle circoscrizioni senza distinzione di parte politica successivi e ripetuti presso le sedi di ciascuno delle circoscrizioni nelle quali l'allora assessore al decenzionamento ripeteva che c'erano problemi ma che si sarebbe comunque esaminata le proposte di riforma le circoscrizioni a loro volta si sono impegnate ed hanno presentato varie ipotesi di riforma del regolamento per cambiare il ruolo si è favoreggiato di chissà quali costi determinassero le circoscrizioni quando conti alla mano se visto che costano poco e si è girata la frittata dichiarando che non hanno nessun ruolo come se il rapporto diretto fra cittadini e amministrazione comunale non fosse stato sempre gestito con serietà e grande spirito di volontariato proprio dalle circoscrizioni esse hanno svolto un ruolo ampiamente propositivo ascoltando i cittadini hanno mantenuto il raccordo del rapporto con le associazioni culturali sportive e di volontariato in genere hanno interloquito con le parrocchie hanno segnalato casi di disagio singoli e collettivi hanno offerto indicazioni per viabilità e trasporti hanno espresso pareri competenti su tutte le delibere sottoposte all'orola pensione ma raramente sono state ascoltate due di esse gestiscono le biblioteche rionali e tanto altro potrebbe essere detto perché non si vuole perché abolire invece perché abolirli invece che riformare il ruolo e chi svolgerà il futuro i loro compiti in commissione è stato proposto anche che le competenze e le circosizioni siano assegnate da alcuni consiglieri comunali nominati dal consiglio stesso difficile che essi esprimano e rispondano super partes come fin qui hanno fatto le circosizioni perché inevitabilmente risponderebbero alle esigenze di immagine delle rispettive parti politiche e comunque agirebbero differentemente a secondo del fatto di trovarsi maggioranza o all'opposizione comunque si esamini la vicenda ormai è chiaro che non si vogliono mantenere le circosizioni perché danno fastidio a chi di volta in volta assume il ruolo di governo tutto deve essere centralizzato è un copione già visto i sindaci i presidenti di regione e di provincia dove ancora ci sono hanno fastidio del ruolo dei consigli esattamente come chi governa ha un difficile rapporto con il Parlamento e punta a svilirne il ruolo si badi però nel nostro caso il rischio è che il risultato dell'abolizione delle circosizioni sia ben diverso da quello che immaginano coloro che ne vogliono la soppressione quelli che vogliono appunto la soppressione allora la risposta infatti sarà l'inevitabile nascita dal basso di decine e decine di comitati e comitatini di protesta per questo o per quel problema per denunciare o difendere per opporsi o favorire un'opera per tallonare direttamente o numerosamente giunto il Consiglio se è questo che si vuole si faccia la scelta di sopprimere questi importanti luoghi di partecipazione popolare e di costruzione ragionata del consenso ma dopo non ci si venga a lamentare se il comune diventerà il luogo principale della protesta e non della proposta se non fa meraviglia la posizione del fiume che ne ha sempre voluto l'abolizione è scaduto il tempo consigliere è scaduto il tempo sono 10 minuti sono quanto meno strane le giravondole di quanti avevano fatto la precedente campagna elettorale avendo nel rispettivo programma proprio la loro riforma ma non l'abolizione io faccio l'ultimo appello a chi ne ha le competenze se c'è la possibilità di ripensare e riflettere attentamente su quello che andiamo a votare perché io domani se vengono cancellate circostazioni con tutta sincerità non so cosa rispondere alla gente se mi chiederà perché le hanno cancellate che cosa devo dire le hanno cancellate per quale motivo ancora non l'ho capito grazie grazie consigliere consigliere passoni prego silenzio grazie presidente un intervento breve però però ecco voglio mettere a verbale il ramarico per delle risposte che non sono arrivate per il fatto che il mio partito abbia fatto una scelta diversa da quella che normalmente faceva cioè la convinzione che la partecipazione di base fosse una cosa importante e vabbè questa storia finisce qui purtroppo e mi sento di dire che questa cosa graverà sulle coscienze di chi accenderà quel bottone verde beh per qualcuno che non ha mai fatto esperienze di scocchezione o per delle liste che non ha mai creduto nelle scocchezioni io lo posso capire e li rispetto ho qualche perplessità che lo facciano i miei colleghi e compagni di partito a fronte di motivi che non ci sono ci siamo imbarcati in una strada che è sbagliata e che non si ha il coraggio di dire forse abbiamo sbagliato tutti e magari ci possiamo riflettere e ripensare e rinviarlo magari la prossima legislatura questa forse è la cosa più ragionevole ma capisco che ormai le macchine sono avanti nessuno vuole fare la figura magari del pero e quindi non ha il coraggio e la forza politica di dire forse tutti abbiamo sbagliato e niente quindi io questa amarezza questo dispiacere questo disagio mi sento di metterlo a verbale prima della votazione alla quale peraltro ovviamente io per coerenza per passione per convinzione dovrò votare contro e sono molto dispiaciuto di questo naturalmente la coscienza sarà sì 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 d'accordo e no voglio concludere che cosa come come allora visto che tu stai provocando che non capisco cosa stai dicendo Fausto io ti dico che questa votazione non è coerente con il voto che abbiamo fatto in coordinamento nel PD quindi questo lo sapete e quindi non cioè inutile che mi vieni a provocare scusa eh perché io sono coerente con quello che ho detto io sono coerente con quello che ho detto e con la votazione che è stata fatta in coordinamento per cui mi dispiace questa ulteriore polemica io cercavo di rappresentare il mio animo come altri hanno rappresentato il loro e come io cerco di rispettare il vostro vi chiedo di rispettare anche la mia scelta che è coerente ripeto con quanto sempre affermato e con il voto del coordinamento che non riferiva perché parlava di contestualità e parlava di congiunta con l'elezione del consiglio comunale questo lo sapete benissimo è inutile che adesso ci girate attorno perché le minestre così fatte non vanno bene per voi non vanno bene per nessuno neanche tanto meno per la comunità ripeto poi oltretutto abbattere cioè essere forti con i deboli secondo me non è un buon segnale grazie consigliere consigliere Ribetti prego grazie presidente mi ha obbligato a questo secondo intervento perché io volevo fare prima una domanda di chiarimenti ai proponenti guardi mi scelgo anche il proponente visto che vedevo qualcuno guardi volevo scegliere Bianchini mi sembra sicuramente il proponente più preparato e mi sembra la persona più adatta per rispondere a questa domanda perché no ma io guardi ne volevo due cioè volevo anche sentire due campagne diverse perché ho fatto un attimo di mente locale con i colleghi allora volevo capire da due proponenti che forse la pensano in maniera diametralmente opposta però vanno a votare lo stesso documento la differenza fondamentale sostanziale quella anche reale possibilmente tra a parte quello che è stato un dramma sportivo tra le circoscrizioni e le consulte quindi vorrei sentire non so se magari il consigliere Bianchini mi spiega qual è la sostanziale differenza tra la circoscrizione e le consulte poi vi faccio la stessa domanda dall'altro proponente piccinato per capire perché io francamente non ho ancora capita quindi non me ne vogliono i colleghi se perderanno due minuti a spiegarmi questa sostanziale differenza e poi magari mi riservo in dichiarazione di voto di replicare a mia volta poi giusto una riflessione perché prima andando velocemente con la confusione è un punto che non ho toccato sentivo qualche consigliere prima che si lamentava del fatto che non sarebbe giunta nessuna proposta di salvaguardia delle circoscrizioni da parte di chi è contrario a questa delibera mi riferisco al consigliere Martino beh io volevo l'ho detto prima all'intervento chi aveva il compito di proporre una riforma delle circoscrizioni non era la minoranza dei consiglieri che non le volevano perché c'era uno schieramento ma chi era stato investito di questo compito era l'amministrazione e la figura dell'assessore Mazzer quindi caro consigliere lei da me può volere quello che vuole però se il compito c'era l'amministrazione quando e se saremo seduti dall'altra parte potremo fare qualcosa quindi non può per difendere una scelta che proviene dal consiglio a dittare di non di non attività mi si passa a questo termine chi non deve fare quell'attività e poi una riflessione che mi è venuta sentendo l'intervento di qualche altro collega attenzione che vale lo stesso per qualcun altro che ha detto questa cosa dicendo che è stato l'unico a cercare una mediazione l'unico a cercare di trovare un dialogo attenzione in maggioranza che può proporre non ci siamo noi io non mi ricordo che mi sia mai giunta nessuna telefonata nessuna richiesta di intervento perché la mia posizione sulle circoscrizioni come l'ho detto all'assessore Mazzer è sempre stata chiara io non ho mai ricevuto nessuna telefonata da qualche membro della maggioranza per dire sediamoci attorno a un tavolo e troviamo una riflessione sulle circoscrizioni e mi sono visto notificare come ordine del giorno di un consiglio comunale una delibera proposta ad alcuni consiglieri di soppressione io ero rimasto alle telefonate dell'assessore Mazzer due anni e mezzo fa basta quindi volevo un attimo chiarire l'orizzonte da questi dubbi perché poi qua col gioco delle parti ognuno dice quello che vuole però ognuno si deve anche assumere le proprie responsabilità non è che adesso andiamo tutti quanti a fare i verginelli e i salvatori della patria c'è un fronte l'ho ricordato all'inizio del mio intervento di quelli che sono sempre stati contrari fiume c'è un fronte di un altro fronte che è stato contrario con qualche tentennamento nei fatti perché le liste le presentava lega nord c'è un fronte schizofrenico tra virgolette che non capisco del PD l'ho detto prima e lo ribadisco adesso però altre voci non le ho sentite io ero rimasto due anni e mezzo fa alla telefonata di Mazzer che mi fa cosa ne pensi delle circoscrizioni cosa che femo boh sento gli altri te diciamo più senti io così sono date le cose a meno per quanto riguarda me se qualcuno è stato invitato o ha invitato o ha costituito un tavolo a cui io non sono stato invitato ne prendo atto adesso ecco ci tenevo a dire solo questo e quindi attendo la risposta di qualcuno dei proponenti grazie grazie consigliere bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso il secondo intervento ecco siccome la delibera non è dell'amministrazione ovviamente a questo punto dovrebbe parlare l'amministrazione se fosse l'amministrazione se qualcuno dei proponenti vuol fare una breve replica di 5 minuti può farla se no passiamo alle dichiarazioni di voto bene dichiarazioni di voto nessuno iscritto consigliere Piccinato prego due cose rapide allora votiamo a favore di di questa deliberazione perché appunto tutto quello che era più vicino possibile alla cancellazione delle circoscrizioni per noi va bene quindi dico che sulle consulte pur non essendo chissà che entusiasti di questa cosa qua comunque erano già previste dallo statuto quindi non è che introduciamo qualcosa di nuovo sulla rispondo alla domanda che mi ha fatto il collega garibetti e dico che se le consulte sono così uguali le circoscrizioni perché ci voti contro quindi basta dico solo quello e poi l'ultima cosa è che comunque anche rispondendo a Palmisano che la la lega è contraria a questa unione europea per così come è fatto eppure sta in Parlamento Europeo perché le cose si combattono da dentro l'ultima cosa precisazione del quando parlavo dell'avvocato che non mi faccio difendere mi riferivo al collega Rossetto grazie grazie consigliere appiccinato consigliere Tomasello prego grazie presidente sarò molto breve appunto per la dichiarazione di voto ho ascoltato tutti gli interventi che sono stati fatti ringrazio in particolar modo gli interventi ringrazio in particolar modo gli interventi del consigliere Rossetto e del consigliere Martino vorrevo fare alcune precisazioni e alcune imprecisioni che sono state dette in particolare dal consigliere Dalmas guardi che l'organismo apartitico è ammissibile e può esistere semmai un organismo di partecipazione apolitico non è non è possibile perché consigliere Dalmas politica significa scegliere politica e scienza del governare quindi un organismo apolitico certamente sarebbe un organismo immobile studi lei guardi studi lei lei lezioni da lei poi volevo riferirmi no 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 volevo riferirmi a quel cittadino va bene va bene a quel cittadino che si è prostrato i suoi piedi consigliere Dalmas per ringraziarla perché lei è il paladino delle circoscrizioni ed è non è vero non è vero perché infatti non è vero perché volevo dire anche al consigliere Gavibo che che volevo leggere questo la mozione numero 3 del 2014 i sottoscritti consiglieri comunali volevo dire al cittadino ben informato premesso che le circoscrizioni sono ancora in essere e che nulla è stato fatto per sopprimerle che il dibattito sulla loro permanenza non ha dimostrato le ragioni in base alle quali dette circoscrizioni dovrebbero essere mantenute che l'attività delle circoscrizioni può essere ampiamente ed esorientemente svolta dagli assessorati esistenti anche migliorati nell'efficienza del collegamento con la cittadinanza che le circoscrizioni devono essere soppresse in quanto organismi esclusivamente consultivi generalmente disattesi e quindi inutili che detta soppressione garantisce un certo risparmio sulla spesa pubblica euro 170.000 circa l'anno ma anche la dimostrazione di una semplificazione dell'apparato pubblico impegnano il sindaco la giunta di indire un referendum obbligativo delle circoscrizioni facendolo possibilmente coincidere con la prossima consultazione elettorale per il Parlamento europeo firmati Francesco Giannelli Andrea Cabippo e Franco Dalmaso e Walter Rebotto viva la coerenza viva la coerenza viva la coerenza viva la coerenza poi è incomprensibile stasera 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 no ma leggiamo le premesse leggiamo le premesse le premesse volevo volevo dirlo al cittadino tanto informato legge leggi leggi le premesse dai leggi le premesse leggi le premesse leggi le premesse guardi quindi Dalmaso da lei lezioni io da lei lezioni Dalmaso non ne voglio lei quando era consuliere regionale era un consigliere non perso tutto come sono la mia consigliere Cabippo non interrompa concludo silenzio concludo 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 per dare il voto favorevole alla delibera parte del partito del gruppo democratico grazie grazie consigliere consigliere Cardin prego silenzio silenzio grazie presidente ho assistito questa sera a un dibattito veramente surreale surreale nel senso che non tanto da parte di quei consiglieri che si sono affannati a spiegare quali erano i motivi per i quali le circoscrizioni dovevano essere mantenute sono stati interventi anche molto accorati quelli del consigliere Palmisano anche molto puntuali surreale per un altro motivo perché tutto sommato chi si è tanto speso e tutto sommato dà quasi l'impressione di essere una presa di posizione dettata da ragioni incomprensibili per la soppressione delle circoscrizioni non ha dato una spiegazione del quale fosse il danno che queste circoscrizioni creavano tutti sono stati più o meno concordi nel dire che queste circoscrizioni non comportavano nessun vantaggio per la città per l'amministrazione e su questo tutto sommato c'era anche concordanza però nessuno ha mai detto quale fosse il danno che creavano e allora io qui dietro vabbè adesso è tardi sono in pochi rimasti però qua dietro nello scorso consiglio comunale ho visto almeno una ventina una trentina di persone che facevano parte di questi consigli e che tutto sommato quantomeno perché facevano parte delle loro famiglie coinvolgevano una ventina di famiglie insomma ci saranno un 200 persone 300 persone a Pordenone che hanno partecipato alla vita politica pordenonese attraverso le circoscrizioni e allora se è così che danno faceva mantenerle forse l'unico vero danno che faceva era nel fatto di andare in assoluta controtendenza con quello che è l'idea renziana della politica ovvero un verticismo un verticismo che viene ricercato a tutti i costi e che io personalmente non posso condividere io ho detto in più occasioni il governo Renzi ha fatto delle ottime cose delle ottime scelte però francamente un verticismo di questo tipo che toglie la possibilità di interloquire a soggetti che magari non portavano enormi contributi ma certo nulla toglievano francamente mi è incomprensibile oltretutto questo è riuscito a fare un'operazione questa scelta del partito democratico e del fiume è riuscita a fare un'altra operazione ovvero di svilire quello che era il senso di una maggioranza che in questi dieci anni ha sempre viaggiato unita e compatta e io credo che sia un grosso fallimento lo dico sinceramente io ho fatto parte del gruppo Vivo Pordenone nella precedente tornata amministrativa e quindi guardo con amarezza quello che è successo questa sera lo guardo guardo con amarezza perché penso che da parte di chi siede in questo consiglio comunale un po' più di rispetto avrebbe dovuto esserci perché anche quel gruppo ha partecipato a queste delibere io non ho molto altro da aggiungere noi votiamo convintamente contro a questa delibera di soppressione votiamo convintamente anche perché sinceramente è una delibera che come ha detto prima il collega Sperotto è scritta anche tutto sommato male cioè i luoghi itineranti sinceramente in italiano proprio non comprendo che cose significhino non comprendo il contentino che è stato dato al consigliere Piccinato di prevedere nella delibera consigli comunali itineranti è una delibera raffazzonata che cerca di accontentare le 21 persone che questa sera si troveranno a votarla grazie grazie consigliere consigliere Daniello prego sì allora il mio voto sarà un voto contrario in linea sono molto solidale con solidale e anche convinta di quello che ha detto Francesca Cardin la collega che mi ha preceduto amareggiata però da questo esempio di consiglio comunale perché non stiamo sicuramente a fine mandato dando un esempio e mi metto dentro anch'io di politica che guarda al domani che ha uno sguardo sulla città che ha uno sguardo a tutti i cittadini ho sentito Mara Piccin che ha raccolto 100 informazioni da 100 passanti che non conosceva beh al contrario i numeri riportati dal collega Palmisano dimostrano effettivamente ed esattamente il contrario Mara perciò 100 persone non conosciute a cui non si dice nulla di che cosa sono le circosizioni bisogna vedere in che contesto l'ha inserita la domanda comunque sì è vero è vero Francesca questo è una è in linea proprio con ciò che Renzi sta dimostrando in tutta la sua politica un verticismo e un accentramento del potere in mano a pochi e in mano a chi potrà fare politica perché ha ha tolto la possibilità di avere la giornata di riposo ai consiglieri che lavorano e ha fatto altre altre cose che di sicuro non entrano nel in una vita democratica e danno origine ad una politica degna di essere politica dal basco e politica con la P maiuscola quindi il mio voto sarà contrario grazie consigliere consigliere loro lei ovviamente in difformità sì dichiarazione in difformità prendendo atto di quello che andrete ad approvare si constata che per blindare questa delibera si è concesso l'emendamento alla Lega Nord di svolgere consigli itineranti nei quartieri per cui lo dico con un po' di ironia probabilmente non sentiremo la mancanza delle circoscrizioni perché la convocazione dei prossimi futuri consigli comunali andrà a svolgersi di volta in volta in un quartiere diverso per cui ci troveremo al posto di consigli di circoscrizione tra di noi per accontentare questa richiesta che è stata portata avanti per garantire l'approvazione di questa delibera quindi voto contrario mio del collega Passone grazie consigliere consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente beh noto che i proponenti le domande e i chiarimenti fatte ai proponenti non hanno avuto risposta da parte di un proponente chiaramente c'era poco da dire aveva poco da rispondere perché è evidente la duplicazione dello strumento che viene a fare e ha avuto una risposta francamente ironica da parte dell'altro proponente Piccinato però si confuta da solo mi viene a dire Piccinato ma tu allora perché sei contrario ai consulte non sono contrario ai consulte sto dicendo che se ci sono già le circoscrizioni è inutile fare la stessa cosa perché sono esattamente la stessa cosa vede io adesso farò solo un accenno perché l'ho detto prima non voglio rubare ho visto iscritto Franco Dalmas che non ha certo bisogno di avvocati però francamente l'uscita del capogruppo di Tomasello l'ho trovata di cattivo gusto perché era evidente a mio modo di vedere almeno così l'ho letta la mozione di Forza Italia perché la mozione di Forza Italia era una mozione che diceva due cose fondamentali diceva cara amministrazione dovevi fare qualcosa perché adesso come adesso quello che hai fatto non serve a niente allora preso atto di questo cancella le circoscrizioni io così avevo letto quella mozione l'avevo intesa poi sarà il collega Dalmas che mi seguirà nel dibattito nella dichiarazione di voto a dire com'era l'interpretazione ma io così l'avevo intesa quella mozione di Forza Italia beh francamente sì abbiamo perso una buona occasione abbiamo perso una buona occasione ripeto l'ha persa l'amministrazione prima di tutti per per dare effettività e pienezza a uno strumento di democrazia di democrazia dal basso che già esisteva e credo che abbiamo perso l'occasione di fare una buona figura di buon senso come consiglio comunale perché state facendo perché noi non ce ne assumeremo questa responsabilità state facendo un doppione state facendo un doppione malvenuto di qualcosa che c'è già ma si vede anche dall'inizio della delibera che andate a votarvi dell'attuale mandato a riprogettare forme di partecipazione barra coinvolgimento alternative virgola senza costi per l'amministrazione e qua cadete in una doppia e contorta spirale senza costi e poi siete quelli che fate dimettere i vostri consiglieri per fare gli assessori esterni e andate a centuplicare i costi e le circoscrizioni questo è l'esempio che date per fare che cosa è qualcosa che esiste già e allora mettetevi la mano sulla coscienza lasciate le cose come sono dando effettività piena a questo strumento ripeto nel modo che riterrete più opportuno condividendo la scelta con tutte le forze politiche che siedono in questo consiglio comunale mi auguro che da qui a quando si premerà il voto qualcuno ci ripensi ancora quindi il voto del nostro gruppo sarà un voto contrario grazie consigliere dalmas prego qualcuno immagina che io adesso risponda a Tomasello hai ragione hai ragione non sono stato percepito non sempre percepisco me stesso io sono il primo a non percepirmi ma guarda mi hai ferito profondamente allora intanto andiamo per ordine è chiaro l'imbarazzo che vuoi la difficoltà che avete nel PD perché tu sei costretto a fare una violenza a te stesso anzi ad utilizzare argomenti a persona anzi a domine quelli che fanno parte di quella dialettica ieristica che conosci solo in parte in base a quello hai detto il dalmas si permette qui di fare un'intemerata sostegno delle circoscrizioni quando è quello che ha firmato questa cosa qui c'è una mozione i sottoscritti del consigliere comunale del gruppo di forze italiche che ho letto prima presentata il 31 2014 firmata Francesco Giannelli Andrea Cabibo Franco Dalmas Walter Bortoli primo non c'è nessuna firma è una mozione di Giannelli una mozione di Giannelli presentata dal computer di Giannelli che Giannelli rappresenta sistematicamente in ogni in ogni consigliatura da qui da 15 anni quindi siccome tu sei arrivato da poco non sapevi questa cosa seconda questione attiene per lo più al merito il merito qual è che le conclusioni del dispositivo Giannelli impegnano il sindaco raggiunto a dire un referendum cioè non lo decide il consiglio lo facciamo decidere alla gente è già qui c'è un qualcosa che a voi ormai come partito democratico come dire poco ci azzecca e poco vi interessa questo però potrebbe apparire una difesa d'ufficio in realtà e qui dimostra ancora di più la tua poca attenzione rispetto alla precedente seduta l'intervento che feci allora l'intervento di oggi io non ho mai detto non ho mai detto che le circostruzioni in quanto tale sono un elemento un organismo un ente imprescindibile per la vita e la democrazia del paese non ho mai detto questo semplicemente vi ho chiesto a più riprese e ripetutamente e l'ho chiesto a questi due nuovi giuristi statutari che sei tu e l'altro che sta alla mia sinistra vi ho chiesto spiegatemi le ragioni per le quali volete togliere le circostruzioni non l'avete detto è un fatto economico e non l'avete spiegato ma no ti parlo frigido pacatoque animo non alzo la voce te lo dico ve l'ho chiesto in mille modi dammi delle ragioni per le quali io possa votare la tua mozione il risultato qual è stato che la mozione che avete presentato qui oggi prevede le consulte che sappiamo che non sono una riforma delle circoscrizioni ma sono altro rispetto alla riforma delle circoscrizioni e i consigli comunali itineranti questo è il dato caro Tomasello per cui sei tu che stai imbrogliando le carte perché per avere la maggioranza necessaria per uscire questa sera si è andato a prendere a carpire la buona fede che tu sai che sempre è presunta del collega ed amico Piccinato questa è la verità questa è la verità perché il resto sono menzogne autentiche e soprattutto la vostra incapacità di riuscire a spiegare perché togliete le circoscrizioni perché non l'avete detto perché non avete portato numeri non sapete argomentare perché a un certo punto è partito lui come si chiama Salvador con il regolamento dei beni comuni siete entrati in crisi tra PD e il resto della maggioranza non sapevate cosa fare questo è il tema questa è la verità per cui oggi tu porti una delibera che chiude le circoscrizioni e ci dà i consigli comunali itineranti che tutta la cittadinanza non vede allora che ciò si verifichi e sono lì saranno felicissimi saranno felicissimi e per di più usi argomenti inconsistenti apocrifi quasi nei miei confronti perché non hai seguito il ragionamento e non stai sul punto perché non stai sul punto questo è il tuo problema Tomasello non stai sul punto perché al tuo posto avrebbe dovuto rispondere la giusta questa sera dovremo sentire la sua voce e capire che cosa pensa cosa che non fa perché l'avete messa lì adesso deve preoccuparsi della campagna elettorale non sapremo mai che cosa pensa su questo punto perché per voi ciò che pensa quest'aula è assolutamente rilevante perché non vi interessa avete mistificato e tu hai mistificato un dato oggettivo A non c'è la mia firma B sono fatti completamente diversi dagli argomenti che abbiamo utilizzato D tu non hai presentato C non hai presentato nessun argomento nessun argomento non hai mai detto perché ti ho sempre detto dici perché le chiudi perché sarei stato d'accordo anche con te sarei stato d'accordo anche con te e cosa hai presentato qui veramente chiudo i consigli comunali itineranti e la bellezza delle consulte ecco questa è la tua azione riformatrice caro Fausto mi dispiace hai perso un'occasione grazie consigliere consigliere Piccin grazie presidente avrei volentieri evitato di fare la dichiarazione in difformità rispetto al collega Piccinato ma purtroppo spesso accade anzi non spesso per la verità qualche volta accade che ci siano colleghi che fanno fatica a rispettare il lavoro degli altri io invece credo che poiché qui ciascuno di noi rappresenta un piccolo pezzetto di città in qualunque posizione si trovi lo dico lo ridico l'ho già detto ma lo ripeto credo che il lavoro indipendentemente da come viene portato avanti con metodi che non posso che possono anche non essere condivisi cara collega Daniello vada rispettato e allora io prendo la parola per dire questo per dire che non ho nessuna intenzione che il mio lavoro venga minimizzato da qualcuno che ha la verità in tasca per dire che il lavoro che ho portato avanti pone la mia coscienza in piena tranquillità per dire che non parteciperò al voto di questa delibera perché è snaturata rispetto all'obiettivo principale ed è quello che ho spiegato nell'intervento perché sono contraria alle consulte perché sono contraria ai consigli comunali itineranti senza con o senza avvocati non mi interessa e per dire che la grande figura non viene comunque portata a termine rispetto a ciò che è l'operazione nel suo complesso io credo che l'ho detto prima ci doveva essere il coraggio senza se e senza ma di chiudere questa esperienza che è matura sufficientemente matura e che si conserva per le motivazioni che ho già detto nella nostra regione rispetto ad altre realtà non credo che il lavoro dei consiglieri circoscrizionali svolto fino ad ora sia stato inutile è stato svolto sicuramente nelle modalità previste e perché c'è stata la possibilità di farlo sicuramente positivo sicuramente mi rassicura la posizione di chi questa sera ha parlato e lo ha fatto per molti anni il consigliere di circoscrizione e come dire non credo che la nostra città soffrirà moltissimo rispetto a questa mancanza io la considero con tutto il rispetto per tutti coloro che hanno lavorato e per i cittadini anche che magari hanno partecipato una cosa per addetti ai lavori non una cosa per tutti i cittadini ne rimango convinta da quella da quel piccolo come dire non sondaggio ma insomma da quel piccolo da quella piccola parte di persone che ho ascoltato che io ho ascoltato senza conoscerle e questo è importante perché se fossi andata dall'amico che sta sotto o che è consigliere di circoscrizione non avrebbe avuto lo stesso valore e il fatto di non conoscerle io ho la presunzione di dire che ha valore non so nemmeno quanti anni avessero se 20 o 25 se 70 o 75 se 60 o 58 ecco perché ho preso la parola potevo fare a meno di farlo perché comunque mi sarei astenuta dal voto così come ho fatto l'altra volta perché il provvedimento alla fine risulta essere non lineare ma pasticciato grazie scusi lei ha fatto una dichiarazione di voto per il suo gruppo bene pertanto piccinato ha già parlato bene consigliere Solarino grazie grazie presidente io annuncio che mi asserrò da questa votazione perché sono di fatto arrivata soltanto stasera e si tratta di una votazione molto difficile e devo essere anche sincera che il dibattito di questa sera non mi ha entusiasmato più di tanto lo considero anche molto strumentale credo che il punto non fosse tanto circoscrizioni sì circoscrizioni no ma parlare di partecipazione ed individuare e capire perché eventualmente la partecipazione che si manifesta attraverso le circoscrizioni non è efficace e non è adeguata al contesto socioculturale ai giorni d'oggi quindi anche ripeto soprattutto perché io arrivo soltanto stasera dichiaro che mi asserò dalla votazione grazie grazie consigliere Freschi grazie presidente noi esprimeremo il nostro voto in coerenza con quanto abbiamo espresso il 18 di gennaio pensiamo che sia stata un'occasione persa per poter fare qualcosa di nuovo e di diverso ormai il destino è segnato per cui chiudiamo questa serata con un nuovo un nuovo evento speriamo che il buon senso e la ragionevolezza portino a percorsi futuri più partecipati e più condivisi il nostro voto sarà di astensione astensione in coerenza con quanto ho fatto il 18 gennaio grazie consigliere Freschi bene nessun altro iscritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione silenzio per cortesia pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 4 2016 soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale modifica dello statuto comunale e delibere conseguenti seconda votazione dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto legge la votazione della votazione seguente presenti 36 votanti 36 maggioranza 21 favorevoli 22 contrari 11 astenuti 3 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto legge la votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 22 contrari 9 astenuti 3 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene signori grazie per la serata e il consiglio verrà riconvocato a domicilio per lunedì prossimo grazie e buonanotte a tutti grazie grazie